Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti, i giorni della grande guerra, in studio Roberto Rai. È successo esattamente cento anni fa, era all'estate del 1914. E si potrebbe dire che è cominciato tutto per caso, se non fosse che è difficile dire che una guerra che ha lasciato sul campo 10 milioni di morti, che ha posto fine alla centralità politica ed economica di un intero continente, che ha prodotto una rivoluzione al suo interno, Beh, è difficile dire che una guerra di questa portata sia cominciata per caso. In realtà la grande guerra covava sotto le ceneri di altri conflitti precedenti, di tensioni risolte, tensioni politiche, nazionali, religiose. Pensiamo alla guerra franco-prussiana del 1870, alla guerra italo-turca del 1911 e alle due guerre balcaniche che l'hanno preceduta di pochi anni. Qui nei Balcani era quella che si chiama la polveriera d'Europa, con forse una facile approssimazione, ma che rende bene l'idea della difficoltà che correva questa regione, sia dal punto di vista etnico, sia dal punto di vista religioso. Un altro motivo della grande guerra sicuramente è che è scoppiata un po' come se fosse una reazione chimica incontrollata, è prodotta dalla combinazione di elementi diversi e talvolta opposti. Sono gli anni in cui esplode la modernità, gli anni in cui anche nella vita quotidiana si producono grandi progressi, grandi mutamenti d'energia, i trasporti, nelle comunicazioni, nella politica. E, d'altra parte, ci sono degli ordinamenti ancora vecchi, degli ordinamenti secolari ormai al tramonto. Qui sono visibili le crepe nelle strutture, parlo degli imperi, situazioni etniche e nazionali che non sono state risolte. E questo, appunto, soprattutto nei Balcani. Siamo nell'estate del 1914, dicevamo. Siamo alla domenica 28 giugno. Se non comincia tutto da qui, qui è la scintilla che fa nascere il conflitto. A Sarajevo, il capoluogo della Bosnia-Herzegovina, che è stata annessa all'impero austriaco solo nel 1908, anche se già prima gli Asburgo controllavano questa regione, che è a prevalenza serba e quindi che guarda al vicino stato della Serbia, che a sua volta vorrebbe ingrandirsi, mira ad essere una grande Serbia, slava, con uno sbocco sul mare e che soffre della vicina dominazione asburgica. Le guerre balcaniche hanno prodotto anche questo. Dopo la sconfitta subita dalla Turchia contro l'Italia, hanno prodotto questa lega balcanica che si è equalizzata per spartirsi gli ultimi territori ottomani della regione. Dunque Sarajevo, il 28 giugno 1914, l'arciduca Francesco Ferdinando, che è l'erede al trono asburgico, è figlio del fratello di Francesco Giuseppe. Francesco Giuseppe è ormai avviato a una forse serena, vecchiaia, ha ben 83 anni. Francesco Ferdinando nel 1951. Francesco Ferdinando, dicevo, è in visita a Sarajevo, è stato a Sarajevo per le manovre militari, sta concludendo la visita a Sarajevo con la moglie Sofia. Però a Sarajevo, quella mattina del 28 giugno, c'è anche un gruppo di giovani studenti bosniaci. Aderiscono a un'associazione, la Giovane Bosnia, e hanno in mente un gesto clamoroso, hanno in mente un attentato all'arciduca Francesco Ferdinando, alle ride al trono della monarchia asburgica. sono almeno 6-7. C'è anche un ragazzo, uno studente, si chiama Gavrilo Princip, ha 19 anni, e questo gruppo di ragazzi è stato armato da un'altra associazione segreta e terroristica serba, la chiamano la Mano Nera, che nasce dai servizi segreti serbi e poi va un po' per la sua strada. Sono armati di pistole e di piccoli ordigni di bombe a mano. Hanno anche delle piccole capsule di cianuro per il suicidio eventualmente dopo l'attentato, qualora l'attentato andasse a buon fine. Ebbene, uno di questi ragazzi, che è disposto lungo il percorso della macchina dell'arciduca, lancia una bomba contro l'auto. Ma la colpisce soltanto, l'ordigno non esplode, esplode più tardi, esplode pochi secondi dopo, vicino alla macchina della scorta, afferendo due uomini dei servizi di sicurezza, diremmo oggi, dell'Eri dal Trono Ostriaco. Grande parapiglia, insomma, questo ragazzo tenta di uccidersi con questa pillola di cianuro, ma l'effetto è soltanto un conato di vomito e viene arrestato. La macchina e il corteo dell'Eri dal Trono proseguono la visita secondo il cerimoniale. C'è un appuntamento al municipio di Sarajevo. L'arciduca è molto contrariato da questo attentato, anche perché da un lato forse era la persona meno indicata per essere vittima di un attentato, perché l'arciduca pensava in fondo a poter trasformare quella che si chiama monarchia duale asburgica, cioè il Vienna e Budapest, pensava a un trialismo in cui il terzo vertice del triangolo fosse appunto una confederazione balcanica con una relativa autonomia. Però ovviamente anche questo non era visto bene dalle autorità di Belgrado che vedevano con questa concessione morire i loro sogni di grande Serbia. Comunque, torniamo a Sarajevo. L'arciduca è molto contrariato ovviamente dall'attentato, irritato con le autorità locali e quando viene a sapere che i due uomini della scorta sono ricoverati in ospedale decide di rompere il programma della giornata, rompere il cerimoniale e andare a far visita in ospedale a questi due feriti. nel frattempo gli altri giovani del gruppo terroristico si sono dispersi, delusi del fallimento dell'attentato e Gavrilo Prinzi si sta anche lui allontanando una strada di Sarajevo quando ecco qua il caso il corteo la macchina la prima macchina del corteo che è la macchina con l'arciduca sbaglia strada e c'era stato questo fuori programma l'autista non era non conosceva bene le strade della città e si trova in una strada stretta e deve fare retromarcia l'auto rallenta Gavrilo Prinzi si trova in quel momento davanti l'auto dell'arciduca e vede una possibilità di realizzare questo attentato si avvicina spara due colpi di pistola uno ferisce a morte la moglie l'altro arriva al petto dell'arciduca la moglie Sofia si accascia sul grembo dell'arciduca Francesco Ferdinando fa appena in tempo a dirle Sofia Sofia non devi morire pensa ai nostri figli però non c'è nulla da fare nemmeno per l'arciduca muoiono entrambi Gavrilo Prinzi viene arrestato anche lui tenta maldestramente il suicidio non riesce viene fermato della folla quasi lo lincia ma poi la polizia lo porta al carcere a Vienna che succede che la notizia ovviamente arriva e mette nello sconcerto più l'opinione pubblica che la monarchia asburgica Francesco Giuseppe non era così legato a questo erede al trono che si era trovato come dire per una serie di circostanze ma non era il primo erede oltretutto Francesco Ferdinando aveva sposato questa Sofia che non veniva da una casa reale era stato un matrimonio morganatico né Sofia né i figli avevano accesso alla successione al trono erano esclusi insomma per cui anche il funerale poi sarà non un funerale di prima classe un funerale di seconda classe e comunque si pensa negli ambienti appunto del governo viennese si pensa e della monarchia si pensa che il governo serbo che Belgrado abbia qualcosa a che fare con questo attentato i primi a pensare che questa può essere un'occasione per un attacco alla Serbia sono il ministro degli esteri Conte Berthold e il capo di stato maggiore austriaco che è Franz Conrad von Ötzendorf che chiameremo d'ora in poi Generale Conrad che è il cognome non il nome il primo cognome il Generale Conrad che ha un conto in sospeso sia con la Serbia sia con l'Italia e questa figura di generale piuttosto strana molto aggressivo nei confronti ripeto dell'Italia e della Serbia pensate che già nei primi anni dieci nei primi anni ancora del novecento continuava a pensare alla necessità di una spedizione punitiva o contro l'Italia o contro la Serbia c'erano ovviamente qualche conto in sospeso con tutti e due i paesi benché l'Italia fosse in un'alleanza con l'Austria e con la Germania come vedremo ma questo odio quasi di Conrad per i due paesi aveva prodotto addirittura un suo allontanamento un suo esonero dall'incarico nel 1910-11 Francesco Giuseppe l'aveva esonerato dall'alto comando dell'esercito austro-ungarico per poi richiamarlo nel 13 anche diciamo nelle piazze Vienna Praga a Budapest si susseguono manifestazioni antiserve il console britannico a Budapest scrive proprio in questi giorni che un'ondata di cieco odio contro la Serbia e tutto ciò che è serbo si è abbattuto sul paese altrove si si dà conto di questo attentato ma non si pensa che la situazione possa precipitare che la crisi possa produrre qualcosa di drammatico in fondo in questi anni non è il primo attentato a un monarca o un capo di governo soltanto nel 1900 era stato ucciso il re d'Italia nel 1901 il presidente degli Stati Uniti nel 1903 il re e la regina di Serbia il che aveva provocato anche un cambiamento della casa dinastica a capo del regno di Serbia comunque questo odio antiserbo comincia a percorrere appunto l'opinione pubblica non solo il 30 giugno due giorni dopo l'attentato a Francesco Ferdinando il Kaiser l'imperatore di Germania Guglielmo II scrive una nota in margine a un telegramma da suo ambasciatore a Vienna sistemare una volta per tutte i serbi e subito ci sono molte molte cose in questa brevissima frase c'è da un lato l'appoggio che sembra dare il Kaiser all'alleato austriaco c'è questa postilla e subito che sembra indicare meglio fare le cose in fretta in modo unilaterale per non provocare altre reazioni è questo in fondo il senso di quello che succederà nei giorni seguenti o almeno la posizione della Germania in un primo tempo è questa sì l'Austria ha delle ragioni per sistemare la cosa ma lo faccia per conto suo e rapidamente perché questo la rapidità potrebbe ottenere un risultato altrettanto rapido potrebbe ottenere un risultato senza coinvolgere altre potenze quello che teme sostanzialmente l'imperatore della Germania è un coinvolgimento della Russia la Russia che è molto attenta a quello che succede nei Balcani Balcani che erano appunto come dicevo una regione in cui si esprimevano le ambizioni egemoniche da una parte dell'Austria dall'altra parte dei Serbi e dall'altra parte ancora dei Russi ai danni appunto di quello che rimaneva dell'impero ottomano comunque c'è questa anche in Russia c'è questa fratellanza diciamo con gli Slavi che mette la Russia appunto su una posizione di contrasto di antagonismo rispetto alle posizioni dell'impero asburgico il primo luglio Corrad il generale Corrad e il ministro degli esteri Leopold von Berthold in una nota esprimono peraltro il parere negativo di un altro personaggio importante della diplomazia e del governo austro-ungarico che è il primo ministro ungherese il Conte Tissa che è l'unico in questo gruppo di alti come dire dignitari asburgici a essere contrario a un intervento contro la Serbia proprio perché teme poi un intervento russo e dobbiamo registrare anche una certa cautela dell'imperatore l'imperatore che con la sua età ne ha viste tante insomma è al potere è sul trono dal 1848 e ha visto tante guerre non vorrebbe ripeterne una non sa quello a cui va incontro il 5 luglio l'imperatore Guglielmo II dà il suo pieno appoggio a Francesco Giuseppe è in pratica tra questi due giorni il 5 e 6 luglio che c'è la famosa carta bianca che la Germania offre all'Austria-Ungheria cioè Vienna può intervenire avrà comunque l'appoggio della Germania poi però così a darci un'idea che la situazione ancora non è così critica l'imperatore esprime questa vicinanza a Francesco Giuseppe e poi se ne parte è luglio se ne parte per una crociera nei fiordi della Norvegia che dovrebbe durare due o tre settimane passano un paio di settimane in effetti e non ci sono dal punto di vista diplomatico non si muovono grandi cose registriamo un intervento italiano e questo primo intervento italiano ci dice qualche cosa su quello che farà e come si muoverà l'Italia in questo primo anno di guerra ricordo che l'Italia entrerà in guerra soltanto nel 1915 questo 2014 è un centenario per l'inizio della grande guerra non per l'inizio della guerra italiana il 22 luglio del ministro degli esteri italiano che è Antonino di San Giuliano un nobile siciliano ben accolto nelle diplomazie europee e con una grande esperienza scrive all'ambasciatore austriaco e pone una questione pone una questione dei compensi territoriali all'Italia in caso di una guerra nei Balcani perché appunto questa situazione così curiosa così strana di alleanze in Europa vi ricordo che da una parte c'è questa alleanza franco-russa che poi comprende alla fine anche l'Inghilterra con cui la Francia aveva stretto questa la famosa Saint-Ant-Cordial da cui il nome di intesa diventa la triplice intesa una triplice intesa tra una Francia repubblicana una Gran Bretagna liberale e il regime assolutista e zarista di Mosca che appunto sarebbe difficile pensare oggi forse ancora più difficile pensare all'alleanza di cui vede l'Italia far parte che è la triplice alleanza tra la Germania l'Italia e l'Austria-Ungheria con cui l'Italia ha combattuto fino all'altro ieri le guerre d'indipendenza però appunto ricordiamo peraltro che la terza guerra d'indipendenza è stata combattuta dall'Italia a fianco della Prussia che non era ancora Germania ma ancora in Impero Tedesco e proprio contro l'Austria-Ungheria comunque i vecchi nemici insomma si trovano in questa alleanza San Giuliano non preoccupa tanto un possibile intervento dell'Italia perché un articolo del trattato della triplice alleanza prevede che nel caso uno dei paesi componenti non venga aggredito ma faccia una guerra diciamo d'aggressione sia il primo a dichiarare guerra gli altri paesi non sono tenuti a entrare in guerra ma semplicemente a muoversi su un piano di una benevola neutralità e quindi l'Italia non interverrà c'è un'altra questione che interessa però San Giuliano che è quella appunto dei compensi delle compensazioni territoriali ora una clausola appunto del trattato dice che qualora una delle potenze in questo caso ovviamente Austria-Ungheria o Italia intervenisse in qualche modo nei Balcani e acquisisse dei territori nei Balcani dovrebbero andare come compensazione pure nei Balcani dei territori all'altra potenza nel nostro caso all'Italia quindi di San Giuliano ancora non ci sono sentori di guerra però San Giuliano che evidentemente era un politico un diplomatico molto accorto comincia a porre questa questione all'ambasciatore austriaco e siamo al 23 luglio il 23 luglio 1914 questa estate europea vede un'accelerazione della crisi perché Vienna lancia un ultimatum alla Serbia in sostanza chiama in causa implicitamente il governo serbo per l'attentato di Sarajevo e chiede una serie di cose che francamente Belgrado vede molto difficile a cui vede molto difficile rispondere la condanna della propaganda antiostriaca in Serbia una commissione di inchiesta congiunta austro-serba la condanna dei militari implicati nell'attentato la cessazione delle ingerenze serbe in Bosnia non dimentichiamo appunto che una delle mire della Serbia era costruire questa grande Serbia che comprendesse anche la Bosnia e richiede come ultima clausola la partecipazione di funzionari austriaci all'indagine giudiziaria in corso a Belgrado e formulando in questo modo una netta ingerenza negli affari di un altro Stato questo ultimatum sarà giudicato molto severamente anche dalle diplomazie straniere per esempio il cancelliere dello scacchiere inglese David Lloyd George che durante la guerra diventerà poi primo ministro ne parla come del documento più duro che mai uno Stato abbia indirizzato a un altro Stato per il primo lord dell'ammiragliato che è un abbastanza giovane Wilson Churchill nel suo genere il documento più insolente che mai sia stato formulato e qui le diplomazie europee cominciano a non avere più le certezze o comunque le sicurezze dei giorni precedenti le indifferenze dei giorni precedenti e cominciano a preoccuparsi l'ultimatum di Vienna scade alle 18 del 25 luglio la mattina del 25 luglio il governo di Belgrado è riunito ed è orientato ad accettare tutte le richieste di Vienna nel frattempo però la stessa mattina arrivano delle notizie da San Pietroburgo dalla capitale russa la Russia annuncia quello che si chiama il periodo di preparazione alla guerra il periodo di preparazione alla guerra è una fase preliminare alla mobilitazione vera e propria la Russia pensa che qualcosa sia succedendo il ministro degli esteri lo stato maggiore e poi lo zar cominciano a preoccuparsi appunto per i fratelli slavi nei Balcani e per le ingerenze dell'impero austro-ungarico quando la notizia arriva a Belgrado nel primo pomeriggio viene cambiato il testo della risposta all'ultimatum austriaco Belgrado accetta tutte le condizioni dell'ultimatum di Vienna tranne una tranne la partecipazione di funzionari austriaci all'indagine giudiziarie in corso in Serbia l'ambasciatore austriaco a Belgrado appena presa questa nota di risposta lascia la capitale serba c'è il 26 luglio il giorno dopo un tentativo britannico di mediazione ma fallisce solo l'Italia risponde si dice disponibile a un tavolo di negoziato per risolvere la crisi nessun altro risponde in sostanza all'appello britannico da questo punto in poi la crisi precipita diciamo e culmina però in un giorno particolare che è il 31 luglio devo fare una piccola parentesi soltanto che ci interessa il 27 luglio in Italia il re Vittorio Emanuele III nomina nuovo capo di stato maggiore dell'esercito italiano Luigi Cadorna e ne sentiremo parlare molto nei prossimi mesi almeno dal maggio del 1915 in poi Luigi Cadorna è un ufficiale di carriera è un generale è figlio di un altro generale del generale Raffaele Cadorna che è stato un po' l'eroe insomma il comandante comunque il capo della spedizione italiana che ha riconquistato Roma della presa di Porta Pia per cui ha un po' quest'alone di leggenda intorno al suo nome è un militare di poche parole molto severo molto autorevole vedremo nel corso della guerra quali saranno i suoi pregi i suoi difetti comunque una figura molto discussa torniamo alla crisi del luglio 1914 il 28 luglio sono passati due giorni tre giorni dalla risposta serba il Kaiser Guglielmo II legge per la prima volta l'ultimatum austriaco e la risposta serba trova che le richieste austriache siano state complessivamente soddisfatte anzi ritiene la capitolazione serba tra le più umilianti mai accadute e che possa rimuovere qualsiasi motivo di guerra per una strana coincidenza alle a mezzogiorno di quel 28 luglio Francesco Giuseppe firma la dichiarazione di guerra alla Serbia ma non siamo ancora ai fatti siamo ancora appunto alla dichiarazione alle parole alle dichiarazioni che pure sono importanti questo è un po' il punto di non ritorno questo è il 28 luglio il 29 luglio succedono due cose c'è un primo bombardamento dai pontoni del Danubio su Belgrado è però un atto forse più dimostrativo che realmente bellico non ci sono gravi conseguenze c'è un fatto più importante a San Pietroburgo ancora su pressione sempre dello Stato Maggiore lo Tsar dichiara la mobilitazione parziale russa la mobilitazione parziale vuol dire che non tutto l'esercito è mobilitato sono mobilitati i distretti militari vicini al confine con l'Austria e Ungheria quindi teniamo presente che la Germania si muove anche la Germania si muove la Russia e la Germania questi sono gli attori principali da tenere presente in questa fase e vedremo anche durante la guerra solo il giorno dopo il 30 luglio ancora su pressione dello Stato Maggiore e dal Ministro degli Esteri lo Tsar dichiara la mobilitazione generale già i generali nel giorno precedente premevano per la mobilitazione generale lo Tsar si era rifiutato vi ricordo un particolare lo Tsar Nicola II e il Kaiser Guglielmo II sono imparentati perché lo Tsar per parte di moglie è imparentato con la Regina Vittoria il Guglielmo II è nipote della Regina Vittoria d'Inghilterra c'era anche questa strana coincidenza le case regnanti europee erano imparentate tra loro di più l'imperatore e lo Tsar si scrivono si scrivono in inglese e in questi giorni si scrivono telegrammi di rassicurazioni cercano di allontanare appunto lo spettro della guerra si scrivono messaggi tranquillizzanti e è questo appunto che ha fatto rifiutare allo Tsar l'ordine della mobilitazione generale il 29 luglio il 30 però forse anche per le notizie che arrivano da Belgrado forse perché in parte perché c'è stato ci sono stati anche dei contatti con la Francia c'è questa alleanza franco-russa che è importante e che vedremo quanto sarà importante anche negli effetti che produce sulla Germania una sindrome da accerchiamento di cui da anni soffre la Germania quindi il 30 luglio mobilitazione generale russa il 31 questo 31 luglio è un po' la data chiave della crisi perché succedono molte cose a Berlino intanto Berlino dichiara lo stato di pericolo di guerra che è l'analogo della stato di preparazione alla guerra russo cioè una condizione preliminare alla mobilitazione e Berlino lancia due ultimatumi il 31 luglio lancia un ultimatum a San Pietroburgo che ha una validità di 12 ore a partire dalla mezzanotte del 31 luglio al mezzogiorno del 1 agosto l'ultimatum dice che sarà proclamata la mobilitazione tedesca a meno che la Russia sospenda tutte le misure belliche contro di noi e contro l'Austria-Ungheria ovviamente la mobilitazione generale russa aveva provocato una mobilitazione anche dei distretti militari al confine con la Germania con la Prussia con la Prussia orientale e quindi chiaramente la Germania si sentiva minacciata a questo punto e bisogna dire che in questa fase le autorità si muovono mosse più dalla paura di essere aggredite che dalla volontà di da una reale volontà di aggredire il secondo ultimatum che lancia a Berlino è alla Francia chiede alla Francia di mantenere uno stato di neutralità nel caso di una guerra russo-tedesca cosa che ovviamente la Francia non avrebbe potuto fare perché era legata a un'alleanza con la Russia solo in questo ultimatum c'è una una postilla piuttosto importante perché Berlino dichiara esplicitamente attenzione la mobilitazione significherebbe inevitabilmente la guerra il primo agosto la Germania l'imperatore Guglielmo II dà ordini alle 17 per la mobilitazione generale tedesca sono interessati più di 3 milioni di militari la Russia respinge l'ultimatum tedesco alle 19 al ministro degli esteri russo Sazonov arriva la dichiarazione di guerra della Germania la Francia anche la Francia il primo agosto respinge l'ultimatum tedesco e ordina la mobilitazione generale è un clima strano che si respira in Europa a questo punto c'è una strana euforia per la guerra la guerra in qualche modo è stata come invocata e attesa come come un'esperienza collettiva di purificazione e di rigenerazione dalla corruzione dal materialismo dal conformismo si è creato appunto questo strano questo strano clima le piazze si riempiono di manifestazioni di folla che inneggia appunto alla guerra c'è una manifestazione in particolare il primo quel primo agosto a Monaco in cui in mezzo alla folla festante c'è si vede un viso conosciuto di un giovane un 25enne è Adolf Hitler che manifesta in questa piazza di Monaco di Baviera dopo essersi dichiarato apolide e austriaco era fuggito dall'Austria remitente alla leva era andato in Germania poi era stato riconsegnato alle autorità austriache e quindi si era sottoposto alla visita di leva ma l'avevano dichiarato inidoneo e quindi per spregio a questa questa decisione aveva abbandonato l'Austria e era tornato a Monaco di Baviera dove viveva un po' di piccoli espedienti e vedremo che si arruolerà di lì a un paio di settimane in un reggimento di fanteria di fanteria bavarese nelle fila dell'esercito tedesco quindi c'è questa dicevo questa euforia anche perché lo documentano anche gli intellettuali gli scrittori per esempio Stefan Zweig nel nel mondo di ieri scrive che tutte le differenze di classe di lingua di religione erano in quel momento grandioso sommerse dalla grande corrente della fraternità la guerra sembra unire in questa in questo afflato idealistico i popoli e appunto è patriottismo è fratellanza è che le divisioni sembrano sembrano sparite vedremo che sarà sarà una grande illusione sarà una grande illusione per forse non tanto per centinaia di migliaia per milioni di contadini che andranno a fare la forza degli eserciti di qui a qualche settimana a qualche giorno anzi sarà una grandissima delusione per una classe e una generazione di borghesi e di intellettuali che appunto avevano accolto in quell'agosto la notizia della guerra in questo modo la Germania ha dichiarato guerra alla Russia ma lo stesso giorno alla sera intorno alle 23 un primo contingente di truppe tedesche si muove in tutt'altra direzione non va a est verso la Russia va a ovest entra in Lussemburgo succede che inizia la guerra della Germania inizia la guerra della Germania seguendo un piano che era stato preparato negli anni precedenti da un ex capo di stato maggiore dell'esercito tedesco si chiama piano Schliffen dal nome appunto di questo generale Alfred von Schliffen e il piano Schliffen parte da una considerazione da quell'idea di accerchiamento di cui soffre la Germania la Francia da una parte la Russia dall'altra il piano Schliffen prevede quindi una rapida avanzata alla conquista di Parigi della Francia e poi in un secondo tempo una una guerra contro la Russia come avanzare su Parigi non direttamente ma aggirando Parigi accerchiando Parigi passando dal Lussemburgo dal Belgio dall'Olanda e scendendo poi da nord verso Parigi cingendo in una morsa la capitale francese poi grazie al sistema ferroviario molto avanzato tedesco una volta conquistata Parigi trasferire il massimo possibile delle truppe a est e affrontare la Russia che sicuramente ha più difficoltà nella mobilitazione perché la Russia comunque è un paese un po' più arretrato anche se ha fatto grandi progressi ultimamente con lo zar Nicola II progressi industriali però insomma conta ancora soprattutto su su un'artiglieria molto avanzata e su una grande massa di uomini che comunque è difficile mobilitare è difficile spostare è più difficile schierare il 2 agosto per mettere in pratica il piano Schliffen parte un terzo ultimatum tedesco questa volta al Belgio e si chiede al Belgio di passare di lasciare passare sul territorio belga le truppe tedesche ogni azione ostile sarà considerata un'azione nemica e quindi sarà combattuta lo stesso 2 agosto l'Italia dichiara esplicitamente la propria neutralità in base appunto all'articolo 4 del trattato della triplice alleanza che le consente una benevole neutralità se uno dei paesi dell'alleanza è attaccante e non è attaccato il 3 agosto soltanto il 3 agosto la Germania dichiara guerra alla Francia il Belgio respinge l'ultimatum a questo punto c'è un ultimatum di Londra dalla Gran Bretagna alla Germania perché la Gran Bretagna è legata da un trattato di garanzia della neutralità del Belgio che è ancora del 1839 Londra chiede alla Germania di non fare atti ostili contro il Belgio il 4 agosto la Germania invade il Belgio prima ancora della scadenza dell'ultimatum inglese e il 4 agosto altro elemento importante questo per la politica non solo interna non soltanto per la politica tedesca ma per la politica in generale del conflitto anche i socialisti tedeschi votano i crediti di guerra anche la sinistra tedesca i socialisti erano in generale per ovviamente per la pace anche l'internazionale socialista si era già pronunciata per la pace ma i socialisti tedeschi in questo momento stanno con il proprio paese che deve affrontare la guerra il pomeriggio dello stesso 4 agosto anche Londra mobilita e alle 11 della sera dichiara guerra alla Germania dichiara guerra alla Germania Londra è una posizione un po' particolare è l'unico stato che ha un esercito regolare non ha un esercito nazionale però sono 50.000 uomini al momento e vedremo che deciderà di inviarne sul continente europeo una parte in tutto sono 6 divisioni ma andrà soltanto 4 divisioni in Europa all'inizio all'incirca 30-32.000 uomini siamo sempre ai primi di agosto il 5 i tedeschi sono in Belgio e attaccano Liegi il 6 agosto un generale tedesco apre una breccia nelle fortificazioni di Liegi ed entra in città rimangono i forti all'esterno della città ancora in mano ai belgi che resistono all'invasione tedesca questo generale lo conosceremo molto bene nel corso del conflitto si chiama Erich Ludendorff non è un nobile prussiano è di famiglia borghese però è molto determinato forse non è nemmeno un grande stratega ma riesce a sfondare appunto le difese di Liegi Londra lo stesso 6 agosto decide appunto l'invio di questo corpo di spedizione per fare qualche qualche paragone pensiamo che rispetto ai 30 mila poco più uomini inglesi che vengono inviati in Europa l'Austria ha un esercito di 3 milioni di uomini la Francia di 4 la Germania di 4 milioni e mezzo la Russia di 6 milioni lo stesso 6 agosto abbiamo il primo segnale che questa è una guerra mondiale i francesi è un segnale minimo i francesi invadono Little Popo nel Togo una colonia tedesca nell'Africa occidentale il 9 agosto ancora ha una breve frase del nostro ministro degli esteri che scrive al primo ministro al presidente del consiglio Salandra ha un dubbio attaccare l'Austria l'Italia rimane ancora saldamente nella triplice alleanza con l'Austria però viene questo dubbio attaccare l'Austria io aggiungo approfittare di questa situazione testualmente San Giuliano scrive se non quando si abbia certezza o quasi certezza di vittoria è un po' un preliminare alla politica italiana in questi mesi che vedrà spesso come va il conflitto anche per decidere conquistare da che parte schierarsi sono successe già molte cose soltanto il 12 agosto torniamo come dire alle origini del conflitto l'Austria invade la Serbia come vedremo saranno dei tentativi fallimentari almeno in questa prima fase della guerra il 14 agosto si muove la Francia che anche lei anche la Francia anche i generali francesi hanno un piano è il famoso piano 17esimo ed è un attacco alla Lorena tedesca la parte più come dire difficile da digerire della guerra franco-prussiana era stata l'accessione della Sazia Lorena alla Germania la Francia ritorna sui passi di quella sconfitta e vuole entrare in Germania attraverso la Lorena riconquistare l'Alsanza e entrare in Germania fino a Reno vedremo vedremo che non sarà assolutamente così i tedeschi lasceranno un po' entrare i francesi poi contrattaccheranno e li risospingeranno nei confini francesi il 16 agosto capitola Liegi il 17 agosto dobbiamo spostarci su un altro fronte su quello che diventerà il fronte orientale della guerra i tedeschi hanno cominciato la guerra e hanno messo in pratica il piano Schlieffen pensando anche che la Russia non fosse pronta alla guerra non fosse pronta all'intervento e invece il 17 agosto due armate russe entrano nella Prussia orientale questa lingua di territorio tedesco che si affaccia sul Mar Baltico e ha al suo confine meridionale meridionale la Polonia russa due armate che entrano nella Prussia orientale con l'idea appunto di accerchiare i tedeschi della Prussia orientale e di conquistare la Prussia orientale nella Prussia orientale c'è soltanto un'armata tedesca l'ottava armata mentre ce ne sono sei ben sei in marcia in Belgio verso la Francia c'è un primo scontro nella parte nord diciamo del fronte tra l'ottava armata tedesca e la prima armata russa comandata da un generale che ha un nome di assonanza tedesca il generale Rennenkampf è una mezza sconfitta tedesca ma non è non è detto insomma è rimediabile ma il comandante dell'armata tedesca perde un po' la testa questo generale Pritwitz telefona al quartier generale tedesco che è più spostato verso il fronte occidentale e comunica al capo di stato maggiore Moltke che è un altro generale che aveva un'antenata illustre il padre era stato il generale l'eroe della guerra franco-prussiana per cui questo viene definito Moltke il giovane spesso Pritwitz telefona o comunica con Moltke gli comunica che è necessario ritirarsi ritirarsi oltre la vistola consegnando in pratica già la prussia orientale ai russi la situazione non è stata considerata fino in fondo la seconda armata russa che invece entra in prussia orientale da sud è attardata rispetto alla prima armata dovrebbe accerchiare l'ottava armata tedesca ma è attardata un po' perché era attardata volutamente per compiere poi l'accerchiamento un po' perché ha trovato un terreno difficile da percorrere e a questo punto questa armata è separata dall'altra armata da questa zona di laghi i laghi masuri che fa molte molte decide di rimpiazzare all'istante in pratica il comandante dell'ottava armata tedesca richiama in servizio un anziano generale che si chiama Paul von Hindenburg ormai in pensione e nei giorni successivi Hindenburg raggiunge il fronte orientale Hindenburg è incaricato il comando dell'ottava armata e il 23 agosto del 1914 scendono i particolari in un dettaglio che è importante alle 4 del mattino ad Hannover si incontrano alla stazione questo anziano generale che scende con la sua divisa ancora una divisa blu ancora di quando era in servizio che non si usa più e incontra l'altro generale Ludendorff che in realtà è stata la prima scelta di Moltke per il comando dell'ottava armata questa coppia sarà la coppia di ferro che governerà le sorti della guerra in Europa dalla parte della Germania Hindenburg l'anziano generale rispettato autorevole ma diciamo una figura un po' di vorrei dire quasi di rappresentanza e Ludendorff la prima scelta di Moltke questo generale che appunto ha tramutato una sconfitta in una vittoria al Diegi che ha conquistato il Diegi vengono spediti sul fronte orientale a raddrizzare la situazione sul fronte orientale nel frattempo c'è un un ufficiale molto brillante dello stato maggiore dell'ottava armata si chiama Max Hoffman che non si dà per vinto diciamo come il suo comandante Pritzvitz ha studiato un piano per attaccare la seconda armata russa visto la distanza che separa le due armate visto che la prima armata non può intervenire rapidamente in aiuto alla seconda Ludendorff approva in mente qualcosa del genere approva questo piano l'ottava armata quindi attacca i fianchi della seconda armata russa dalle parti di Tannenberg tra due villaggi Frögenau e Tannenberg in questa zona dei laghi Masuri ed è una catastrofe per questa armata russa i tedeschi dichiarano 92.000 prigionieri considerate che altre migliaia riescono a fuggire nelle foreste a ritirarsi ma questo numero sarà raramente anche soltanto avvicinato nel corso della guerra questo numero di prigionieri è una disfatta per la seconda armata russa il generale che la comanda Samsonov si allontana a cavallo in un bosco e si uccide sul campo non potendo sostenere questo disonore Hindenburg diventa l'eroe della situazione diventa un eroe nazionale Tannenberg è il nome di questa grande vittoria tedesca anche se di fatto lo scontro principale era venuto più vicino alla località di Frögenau che a Tannenberg ma quello stesso Hoffman suggerisce a Ludendorff e Hindenburg di chiamare questa questa vittoria col nome di Tannenberg perché a Tannenberg c'era stata una disfatta dei cavalieri teutonici nel 1410 sarebbe stata così vendicata nel nome di questa grande vittoria quella sconfitta pochi giorni dopo Hoffman attacca anche la prima armata russa e ne ha ragione nella battaglia dei laghi Masuri dal 7 settembre al 13 si risolve in sostanza la situazione al momento sul fronte orientale anche la prima armata di Rennenkampf viene ricacciata oltre confine in territorio russo nel frattempo c'erano altre quattro armate russe che premevano sui Carpazzi contro l'esercito austro-ungarico e comandato da Conrad Conrad non ha altrettanta fortuna anche se va incontro a un primo successo parziale ma viene duramente sconfitto dalle forze russe il 3 settembre sia il 30 agosto sia il 3 settembre poi i russi entrano a Leopoli e quindi per l'austro-ungheria non si mette bene insomma diciamo che da questo momento in poi è passato appena un mese dalla guerra gli austro-ungarici l'esercito austro-ungarico sarà sempre più dipendente dagli aiuti e dalle direttive dei tedeschi dell'esercito tedesco nella guerra anche sul piano della Serbia tenta tre volte in sostanza di invadere ma alla fine di quest'anno l'esercito austriaco sarà di nuovo all'interno dei propri confini respinto dall'esercito serbo l'esercito tedesco nel frattempo a ovest sul fronte occidentale continua l'avanzata in Belgio il 30 agosto c'è questo episodio Lovanio la città considerata la Oxford del Belgio devastata completamente distrutta i tedeschi sono particolarmente cattivi diciamo con in Belgio con gli episodi dei franchitiratori c'è una resistenza armata belga che sia con l'esercito sia appunto con questi franchitiratori appostati e ci sono rappresaglie continue anche sui civili l'avanzata tedesca in Belgio è piena di atrocità insomma il 23 agosto per esempio i tedeschi uccidono ben 612 civili a Dinan un villaggio belga comprese donne e bambini lo stesso giorno nelle Fiandre nella battaglia di Mons c'è il battesimo del fuoco per il corpo di spedizione britannico sono allora 36.000 uomini per l'esattezza che sono arrivati sul continente sono soltanto 4.000 in più degli inglesi che avevano affrontato Napoleone a Waterloo e c'è un episodio curioso in questa battaglia leggendario gli angeli di Mons è uno dei miti della della grande guerra di quelli che nascono appunto sul passaparola sarebbero apparsi dagli angeli dotati di spade vestiti di bianco tutti bianchi che avrebbero protetto la ritirata degli inglesi sconfitti appunto dai tedeschi i tedeschi non riescono a dare il colpo di grazia perché i cavalli si imbizzarriscono gli stessi tedeschi vengono annichiliti da queste visioni e si crea appunto questo mito degli angeli di Mons che proteggono la ritirata inglese altre leggende poi si creeranno anche durante la grande guerra le ultime date che vorrei segnalarvi sempre di questo agosto sono il 29 veramente guerra mondiale i neozelandesi che combattono ovviamente con l'impero britannico occupano le isole Samoa nel Pacifico dal 1900 era un protettorato tedesco il primo settembre per disprezzo alle assonanze tedesche del nome San Pietroburgo diventa Pietrogrado e per passare un'altra capitale il 2 settembre i tedeschi avanzano sulla Francia il governo francese viene spostato da Parigi a Bordeaux un milione di abitanti sono in fuga sono fuggiti o sono in fuga da Parigi il 3 settembre i tedeschi sono a 40 km dalla capitale francese abbiamo lasciato l'esercito tedesco a poche decine di chilometri da Parigi è stata un'avanzata non travolgente ma decisa ha incontrato diversi ostacoli in Belgio però è arrivato ormai quasi nel cuore della Francia è penetrato l'esercito tedesco per alcune centinaia di chilometri nel territorio francese e abbiamo lasciato però le armate tedesche sono sei in questa anpass un anpass dovuto al fatto che si è in parte deviato dalla strategia prevista dal piano Schlieffen come abbiamo visto che appunto prevedeva di aggirare la capitale francese da nord diciamo stringendola in una morsa in una presa a tenaglia la prima armata tedesca che costituisce l'ala destra la parte più a ovest diciamo dello schieramento tedesco si è un po' allontanata diciamo dalla seconda che pensate le sta a fianco quindi ha dovuto in qualche modo riprendere delle posizioni quindi avanzare non più verso sud ovest ma verso sud per riagganciarsi al resto dello schieramento tedesco in questo modo non si trova più a nord non procede da nord ovest verso Parigi come era previsto dal piano ma si trova a questo punto a nord est di Parigi e sta procedendo verso sud in questo modo si è riagganciato la seconda armata che è quella che le stava a fianco tedesca ma presta pericolosamente il fianco il suo fianco destro a Parigi alla città e all'armata francese che è a difesa della città in questo momento però siamo intorno al 5-6 settembre del 1914 il comandante in capo francese il generale Joffre è piuttosto cauto vorrebbe ritirarsi e ha cominciato il ritiro diciamo al di là della Senna per preparare con maggiore tranquillità una controffensiva c'è invece un altro generale francese Joseph Galenny che è il comandante della piazza di Parigi è un generale abbastanza anziano a suo modo pittoresco più anziano di Joffre ma si trova come dire agli ordini di Joffre che è il comandante in capo e in qualche modo in questa situazione si capovolgono un po' le posizioni Joffre il comandante che dovrebbe essere appunto l'offensivista tenete presente che in questa fase della guerra la maggior parte dei generali degli alti comandi dei diversi eserciti hanno questa impostazione molto offensiva e si troveranno a mal partito perché poi invece la guerra subito dai primi mesi sarà una guerra soprattutto di difesa e in cui le difese gli eserciti impostati sulla difensiva avranno buon gioco contro gli offensivisti dovuto soprattutto al largo impiego delle macchine da guerra delle nuove macchine da guerra delle nuove tecnologie dall'artiglieria alle mitragliatrici soprattutto e come vedremo ha una strategia difensiva che pagherà molto nel corso della guerra Gallini dicevo invece intravede questo punto sensibile nello schieramento tedesco e lui che è il comandante della piazza di Parigi quindi un generale che ha il compito della difesa sostanzialmente anzi pensate che il comandante di piazza poteva rifiutare l'ordine anche di un superiore di un attacco di un'offensiva mettendo al primo posto la difesa della piazza che gli era stata assegnata ebbene Gallini insiste con Joffre per attaccare il fianco il fianco destro della prima armata tedesca che ricordo è la prima armata comandata dal generale von Kluck è la punta di diamante di questo grande schieramento tedesco che è quasi alle porte di Parigi e poi oltre verso est si allarga insomma è forte di all'incirca un milione di uomini l'attacco viene cominciato il 5 e proseguito con maggiore forza il 6 cosa succede che ha intuito questo pericolo von Kluck sposta alcune forze della sua armata dal suo fianco sinistro quello che è collegato diciamo vicino alla seconda armata tedesca le sposta sul fianco destro per rafforzare questa parte dello schieramento sotto attacco in questo modo però quello che era già un piccolo varco che le due armate tendevano a riempire spostandosi la prima in particolare verso sud questo piccolo varco si allarga in corrispondenza di questo varco tra la prima e la seconda armata si sono ritirati nei giorni precedenti e gli inglesi e sono andati a sud ora succede che gli inglesi a un certo punto si rendono conto di questo di questo buco di questo barco che si è creato tra le due armate tedesche e fanno marcia indietro in sostanza e sono pronti a marciare ad andare a inserirsi come un cuneo in questo in questo varco nel frattempo le cose per i tedeschi sono fatte un po' difficile anche perché l'alto comando tedesco è rimasto in Lussemburgo e le comunicazioni non sono facilissime molt che il 5 manda un ufficiale un colonnello che è il capo settore informazioni dell'alto comando il tenente colonnello Richard Hensch al fronte dove sono schierate le armate e Hensch ha pieni poteri di ordinare una ritirata se ritenuta indispensabile ora Molke è in questa fase piuttosto pessimista sull'esito dell'avanzata e dell'offensiva pensa già che si possa ipotizzare una ritirata tanto da affidarne l'eventuale ordine a un tenente colonnello il 6 ci si rende conto appunto del pericolo che corrono entrambi a questo punto le armate con il possibile incunearsi del contingente inglese tra le due Hensch fa un rapido sopralluogo tra le diverse armate e a questo punto soprattutto la seconda armata comandata da Von Bülow teme un accerchiamento teme un attacco e chiede alla Hensch la possibilità di ritirarsi viene ordinato il ritiro della seconda armata succede a questo punto che in un movimento a catena la prima resterebbe isolata anche la prima armata la più forte quella che era più vicina a Parigi deve ritirarsi e ripeto a catena in un movimento a catena entra il 10 settembre 10 e 11 settembre anche le altre armate tedesche si ritirano si ritirano su un fronte di quasi 400 chilometri è in pratica la fine del piano Schlieffen è la fine dell'idea che la guerra possa risolversi in 40 giorni come era stato ipotizzato da questo momento le cose cambieranno i francesi hanno salvato Parigi direi soprattutto questo generale questo anziano generale Gallieny con questa idea di attaccare hanno salvato Parigi di attaccare oltretutto perdonate con una tattica napoleonica un po' cioè l'attacco sui fianchi dello schieramento nemico hanno allontanato i francesi hanno allontanato i tedeschi da Parigi e si deve ripensare tutto quanto la guerra non è finita non finisce qui la guerra non finisce entro Natale un particolare che si ricorda sempre di questa che passerà alla storia come la battaglia della Marna un particolare forse ininfluente nell'esito della battaglia ma che viene sempre ricordato è che il giorno 6 Gallieny mobilita i tassi parigini e i tassi parigini vengono in pratica confiscati perché è arrivato un contingente di francese nella capitale e i soldati vengono spediti al fronte vengono spediti al fronte con appunto 4-5 su ogni tassi parigino che fanno la spola a questo punto per questi 30-40 km che si separano la capitale dal fronte ripeto un particolare ininfluente ai fini della battaglia perché saranno grossomodo 5.000 i soldati mobilitati in questo modo però che dà l'idea dell'impegno e del momento critico che vive Parigi in questo inizio di settembre in questo inizio di settembre precisamente il 3 entra in scena un altro protagonista della guerra si chiama Giacomo della Chiesa e il 3 a settembre appunto è stato eletto a sorpresa Papa cardinale da pochi mesi è diventato Papa con il nome di Benedetto XV Eletto il 3 incoronato il 6 l'8 settembre pubblica la sua prima esortazione apostolica e ovviamente non può che parlare della guerra invita tutti i cattolici a pregare Dio perché allontani testuale questo flagello dell'ira con il quale fa giustizia dei peccati dei popoli vedremo ancora nel corso della guerra gli interventi puntuali e frequenti di Benedetto XV contro la guerra Benedetto XV che a un certo punto farà anche un intervento con la traccia di un piano di pace che però sarà lettera morta tra le potenze in guerra siamo ancora nel 1914 in settembre l'11 gli austro-ungarici che avevano cominciato questa guerra con grande entusiasmo subiscono una disfatta epica quasi direi nella seconda battaglia di Leopoli i russi occupano gran parte della Galizia e gli austriaci si ritirano per più di 200 chilometri dico austriaci ma l'esercito austro-ungarico è formato anche da queste diverse nazionalità dell'impero in poco più di due settimane l'Austria ha perso 400.000 uomini su 1.800.000 mobilitati e 300.000 sono morti o feriti sempre a metà settembre viene sostituito il comandante in capo tedesco il generale von Moltke con il generale Falkenhayn Moltke paga la sconfitta della Marna paga il fallimento del piano Schlieffen paga in sostanza il non aver saputo consegnare alla Germania una vittoria rapida come ci si aspettava il 21 ottobre inizia una nuova battaglia con un nome che ricorrerà con frequenza durante tutti gli anni della guerra Ipr Ipr è una cittadina belga e sulle sue colline appunto si combatte tenacemente in diverse battaglie perché ha una posizione diciamo molto molto importante dal punto di vista strategico siamo più a nord rispetto allo schieramento che abbiamo visto prima della Marna siamo appunto ancora in Belgio da questo momento in poi c'è una serie di battaglie che costituiscono la cosiddetta corsa al mare la corsa al mare è sì una corsa al mare perché i tedeschi tentano di appropriarsi dei porti della manica per tagliare le gambe ai britannici ma è anche una corsa al mare dovuta al fatto di una serie di tentati a cerchiamenti reciproci tra i due schieramenti nemici che non vanno mai a buon fine alla fine il fronte si stabilizza su una linea molto lunga però appunto i tedeschi non riescono ad arrivare al mare alla manica quindi da ottobre a novembre c'è questa battaglia si combatte soprattutto con gli inglesi i tedeschi in un primo momento sfondano poi vengono ricacciati indietro i costi sono altissimi a Ipre nella prima battaglia di Ipre muoiono soprattutto da parte diciamo della Germania tanti studenti volontari muoiono all'incirca 25.000 studenti e questa passerà appunto anche per la strage degli innocenti di Ipre nella memoria tedesca un'altra data importante siamo ancora in questo fatidico 1914 è il 29 ottobre il 29 ottobre entra in guerra anche l'impero ottomano a fianco della Germania e poi due date soltanto ancora in questo 1914 il primo novembre per dirvi l'estensione del conflitto il primo novembre si combatte una battaglia navale nell'oceano pacifico a Coronel a largo del Cile è il primo grosso scontro tra la marina tedesca e quella britannica l'ammiraglio Maximilian von Spee che è il comandante della flotta del pacifico che poi si muoverà anche nell'Atlantico la flotta dell'Asia orientale affonda due incrociatori inglesi e questa squadrone navale minaccerà e minaccia il naviglio mercantile e del trasporto truppe degli alleati lo ritroviamo poco più tardi l'8 dicembre poco più di un mese dopo nell'oceano Atlantico questa volta è la battaglia delle Falkland è ancora questo squadrone dell'Asia orientale di Von Spee che attacca Port Stanley ma senza vedersi che c'è un'altra squadra britannica che si sta rifornendo di carburante la battaglia si risolve questa volta a favore degli inglesi gli inglesi che hanno delle navi particolari sono incrociatori da battaglia sono più leggeri e veloci quindi dei grandi incrociatori corazzati tedeschi perché hanno appunto una corazza meno spessa però sono più maneggevoli più veloci e hanno soprattutto un armamento più potente lo squadrone tedesco viene inseguito dai britannici raggiunto e viene battuto i tedeschi perdono i due incrociatori corazzati due incrociatori leggeri e 2100 uomini che erano a bordo di queste navi muore anche l'ammiraglio von Spee c'è stata negli anni scusate precedenti una corsa al riarmo navale che è stata sollecitata in Germania dal potente ministro della marina von Tirpitz che era molto vicino al Kaiser che è molto vicino al Kaiser e dai primi anni del novecento la Germania ha aumentato la sua flotta per mettersi diciamo all'altezza della grande flotta inglese che per tradizione storicamente domina i mari la corsa a riarmo naturalmente si è fatta sentire anche dall'altra parte della manica Londra ha adeguato la sua flotta e è rimasta comunque come dire la prima potenza navale è rimasta all'avanguardia e la Germania ha pagato abbastanza caro questo impegno sul riarmo navale economicamente e vedremo poi nel corso della guerra tutto sommato non sarà stata una grandissima idea strategica insomma alla fine sarà soltanto una grande battaglia navale tra tedeschi e inglesi e paradossalmente la Germania si presenta alla guerra debole in quello che sarà la sua parte forte cioè nei sommergibili però presto adeguerà la sua flotta di sommergibili alla guerra come vedremo alla guerra sottomarina che sarà un po' la chiave di volta della guerra nel mare il 1914 finisce con questa occasione particolare questa strana cosa che succede sul fronte occidentale soltanto sul fronte occidentale in prevalenza dove si fronteggiano tedeschi e inglesi che hanno cominciato a costruire trincee perché la guerra assume le caratteristiche nuove di una guerra di posizione non più di una guerra di movimento e nel giorno di Natale succede questa cosa strana questa tregua di Natale che nessuno ha ordinato ma che viene spontanea appunto dalle trincee in genere parte dalle trincee tedesche soldati riescono a uscire dalle trincee e in qualche modo a fraternizzare con il nemico si scambiano sigarette qualche genere di conforto e la cosa ovviamente viene subito stigmatizzata dai comandi e non si ripeterà più per tutto il corso della guerra finisce questo 1914 che è stato già un anno terribile sui fronti soprattutto sul fronte occidentale ma anche direi sul fronte orientale perché sul fronte orientale con una maggiore possibilità di movimento delle truppe visto il terreno anche sul fronte orientale le perdite sono state enormi comunque vi ricordo che soltanto i francesi in questi mesi del 1914 hanno avuto 300.000 caduti 300.000 morti che in pochi mesi da agosto a dicembre sono più morti di quanti ne abbiano avuti gli inglesi in tutta la seconda guerra mondiale e fra l'altro 45.000 di questi 300.000 morti sono sotto i 20 anni i morti tedeschi sono stati 241.000 e anche in questo caso 99.000 avevano tra i 20 e i 24 anni per il 1915 si apre con questo diverso acquartieramento delle truppe la prima battaglia di Ypres segna la fine della guerra di movimento almeno sul fronte occidentale da questo momento in poi ci si contenderà un villaggio una collina un boschetto una strada saranno tutte piccole battaglie sanguinosissime saranno carneficine ma non saranno più grandi movimenti di truppe tranne in qualche caso verso la fine della guerra si è esaurita la spinta offensiva di tutti gli eserciti in sostanza sempre sul fronte occidentale entro la primavera del 1915 ci sarà una nuova frontiera in Europa che va da Newport in Belgio fino al confine svizzero vicino a Friburgo ed è una frontiera fatta di trincee appunto una trincea per parte trincea è un questo fossato abbastanza profondo per nascondere un uomo abbastanza stretto da costituire un bersaglio difficile per l'artiglieria nemica in molti casi fu difficile scavare perché il terreno era umido perché era roccioso perché era sassoso e allora le trincee erano più basse si scavava meno a fondo e si costruivano parapetti con terreno asportato altrove messo in sacchi le trincee poi venivano a volte rinforzate con rivestimenti di supporto in legno venivano creati sempre poi dei reticolati in filo spinato il filo spinato era stata un'invenzione di qualche decennio prima americana degli allevatori di bestiame o almeno di chi curava gli interessi degli allevatori di bestiame americani e entra prepotentemente nella guerra il reticolato di filo spinato sarà una delle principali fonti di morte di 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 sofferenza perché appunto negli assalti della fanteria contro le trincee avversarie il primo ostacolo dopo i bombardamenti ovviamente dell'artiglieria il primo ostacolo fisico diciamo che incontreranno che incontreranno la fanteria sarà sempre un reticolato di filo spinato queste trincee si ritrovano poi separate da una quella che viene chiamata terra di nessuno e la terra di nessuno sul fronte occidentale può variare tra i due e i trecento metri in alcuni punti però le due trincee nemiche sono molto più vicine arrivano ad essere a 25 25 30 metri di distanza gli spazi saranno più ampi invece sul fronte sul fronte orientale la vita in trincea è è in qualche caso confortevole nella maggior parte dei casi è terribile in qualche caso confortevole perché comunque si adattano queste costruzioni a viverci per cui arriva poi la corrente elettrica si costruiscono rifugi naturalmente erano più diciamo più fortunati gli ufficiali dei soldati della truppa rifugi sotterranei si costruiscono anche per ripararsi poi dai bombardamenti la fase terribile delle trincee avviene naturalmente nell'autunno nell'inverno quando queste trincee si allagano quando i soldati sono costretti a camminare nell'acqua e nel fango che arriva alle ginocchia e forse oltre c'era una testimonianza di una trincea nell'autunno inverno del 15 l'acqua le ginocchia le divise sono fradice e questi soldati mangiano rancio e fango sono i primi a trincerarsi sono i tedeschi addirittura c'è un ordine di von Molt che quando era ancora in carica von Molt che dal 10 settembre l'ordine dopo la ritirata della Marna è trincerarsi e tenere le posizioni e qua comincia per cui i tedeschi subito prendono alla lettera questo ordine e costruiscono veramente delle trincee molto solide credono un po' meno alla trincea i francesi perché tutto sommato Joffre conta ancora di passare presto all'attacco perché questo succede sul territorio francese e si vogliono scacciare gli invasori al più presto tenete presente che i tedeschi hanno occupato all'incirca 10 dipartimenti francesi su 90 che costituiscono l'intera Francia l'intero paese ma sono mentre gli 80 liberi sono prevalentemente agricoli questi 10 dipartimenti sono quelli in cui si trovava il grosso dell'industria manifatturiera francese e il grosso delle miniere di ferro e carbone quindi è un territorio vitale per la Francia e comunque per i 25 30 mesi successivi non cambiò molto sul fronte occidentale le posizioni grosso modo furono queste cambiarono quando i tedeschi decisero di arretrare le loro posizioni su una linea ancora più fortificata ancora più facile da difendere in questo 1915 in aprile si combatte una seconda battaglia di Ypres che è ancora più conosciuta tristemente conosciuta della prima perché il 22 aprile questo versante della guerra di Ypres i tedeschi liberano per la prima volta sul fronte occidentale i gas non è la prima volta in assoluto hanno usato i gas i tedeschi sul fronte orientale il 31 gennaio ma le temperature estremamente basse hanno praticamente vanificato i loro effetti e hanno fatto qualche tentativo anche i francesi per la verità sul fronte occidentale ma sono state cose diciamo di poco conto il 22 aprile invece a Ypres i tedeschi non usano proiettili d'artiglieria o di armi di piccolo calibro caricati con gas ma usano proprio delle bombole pressurizzate e liberano direttamente dalle bombole il cloro che è un gas asfissiante e velenoso nelle occasioni precedenti erano stati sperimentati o comunque usati agenti chimici irritanti non velenosi come questo non letali comunque la Germania all'inizio della guerra negli anni dieci del novecento aveva la leadership mondiale nel campo dello studio della produzione di coloranti e in questa industria da questo tipo di industria che arrivano il cloro che arrivano i gas pensate che l'85% dei coloranti impiegati solo nell'industria tessile proveniva dalla Germania o da fabbriche tedesche che erano attive in altri paesi a ipra c'è il commento lungimirante direi profetico di un soldato tedesco sulle conseguenze spaventose dell'attacco con i gas riusci riusciremo certamente ad attirarci le ire del mondo intero scrive questo fante anche se poi tutti finiranno per imitarci tutti i morti giacciono sulla schiena con i pugni serrati il terreno è completamente colorato di giallo le perdite del nemico sono enormi le perdite sono enormi non sarà poi così nel corso della guerra anche se per esempio il cloro lo stesso cloro ucciderà migliaia di russi in maggio sul fronte orientale non sarà così le perdite non saranno così tremende diciamo perché si correrà ai ripari cioè arriveranno le maschere antigas scomodissime non perfettamente efficienti ma che comunque salveranno salveranno molte vite e comunque sarà una corsa su questo aveva perfettamente ragione l'anonima Fante tedesco che vi ho citato sarà una corsa ad adeguarsi è una corsa al rialzo sui gas verranno impiegati i gas sempre più potenti nello stesso 1915 sempre a Ypres i tedeschi impiegheranno il fosgene che pare dieci volte più potente del cloro e i britannici useranno per la prima volta il cloro il 25 settembre sempre di questo 1915 pochi giorni dopo il 25 aprile ci spostiamo su un altro fronte della guerra che si apre che si apre in questa giornata una forza anglo-francese sbarca a Gallipoli è soprattutto britannica direi lo sbarco a Gallipoli che è una lingua di terra che chiude dal lato del Mediterraneo lo stretto dei Dardanelli lo sbarco è stato preceduto il 18 marzo da un attacco navale anglo-francese allo stretto lo stretto è minato e ha delle fortificazioni appunto sulle sponde di terra ed è dell'impero ottomano insomma attraverso lo stato di Dardanelli si passa nel mar di Marmara e poi attraverso il Bosforo nel Mar Nero l'idea di Churchill prima di altri che di altri è che la flotta britannica possa congiungersi nel Mar Nero con la flotta russa e risalendo il Danubio possa andare a colpire l'impero austro-ungarico al cuore è un un progetto che fallirà l'attacco navale si risolve quel 18 marzo non avrà alcun alcun esito e anche lo sbarco sulla terraferma sulla penisola di Gallipoli diventerà uno dei più grossi fallimenti della guerra provocherà morte e orrore anche perché saranno veramente le carneficine e da questo scontro comunque emergeranno tre nuove coscienze nazionali la turca che difende estremamente lo stretto quella australiana e quella neozelandese perché le truppe che vanno all'assalto dei Tardanelli e che combatteranno sulle spiagge dei Tardanelli sono soprattutto le truppe dei paesi dei dominion britannici dell'Australia e della Nuova Zelanda a Gallipoli è subito una carneficina i turchi difendono estremamente la penisola guidati da generali tedeschi ispirati da un turco da un giovane ufficiale turco Mustafa Kemal soltanto due giorni dopo la sera del 26 saranno si sbarcati 30.000 soldati alleati ma 20.000 saranno feriti o uccisi andrà avanti per quasi tutto il 1915 finché gli alleati dovranno ritirarsi e rinunciare al progetto di attaccare in questa zona le potenze centrali e in questa zona ovviamente l'impero ottomano ai primi di maggio pochi giorni dopo il 25 aprile c'è una grande offensiva austro tedesca tra la vista dei Carpazzi sul fronte orientale i tedeschi sparano 700.000 granate è un uso costante un impiego costante questo dell'artiglieria prima dell'attacco della fanteria comincia a questo punto questa tattica perché ormai le forze si sono trincerate e bisogna spazzare via appunto i reticolati bisogna battere con col martello dell'artiglieria le armate nemiche che sono nei rifugi nelle trincee per poi passare all'assalto dicevo 700.000 granate sulle trincee russe 140.000 russi sono fatti prigionieri in questi pochi giorni questa vittoria austro tedesca sottolineo austro tedesca perché gli austriaci hanno subito rovinose sconfitte tra marzo e aprile dalle armate russe dall'armata russa di brusi dal generale brusilov che è penetrata per oltre 20 chilometri nell'impero austro-ungarico nella regione dei carpazzi questa è in sostanza la controffensiva a cui partecipano anche i tedeschi il 7 maggio siamo sempre nel 1915 un U-Bot tedesco un sommergibile tedesco affonda una nave civile una nave si chiama Lusitania un transatlantico sta completando il suo viaggio da New York a Liverpool e a largo delle coste irlandesi viene appunto colpito e affondato da un sommergibile tedesco annegano quasi 1200 passeggeri erano circa in 2000 a bordo della nave che trasportava anche munizioni peraltro 128 sono americani l'impressione negli Stati Uniti è enorme gli Stati Uniti si sentono vulnerabili a questo punto ma mettono in guardia la Germania ma non è ancora il passo decisivo diciamo verso l'intervento degli Stati Uniti che avverrà molto più tardi però è un primo momento in cui gli Stati Uniti cominciano a pensare di non essere più soltanto spettatori in qualche modo interessati perché comunque forniscono già armi e munizioni agli eserciti alleati hanno contatti commerciali con molti paesi sono ormai una potenza economica e industriale ma non entrano ancora in campo questo avviene perché la Germania ha annunciato in febbraio la guerra sottomarina indiscriminata la prima fase della guerra sottomarina indiscriminata che verrà interrotta e poi ripresa nel 1917 la Germania ha deciso di colpire qualsiasi nave sospettata appunto di portare truppe o rifornimenti o munizioni sull'alfronte nave anche di paesi neutrali ed è una risposta al blocco navale che ha imposto la Gran Bretagna alla Germania dai subito dal 1914 intorno ad agosto settembre la Gran Bretagna ha minato alcuni passaggi fondamentali del mare del nord e con la sua flotta appunto ha imposto questo blocco ai rifornimenti anche i rifornimenti bellici ma anche i rifornimenti di materie prime per la Germania un blocco che ha subito alcune diciamo alcune strette ma in questa fase della guerra già è ai suoi massimi anche le navi mercantili dei paesi neutrali che hanno mantenuto contatti commerciali e rapporti commerciali con la Germania non possono arrivare ai porti tedeschi devono prima passare ed essere ispezionati nei porti britannici di fatto è la chiusura ai rifornimenti dall'estero anche delle materie prime dei porti della Germania la Germania soffrirà ovviamente molto questo blocco navale molte parti della popolazione civile soprattutto arriveranno in Germania alla fame negli anni successivi della guerra a causa di questo blocco navale siamo abbiamo detto al 7 maggio con l'affondamento dell'usitania in Italia il maggio del 1915 si colora di una strana tinta viene coniata un'espressione particolare le radiose giornate di maggio abbiamo perso un po' di vista l'Italia che non partecipa ancora alla guerra ma in Italia il dibattito sull'intervento è stato forte così come è stato forte l'azione diplomatica italiana l'Italia abbiamo detto ha operato sin dai primi mesi del conflitto su un doppio binario diplomatico una trattativa con gli alleati con con l'intesa cioè con Londra sostanzialmente con Londra e Parigi e una trattativa con 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 Vienna con i veri alleati perché l'Italia è stata ancora era ancora nei primi mesi della guerra nella triplice alleanza con la Germania e l'Austria Ungheria l'Italia cerca di portare a casa qualcosa da un suo eventuale impegno nella guerra e ovviamente ci sono ancora territori irredenti ci sono ancora territori che rientrano in un confine ideale italiano ma sono ancora dell'Austria Ungheria Trieste è ancora austriaca il Trentino è ancora austriaco c'è una differenza fondamentale tra le due trattative di cui forse i diplomatici o non si rendono conto o non comunque non non considerano abbastanza la differenza fondamentale è che si tratta su questi territori da una parte a prezzo di un intervento armato dell'Italia di un intervento dell'Italia nella guerra dall'altra a prezzo della neutralità dell'Italia e quindi questo con Vienna e con Berlino anche se le concessioni di Vienna e con Berlino erano inferiori a quelle che prospettavano le potenze dell'intesa e comunque facciamo un passo indietro dobbiamo arrivare ad aprile il 26 aprile del 1915 l'Italia firma con l'intesa quello che passa alla storia come il patto di Londra non l'abbiamo detto prima lo diciamo in qualche modo tra parentesi adesso perché il patto di Londra è un patto segreto hanno condotto le trattative il presidente del consiglio Salandra e il ministro degli esteri Sonnino di questo patto sono a conoscenza loro forse nemmeno i ministri del governo e sicuramente il re Vittorio Emanuele III non è a conoscenza il Parlamento non ne sono a conoscenza altre persone viene siglato il patto con Inghilterra Francia e Russia l'Italia si impegna ad entrare in guerra a fianco dell'intesa entro un mese dal 26 aprile e avrà come ricompensa diciamo nel caso di vittoria nella guerra riotterrà il Trentino e il Tirolo fino al Brennero otterrà Trieste Gorizia gran parte dell'Istria la Dalmazia settentrionale con alcune isole nell'Adriatico un protettorato sull'Albania una sfera di influenza nell'Anatolia sconfitta una volta sconfitta appunto anche l'impero ottomano e parte come ulteriore compensazione parte delle colonie tedesche in Africa dunque l'Italia rompe con l'Austria e Ungheria e si appresta ad entrare in guerra con l'intesa però nel frattempo dibattite forti in Italia alzano la voce soprattutto gli interventisti anche se forse la maggioranza del paese dobbiamo chiamarla maggioranza silenziosa la maggioranza del paese è per la neutralità sicuramente giolitti i giolettiani sono per la neutralità i cattolici erano per la neutralità i socialisti per la neutralità ma cresce dobbiamo dire a posteriori inaspettatamente cresce stranamente questa questa voce che chiede un intervento all'Italia cresce inaspettatamente perché nel frattempo abbiamo visto che tutte quelle illusioni tutte quelle grandi speranze e tutti quei motivi che avevano portato il resto dell'Europa alla guerra si erano infranti contro i cannoni di una parte dell'altra si erano infranti nelle trincee si erano infranti a questo punto anche contro queste nuvole di gas che uccidevano quest'arma nuova nessuno più forse sul fronte occidentale sul fronte orientale credeva nella guerra come rigenerazione come ancora si crede in Italia soprattutto sono gli intellettuali alcuni intellettuali che i borghesi che appunto hanno questa questa spinta a pensare alla guerra come rigenerazione naturalmente c'è forte una parte che vede la guerra come un'ulteriore guerra di indipendenza una guerra per per ottenere le terre le terre che spettano all'Italia è abbastanza sintomatico in questo andamento sulla guerra interventisti neutralisti è abbastanza sintomatico il percorso che fa un giovane socialista ma già molto apprezzato già in una posizione di leadership in pectore quasi del partito dopo che nel 1912 ha sconfitto l'ala riformista che infatti se n'è andata dal partito e la posizione di Benito Mussolini che è il direttore dell'Avanti e che è neutralista sulle prime e poi diventa invece interventista questo ancora negli scritti del 1914 nel in maggio vi ricordo soltanto alcune date il 5 maggio Gabriele D'Annunzio a quarto inaugura un monumento ai mille e D'Annunzio è appena tornato alla Francia dove era andato dove era scappato in sostanza per i debiti che aveva in Italia ed esalta la guerra l'11 maggio Mussolini che dirige ora il popolo d'Italia che è assolutamente interventista ha avuto anche dei finanziamenti dalla Gran Bretagna e dalla Francia scrive che per la salute dell'Italia bisognerebbe fucilare dico fucilare nella schiena qualche dozzina di deputati e mandare all'ergassolo un paio almeno di ex ministri e qua Mussolini le parole di Mussolini suonano abbastanza anche in questo caso profetiche perché scrive di ritenere che il Parlamento in Italia sia il bubone pestifero che avvelena il sangue della nazione occorre estirparlo questo Parlamento che si ritiene al momento siamo all'11 maggio ancora in maggioranza neutralista ricordo che Giolitti l'anziano leader che aveva tenuto in mano il governo del paese per un quindicennio l'anziano leader scriveva una lettera ricordava una lettera che si era compito della corona come dire la dichiarazione di guerra l'entrata in guerra del paese ma era il Parlamento che doveva votare poi i crediti di guerra cioè doveva votare dare sì o no via libera alle spese per affrontare per affrontare la guerra il 12 maggio Giolitti è a Roma e riceve in casa 320 biglietti da visita e lettere di altrettanti parlamentari in segno di solidarietà alle sue posizioni neutraliste quindi siamo ancora con appunto il Parlamento che è in una posizione contraria all'intervento e a questo punto si scatenano a questo punto o comunque in questi giorni si scatenano con una violenza verbale avete già visto un saggio in Mussolini incredibile gli interventisti in Italia ci sono state alcune manifestazioni anche neutraliste organizzate dai socialisti ma sono forti soprattutto le manifestazioni interventiste il 15 che avvengono soprattutto a Roma e Milano il 14 maggio il 15 maggio addirittura sentite cosa scrive Ardengo Soffici sulla cerba l'ignobile losco vomitativo giolitti gli analfabeti dell'avanti i preti i giornalisti venduti la melma fetente universitaria professorale filosofica erano stati dico tra parentesi anche attaccati alcuni docenti della sapienza Roma la ciormaglia cancrenosa babosa laida del senato con che moneta pagheranno quando l'Italia raggiunta rispetto dalla loro vigliaccheria infamia i suoi fini di nazione civile e fatta per l'avvenire troverà il momento di fare i conti con essi quanto pagheranno queste persone il 20 maggio la camera vota vota la concessione dei pieni poteri al governo in caso di guerra e sono 407 voti a favore 74 contrari un astenuto soltanto i socialisti votano contro si è dileguata e svanita nel nulla quella maggioranza neutralista che soltanto otto giorni prima aveva espresso la sua idea con Giolitti il 23 maggio il re firma la dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria all'alba del 24 maggio 1915 l'esercito italiano varca la frontiera sull'Isonzo iniziano le ostilità contro l'impero austro-ungarico attenzione l'Italia ha dichiarato guerra soltanto all'Austria-Ungheria non alla Germania entro luglio perché a questo punto l'esercito non è ancora pronto in pieno per la guerra la mobilitazione sarà completata soltanto in luglio e saranno impiegati sul fronte italiano 1.058.000 soldati e 31.000 ufficiali il fronte italiano si può dividere in tre parti c'è un saliente trentino ricordiamoci che il trentino era un cuneo austriaco tra Lombardia e Veneto importante difficile da attaccare ma importante perché da qui il trentino austriaco precludeva diciamo o almeno rendeva difficile un'offensiva sul fronte orientale quello dell'isonzo perché avrebbe potuto appunto gli austrici avrebbero potuto poi prendere alle spalle insomma le armate italiane che fossero passate eventualmente dal fronte orientale quindi il trentino il cadore la carnia e la valle dell'isonzo da Tolmino al mare una serie di altopiani che consentivano l'attacco più delle cime ovviamente alpine ma che erano anche più facilmente difendibili ed erano in qualche in molti parti già trincerati dagli austriaci c'è una piccola una breve avanzata iniziale appunto quando superano i confini politici diciamo dei due paesi ma poi anche sul fronte italiano è una guerra di trincea ed è una guerra di trincea anche più difficile di molte altre zone del fronte di molti altri fronti perché è una zona montuosa e sarà una guerra dura combattuta per una cima che verrà presa e ripresa dal nemico e costerà sempre molte molte vite umane soltanto nel corso del 1915 si svolgono quattro battaglie dell'isonzo quindi quelle che vengono definite battaglie dell'isonzo allora il comandante supremo italiano cadorna individua nel lisonzo comunque la zona in cui l'esercito potrebbe sfondare l'esercito italiano dovrebbe sfondare sfondando sul fronte orientale dell'isonzo l'esercito avrebbe poi la via libera ovviamente a trieste alla piana di lubiana e in prospettiva a vienna la capitale austriaca niente niente di più illusorio in tutto il corso della guerra la prima battaglia dell'isonzo si combatte dal 23 giugno al 7 luglio gli obiettivi sono Gorizia e il monte San Michele l'attacco viene respinto le perdite italiane sono di 15 mila uomini seconda battaglia dell'isonzo dal 18 luglio al 3 agosto altri combattimenti furiosi per conquistare Gorizia che è fortificata ma è un passaggio obbligato per l'ubiana guadagni territoriali minimi e altre forti perdite italiane arrivano 67 mila le perdite italiane tra morti e feriti nelle prime due battaglie dell'isonzo si avvicina l'autunno terza battaglia dell'isonzo dal 18 ottobre al 4 novembre sono attacchi e contrattacchi anche all'arma bianca sul San Michele e sul Seibusi sul Calvario e sul Sabotino tutti gli assalti falliscono altre 60 mila perdi italiane 11 mila morti alcune brigate sono praticamente annientate ho detto di attacchi all'arma bianca che non saranno comunque alla fine della guerra facile da difendere come dire la prima causa di morte anzi nella prima guerra mondiale si è combattuta ancora in qualche caso con le baionette ghiassate venivano portati appunto con le baionette poi addirittura in alcuni casi con mazze ferrate avevano gli eserciti austriaco e tedesco ma i morti diciamo all'arma bianca i morti nel contatto fisico tra i due fanti nemici costituiscono soltanto l'1% delle cause di morte durante la guerra il 70% all'incirca è dovuto ai colpi dell'artiglieria nemica infine dal 10 al novembre al 5 dicembre si svolge la quarta battaglia dell'isonzo a pochi giorni dal termine della terza Cadorne insiste l'offensiva è condotta su tutta le linee del fiume e i combattimenti più intensi ancora una volta sono a Gorizia e sul Carso Gorizia viene bombardata pesantemente riporta danni gravissimi i risultati sono quasi nulli anche questa volta e le perdite italiane arrivano a 49.000 uomini gli austriaci ne perdono all'incirca 25.000 quella che Cadorna o comunque gli ufficiali italiani chiamavano la spallata iniziale subito dopo la dichiarazione di guerra quella del maggio maggio-giugno diciamo non ha avuto praticamente esito e forse non si è approfittato abbastanza del fatto che comunque gli austriaci non erano poi pienamente pronti nemmeno loro alla guerra le difese non erano ancora fortificate come invece poi rapidamente sono state sono state trincerate fortificate e oltretutto gli austriaci hanno potuto diciamo scegliere la linea difensiva migliore la linea difensiva che più si confaceva ai loro ai loro bisogni il 1915 quindi per l'Italia si chiude con un nulla di fatto l'Italia è entrata in guerra ma anche questo forse è nella visione globale del conflitto forse è l'unico dato positivo per l'intesa cioè che si sia aperto un altro fronte e con un nuovo alleato che alleggerisca un po' che possa alleggerire un po' la pressione delle potenze centrali sugli altri fronti torniamo un momento indietro al 12 ottobre perché c'è un episodio che riguarda una singola persona in Belgio ma è un episodio importante che avrà gravi conseguenze un'infermiera britannica Edith Cavell viene giustiziata dai tedeschi perché è accusata di aver favorito la fuga di alcuni militari belgi alleati in Olanda Edith Cavell subisce un processo non si giustifica nel senso che ammette la propria colpa non ritenendo una colpa e viene giustizzata insieme a un altro belga Edith Cavell diventerà intanto un simbolo perché l'episodio susciterà orrore nelle opinioni pubbliche inglese americana francese e diventerà un po' anche un simbolo delle donne in guerra perché già a questo punto della guerra le donne sono impiegate sono occupate nell'industria soprattutto operai nelle fabbriche di armi e munizioni sono telefoniste autiste nei trasporti pubblici e hanno hanno uno status diverso nonostante non abbiano ancora molti diritti politici che hanno i maschi hanno uno status diverso e riconosciuto sia in Gran Bretagna sia in Francia sia in Italia nei paesi in guerra l'anno si chiude dicevo con soltanto delusioni per gli alleati il 18 settembre i tedeschi sono arrivati a Vilnius all'attuale Vilnius in Lituania un'offensiva spettacolare che in poco tempo la Russia ha abbandonato la Polonia la Lituania gran parte della Galizia parti della Lettonia e della Bielorussia ha avuto quasi un milione tra morti feriti dispersi 750.000 prigionieri i tedeschi hanno percorso da maggio quasi 480 km il 5 ottobre si è aperto un nuovo fronte in Grecia a Salonico gli alleati tentano di prendere diciamo i Balcani di aiutare i serbi e di penetrare nel nord dei Balcani da sud non ci riusciranno mai sarà un altro bagno di sangue un altro fallimento il 1915 finisce con questi successi tedeschi e con comunque lo stallo sui vari fronti sul fronte occidentale sul fronte italiano dove si combatte ma i fronti non si spostano vedremo nel 16 le nuove battaglie e altri fronti anche più lontani dall'Europa in cui si combatteranno altre battaglie e come si si muoverà la guerra questo altro anno il 1916 è un anno di grandi battaglie di grandi battaglie che durano anche per molto tempo e il germe di queste battaglie è ancora nel 15 nel dicembre 1915 il 6 dicembre si trovano i comandanti alleati a Chantilly in Francia al quartier generale francese e decidono la pianificazione della condotta della guerra nell'anno successivo appunto per il 1916 decidono una serie di attacchi che dovranno essere sincronizzati per far sì che gli eserciti nemici di Germania e Austria non possano spostare riserve da un fronte all'altro da un teatro all'altro della guerra pianifica anche la Germania però il 25 dicembre il giorno di Natale il capo di stato maggiore Falkenheim scrive una lettera al Kaiser all'imperatore Guglielmo II in cui prospetta l'ipotesi di un attacco in grande stile contro i francesi Falkenheim ha individuato nell'Inghilterra scusate il nemico principale della Germania l'arci nemico ebbene in questo momento per battere l'Inghilterra bisogna affrontare la sua è un'espressione di Falkenheim la sua spada migliore cioè la Francia e l'obiettivo di Falkenheim è non tanto di una nuova penetrazione nel territorio francese ma quello di impegnare i francesi in una battaglia che riesca a dissanguare le sue forze armate e individua Falkenheim anche il luogo che è un po' un luogo simbolo per la Francia e il luogo della battaglia che è Verdun ma come arrivano nel 1916 vediamo almeno gli alleati sui campi di battaglia abbiamo visto che alla fine c'è una situazione un po' di stallo sui diversi teatri di guerra ma i paesi nelle retrovie diciamo si attrezzano per i combattimenti l'inizio del 15 per esempio aveva segnato un momento di crisi sulle munizioni mancavano le munizioni l'industria bellica comincia a marciare a un ritmo molto più elevato l'Italia per esempio nel corso del 1915 dall'inizio del 1915 all'inizio del 1916 vede passare i suoi effettivi da un milione a un milione e mezzo di uomini la Russia nonostante le grandi perdite il numero esorbitante di prigionieri nella battaglia di Gorlice e Tarnow nella primavera del 16 ha comunque due milioni di uomini in armi e un'impressionante espansione industriale per esempio le munizioni per l'artiglieri da campagna che nel gennaio del 1915 erano 358 mila la produzione passano a un milione 500 mila in novembre anche la Francia registra un grande incremento dell'industria bellica le donne soprattutto sono mobilitate per il lavoro in fabbrica sono passati da 18 mila che erano nel 1915 alle 105 mila nell'estate del 1916 l'incremento maggiore di uomini al fronte però è della Gran Bretagna il Regno Unito nella primavera del 1916 avrà 70 divisioni impegnate 10 volte di più rispetto al tempo di pace rispetto al momento in cui il Regno Unito è entrato in guerra e questo perché comunque la Gran Bretagna era l'unico paese che aveva un esercito regolare con una ferma di 7 anni e però limitato ovviamente numericamente i volontari in Gran Bretagna rispondono all'appello del ministro della guerra Kirchner che li ha sollecitati con il famoso manifesto che poi sarà ripreso anche nella seconda guerra mondiale dagli Stati Uniti direi a colpi di 100 mila alla volta nel corso della guerra ci sono queste grandi campagne di arruolamento e oltretutto il governo inglese sceglie una strada particolare cioè i colleghi di lavoro gli abitanti di una stessa città a volte anche di un quartiere andranno in guerra insieme per cui si creano questi battaglioni che sono molto omogenei di persone che si conoscono di volontari che lavoravano anche nella vita civile fianco a fianco e naturalmente questo poi vedremo nel corso soprattutto nel corso del 1916 che un'intera generazione morirà sui campi di battaglia del fronte occidentale abbiamo lasciato quindi i due grandi schieramenti in dicembre con dei programmi naturalmente non sapevano esattamente i programmi l'uno dell'altro potevano intuire qualche cosa ma non i due schieramenti non conoscevano i piani delle altre potenze e i primi a intervenire nonostante appunto la programmazione di questi attacchi di queste offensive da parte alleata che in genere venivano fatti per la primavera estate non si pensava tanto all'inverno i primi a intervenire sono i tedeschi verdant è una cittadina fortificata con una cerchia di forti al suo esterno alcuni molto famosi per appunto per le loro capacità di difesa ma è considerato tutto sommato un settore tranquillo dai francesi ovviamente i tedeschi schierano in modo abbastanza così segreto un'armata più altre dieci divisioni e un'enorme concentrazione di artiglieria arrivano ad avere quasi 600 cannoni pesanti e 30 di questi cannoni pesanti sono da 420 e 305 millimetri sono gli stessi che hanno praticamente raso al suolo i forti belgi durante l'avanzata del piano schliffen hanno una riserva di 2 milioni e mezzo di proiettili il 21 febbraio del 1916 i tedeschi iniziano un pesantissimo bombardamento su un fronte di 12 chilometri il giorno successivo c'è l'assalto tedesco in un paio di giorni tutta la zona della trincea francese più esterna è sopraffatta il 25 febbraio cade forte Tuomont è considerato uno dei meglio difesi al mondo la cosa strana è che in qualche modo strana è che i francesi scelgono di resistere nonostante abbiano alle spalle di Verdun un terreno irregolare e boscoso che sarebbe stato molto più adatto alla difensiva i francesi scelgono di resistere proprio come voleva come vuole Falkenheim che vuole impegnarli in una battaglia fino alla morte lo stesso 25 febbraio però arriva a Verdun un generale Philippe Petain che non crede da sempre direi nella dottrina dell'offensiva è un difensivista proprio all'inizio della guerra aveva 58 anni ed era ancora colonnello proprio per questo fatto farà una rapidissima carriera nel corso del conflitto arriverà a comandare l'esercito francese nel corso del conflitto e poi Petain avrà anche un futuro oscuro diciamo negli anni successivi nella seconda guerra mondiale sarà lui alla guida della Francia collaborazionista di Vichy ebbene Petain in questo momento individua subito due elementi essenziali per la difesa della città e del forte di Verdun da un lato la necessità di coordinare meglio l'artiglieria dall'altro quello di aprire una linea di rifornimenti l'unica strada per alimentare il fronte la cittadina più importante diciamo era una cinquantina di chilometri di distanza viene riservata ai camion che portano appunto i rifornimenti all'inizio sono 3500 per trasportare 2000 tonnellate di materiale al giorno ebbene alla fine di questa campagna saranno impiegati 12.000 camion i soldati che arrivano i rinforzi che arrivano vengono fatti marciare ai lati della strada la strada viene lasciata proprio soltanto i camion se un camion in avaria viene sospinto fuori il traffico deve scorrere nel modo più veloce possibile questa strada sarà chiamata la voie sacre la via sacra per la resistenza francese e Verdun diventerà il simbolo della resistenza francese in questo conflitto il 27 febbraio i tedeschi registrano nessun successo in nessun luogo dopo la prima spinta della spinta del primo assalto siamo di nuovo alle trincee siamo di nuovo fermi siamo di nuovo in una situazione di stallo ma la battaglia non si arresta il 6 marzo i tedeschi attaccano anche sulla riva occidentale della Mosa Verdun è a sud della Mosa che corre direi quasi orizzontalmente al di sopra di Verdun ebbene i tedeschi scelgono di allargare il fronte e di attaccare anche sulla sulla riva occidentale sfondano ma subiscono il contrattacco francese pensate che in marzo nel mese di marzo le rovine ormai del villaggio di Voce era un famoso forte in questo villaggio passano 13 volte di mano tra tedeschi e francesi la battaglia a Verdun in furia con gravi perdite da una parte e dall'altra ma siamo in marzo e dobbiamo spostarci sul fronte italiano l'undici Cadorna sferra la quinta battaglia dell'Isonzo che comincia proprio su richiesta dei francesi che temono il trasferimento di truppe austriache sul fronte di Verdun anche qui le posizioni si prendono e si perdono San Martino del Carcio è conquistato solo per poche ore dai fanti italiani dopo cinque giorni è la neve a imporre uno stop alle ostilità in pochi giorni tra morti e feriti gli italiani hanno perso 16.000 uomini ma la guerra in Italia non è soltanto sul fronte orientale sul fronte dell'Isonzo il 14 febbraio per la prima volta è stata bombardata a Milano le bombe austriache sono cadute a Porta Romana e a Porta Volta hanno fatto 12 morti diciamo pochi nell'economia della guerra ma è la prima volta che viene bombardata a Milano finora sono state soltanto alcune città sulle coste dell'Adriatico e Verona in Italia continua anche la guerra in montagna sulle montagne nelle altre parti del fronte alla fine di marzo sulle Alpe Carniche battaglia anche sotto una tempesta di neve il 17 aprile una mina italiana fa addirittura saltare la cima del Col di Lana che era controllato dagli austriaci crollano 10.000 tonnellate di roccia metà della guarnigione austriaca muore metà viene fatta prigioniera gli italiani conquistano questa vetta ma non ottengono quello che cercavano che era un controllo del corridoio verso il Trentino troppo distante non basta non basta questo questa questa azione demolitoria della montagna addirittura non sarà non sarà la prima nel corso della guerra siamo dunque in aprile e dobbiamo spostarci in altri teatri di guerra ma non solo non solo perché il conflitto in qualche modo forse indirettamente produce anche come vedremo poi nel 17 produce anche dei moti popolari delle rivolte rispetto all'ordine costituito dobbiamo spostarci in Irlanda il 24 aprile accade questa rivolta di Pasqua i nazionalisti irlandesi e repubblicani si ribellano all'autorità inglese gli insorti marciano nel cuore di Dublino prendono il palazzo della posta il tribunale e altri edifici di pubblico interesse definiscono addirittura i tedeschi valorosi alleati la rivolta dei nazionalisti irlandesi è domata in una settimana con numerose vittime sempre in aprile il 26 dobbiamo parlare della diplomazia segreta in segreto due diplomatici uno britannico e uno francese Mark Sykes e François Georges Picot definiscono i contorni di un accordo per la spartizione del Medio Oriente e sarà proprio su questa traccia che evolverà la situazione poi in Medio Oriente direi quasi fino in giorni nostri alla Francia andrà la costa libanese siriana a Londra il porto di Haifa che vuol dire il controllo della Baia dove affluisce il petrolio dai pozzi del Medio Oriente eppure il controllo sulla Mesopotamia del Sud cioè su Bassora su Bagdad in sostanza sui pozzi di petrolio abbiamo visto l'interesse di Londra per il petrolio anche perché in gran parte del naviglio bellico inglese a questo punto è alimentato a nafta non più a carbone sempre in aprile qui andiamo proprio su un fronte di guerra in Mesopotamia il 29 aprile si arrendono ai turchi dopo 147 giorni di assedio terribile le forze anglo-indiane di Qut Qut è questa cittadina nell'attuale Iraq centro-orientale sulle sponde del Tigri si erano rifugiati qui pressati appunto dall'esercito ottomano i britannici con forte contingente indiano e l'assedio è stato drammatico con gli indiani per esempio che sono arrivati a mangiare i cavalli cosa che non avrebbero mai fatto a nutrirsi di oppio per per moderare i morsi della fame comunque i 10.000 britannici di Qut hanno esaurito da tempo il cibo e anche l'acqua e quindi sono costretti ad arrendersi cominciano una tragica marcia sotto il sole con pochissima acqua che li porterà fino a Baghdad dove arriveranno il 18 maggio in condizioni saranno tenuti in condizioni di prigionia estrema e ne moriranno migliaia torniamo sul fronte italiano però a questo punto perché il 15 maggio il generale Conrad ordina un'azione gli austriaci finora sono stati sulla difensiva su tutto il fronte italiano il generale Conrad ha un conto in sospeso con gli italiani come come con i serbi è quel generale è il capo di stato maggiore che già negli anni dieci sollecitava un'azione di forza nei confronti degli italiani quasi una spedizione punitiva e spedizione punitiva si chiama almeno viene chiamata dagli italiani strafexpedition quella che comincia il 15 maggio sugli altipiani in Trentino una massiccia offensiva austriaca tra il lago di Garda e il corso superiore del Brenta preceduta da un bombardamento senza precedenti sul nostro fronte Corrand in sostanza vuole prendere alle spalle il grosso dell'esercito italiano schierato sul fronte orientale sull'isonzo obbligarlo alla ritirata e nello stesso tempo dilagare nella pianura veneta il successo iniziale è travolgente la linea italiana è troppo avanzata troppo impostata sull'offensiva Cadorna ne è consapevole ma se ne è accorto tardi ha rimosso ai primi di maggio il generale il comandante della prima armata l'ha sostituito ma non si è fatto in tempo i segnali c'erano un po' di questa possibile offensiva austriaca ma non si è fatto in tempo a operare il rischieramento degli italiani su questo versante del fronte gli austriaci penetrano per la prima volta nel territorio italiano e questo ovviamente fa una grande impressione nel paese il 16 maggio e il giorno dopo occupano la valla Garina sulla riva sinistra dell'Adige i giorni successivi i timidi diciamo contrattacchi italiani vengono respinti in Val Sugana e vi sono assalti austriaci quotidiani il 28 maggio dopo giorni di violentissimi combattimenti gli austriaci occupano Asiago e Arsiero da dove minacciano la pianura vicentina Cadona cerca di organizzare la difesa ma ricorre anche alle maniere forti ordina fucilazioni senza processo in un caso specifico il proprio il 28 maggio per un gruppo di militari messi in fuga dagli austriaci ordina ai comandanti dei corpi la massima severità nel caso appunto di fuga davanti al nemico il 2 giugno gli austriaci che sono avanzati quasi ovunque e hanno guadagnato una ventina di chilometri oltre le posizioni iniziali cominciano ad avere qualche problema per i rifornimenti abbiamo visto che succede quasi sempre così nelle avanzate poi quando si allunga troppo la linea di attacco si creano problemi con le retrovie ma questi problemi non incidono sulla portata della fino a questo momento del successo dell'avanzata austriaca intanto che il 10 giugno cade il governo Salandra gli succede come primo ministro Paolo Boselli che è un politico anziano a 78 anni e guida un governo di unità nazionale nel governo sono stati chiamati due socialisti riformisti un repubblicano e un cattolico Cadorna nel frattempo costituisce una nuova armata con alcuni corpi presi dall'isonzo altri fatti rimpatriare dall'Albania e dalla Libia a difesa della pianura vicentina e come arma per una eventuale controffensiva il 16 giugno Conrad sospende l'avanzata sospende l'avanzata degli austriaci per naturale fisiologico logoramento delle truppe e anche perché gli austriaci hanno bisogno di rinforzi su un altro fronte sul fronte orientale sul fronte orientale è in atto una grande offensiva vedremo poi che in giugno verso la fine di giugno le truppe austriache in Italia ripiegheranno su una linea più idonea alla difensiva una linea intermedia tra le posizioni dell'ultimo attacco delle posizioni raggiunte il 16 giugno e quelle iniziali la strafe expedizione è costata agli austriaci 28.000 uomini tra morti e feriti agli italiani che si difendevano 35.000 ma Cadorna sta già pensando a una controffensiva dicevo che a metà giugno gli austriaci hanno bisogno di truppe sul fronte orientale questi sono un po' gli effetti di quegli attacchi contemporanei insomma sui diversi fronti che avevano pianificato gli alleati in dicembre a Chantilly ricordiamoci che è in corso ancora la battaglia a Verdun è partita questa offensiva austriaca ma nel frattempo sul fronte orientale ci sono grandi movimenti i russi hanno tentato un'offensiva in marzo nella parte settentrionale del fronte orientale quella in cui sono più impegnati i tedeschi in marzo i russi hanno una schiacciante superiorità numerica che per ora non riescono a sfruttare vogliono riconquistare l'attuale Vilnius si chiama Vilno allora nella Polonia orientale ma vengono sconfitti dai tedeschi non succede questo nella parte meridionale del fronte orientale dove sono impegnate le armate austro-ungariche il 4 giugno quattro armate russe attaccano gli austro-ungarici in questo settore del fronte hanno sì una superiorità numerica ma non eccessiva non nei termini del del diciamo del fronte tedesco sono di poco superiori ma il l'esito della battaglia a sorpresa è devastante l'offensiva è stata richiesta anche da Cadorna che si sentiva in difficoltà appunto in Italia e i russi sono in questo settore sono comandati da un generale Alexei Brusilov che parte con un grande bombardamento con un possente tiro d'artiglieria in un solo giorno fa 26.000 prigionieri austriaci in 8 giorni saranno 190.000 i prigionieri l'avanzata russa è quasi senza freni gli austriaci si arrendono per per paura quasi non combattono in questo momento comincia a cedere anche la coesione di questo esercito che è un esercito multietnico i tedeschi sono costretti a inviare rinforzi Brusilov manterrà la pressione sugli austriaci anche nei mesi in tutti i mesi stivi in luglio agosto settembre farà in tutto 400.000 prigionieri e causerà 600.000 perdite cioè 600.000 tra morti e feriti 350.000 le perdite tedesche Brusilov riconquisterà una striscia di territorio di 90 chilometri anche se pagherà a caro prezzo comunque questa offensiva perché saranno all'incirco un milione le perdite russe i numeri sul fronte orientale sono esorbitanti sia in termini di perdite sia però forse dovuto anche al fatto che sono maggiori da difendere sono consentiti movimenti maggiori per cui appunto sul fronte occidentale sul fronte italiano una grande avanzata una avanzata di 15 chilometri 20 chilometri sul fronte russo sul fronte orientale gli eserciti si spostano con centinaia di migliaia di uomini per 40 50 100 chilometri la vittoria di Brusilov ha un effetto tra gli altri la grande vittoria di Brusilov ha un effetto tra gli altri su un paese di 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 questa di questa regione sulla Romania la Romania è stata a guardare fino a questo momento il 27 agosto entra in guerra contro gli imperi centrali alla Romania i francesi e i russi hanno promesso alcuni territori dell'Ungheria salvo poi tacitamente rigettare questo accordo ma la Romania non lo sa la decisione della Romania di entrare in guerra è devastante per la Romania perché pochi giorni dopo i Bulgari che sono alleati dei tedeschi e degli austriaci invadono la provincia romena della Dobrugia tutti questi paesi hanno un territorio piccolo grande oltre i confini del vicino da rivendicare quindi i Bulgari invadono la provincia romena della Dobrugia il 25 settembre Falkenheim che nel frattempo è stato destituito dall'alto comando tedesco un po' per nulla di fatto a Verdun che era una sua una sua idea un po' per la sconfitta anche sul sul fronte orientale è stato sostituito con in Denburg e gli è stata affidata un'armata appunto per combattere contro la Romania Falkenheim avanza in Transilvania e spinge i romeni alla ritirata i romeni che sono poi sottoposti da un altro lato all'avanzata di un'altra armata tedesca che è comandata da un generale anche questo molto esperto Mackensen i romeni si ritrovano in in un piccolissimo territorio del loro paese il 5 dicembre cadrà anche Bucharest Falkenheim entra a Bucharest i romeni in pochissimi mesi hanno perso 350.000 uomini e quasi tutto il loro paese quasi tutto il loro paese che rimarrà in mano tedesca per i 18 mesi successivi fonte di approvvigionamenti molto importanti per la Germania perché controlleranno e avranno un milione di tonnellate di petrolio all'incirca e due milioni di tonnellate di grano dai territori della Romania si chiude così la brevissima parentesi di un paese europeo in guerra con una sconfitta senza appello da dicembre abbiamo concluso la vicenda della Romania dobbiamo fare due passi indietro dobbiamo tornare alla fine di maggio e su un fronte nuovo diverso però sarà l'unico grande momento della guerra navale abbiamo visto che nel 15 anche c'erano state alcune battaglie su mari lontani il 31 maggio a largo della costa danese nello Jutland c'è la grande battaglia navale della prima guerra mondiale l'unica grande battaglia navale e però è praticamente la battaglia in cui si affrontano due flotte e un numero tale di navi che non si era mai visto nessun mare aveva mai visto una tale concentrazione di navi così grandi così veloci così potentemente armate parliamo di circa 250 navi con 25 ammiragli a bordo da una parte la flotta d'alto mare tedesca comandata dall'ammiraglio Reinhard Scheer che ha preso il comando della flotta d'alto mare da pochi mesi da gennaio Scheer vorrebbe cogliere di sorpresa gli incrociatori da battaglia britannici ovviamente il grande nemico è la Royal Navy britannica da sempre dominatrice sui mari Scheer individua la seconda flotta diciamo della Royal Navy comandata dall'ammiraglio Bitti e muove all'alba del 31 maggio del 1916 dalla baia di Elgoland con le sue navi anche la flotta di Bitti muove da nord distanza a Rosit che è uno dei porti di Edimburgo però i tedeschi non sanno che grazie alla decretazione di alcuni segnali delle segnalazioni navali da parte dello spinaggio inglese non soltanto gli incrociatori di Bitti sono in movimento ma anche la Grand Fleet la grande flotta della Royal Navy che è guidata dall'ammiraglio John Jellicoe la flotta ha lasciato la sera del 30 maggio la base di Scapa Flow nel nord della Scozia diretta verso sud per darvi un'idea delle dimensioni di queste flotte la flotta d'Alto Mare è composta da 16 corazzate da 6 navi da guerra della generazione di navi precedente da 5 incrociatori da battaglia 11 incrociatori leggeri 61 cacciatori pediniere la Grand Fleet e la Battle Cruiser Fleet contano 28 corazzate 9 incrociatori da battaglia 8 incrociatori corazzati 26 incrociatori leggeri 78 cacciator pediniere a tutto questo si aggiunge un numero imprecisato di sottomarini è lo scontro tra le due flotte che forse nessuno voleva ma in qualche modo era scritto dovesse accadere perché dai primissimi anni del 1900 l'ammiraglio Tirpiz il ministro della marina imperiale tedesca aveva promosso questo programma di espansione della flotta tedesca proprio per mettersi all'altezza della flotta inglese e il programma di espansione aveva voluto dire anche un progresso nella tecnologia e ovviamente anche da parte di della Royal Navy che non doveva rimanere a guardare non poteva restare indietro c'erano due filosofie un po' diverse la marina britannica aveva preferito navi meno corazzate quindi meno pesanti di quelle tedesche che potessero essere un po' più leggere forse un po' più vulnerabili ma certamente più leggere e aveva privilegiato anche l'armamento questi terribili cannoni inglesi che appunto si fanno sentire nel corso della battaglia a un certo punto la flotta di incrociatori inglesi punta verso sud per scontrarsi con la flotta di incrociatori da battaglia tedeschi che è più debole oggettivamente ma a un certo punto incontra il grosso della flotta d'alto mare con le corazzate e fa marcia indietro per tentare di portarla verso in bocca alla grande flotta di Gellico a questo punto si svolgono due scontri tra le grandi flotte che sono conclusi da una sorta di girare a largo dei tedeschi perché appunto la maggiore potenza di fuoco degli inglesi è evidente tutto questo succede nel corso della giornata del 31 alle 14.30 c'è il primo avvistamento tra gli incrociatori alle 15.45 i due gruppi di incrociatori da battaglia aprono il fuoco più tardi alle 18 le corazzate di Scheer capitano quasi senza rendersene conto sotto il fuoco di Gellico i tedeschi riescono a colpire tre navi inglesi ma questi cannoni da 380 mm dallo Royal Navy sono superiori e Scheer ordina la ritirata in serata complice nel pomeriggio la nebbia in serata il buio si hanno di nuovo degli scontri quasi fortuiti e Scheer torna sui suoi passi e incrocia di nuovo la Grand Fleet britannica subisce altri terribili colpi e scompare ancora una volta nell'oscurità nel frattempo una corazzata tedesca è colpita e affondata la flotta d'alto mare è riportata alla base di Elgoland i tedeschi hanno perduto un incrociatore da battaglia una nave di questa classe precedente precedente le corazzate 4 incrociatori leggeri e 5 cacciatori pediniere l'ammiraglio gelico ha perso 3 incrociatori da battaglia 4 incrociatori corazzati e 8 cacciatori pediniere il bilancio delle perdite dei morti delle vite umane è diciamo a favore dei tedeschi sono morti 6.000 oltre 6.000 marinai britannici e poco più di 2.500 tedeschi l'esito della battaglia sul piano strettamente delle perdite sia umane sia di naviglio spinge il Kaiser a pensare che questa sia una vittoria per i tedeschi ma non è esattamente una vittoria tedesca anche se la flotta d'alto mare ha perso meno navi rispetto alla grande flotta britannica ha subito danni maggiori nelle navi che non sono affondate e in questa situazione non può permettersi di rischiare un'altra volta una sfida in mare aperto con la Royal Navy e con la Grand Fleet gli storici si dividono un po' in sostanza potrebbe essere considerata una vittoria limitata tedesca ma un po' una vittoria sostanziale una vittoria strategica inglese perché da questo momento in poi la grande flotta non uscirà più dalle sue basi non uscirà più nel mare del nord questo sarà l'unico grande scontro navale del conflitto la parola da parte dei tedeschi passerà semplicemente insommergibili sarà un'altra storia tutto l'investimento di Tirpitz dell'impero tedesco nella flotta finisce si conclude qui con questa con questa battaglia non è stata comunque una vittoria decisiva segue un po' la battaglia dello Jutland l'andamento delle altre grandi battaglie sui fronti di terra abbiamo lasciato Verdun in aprile la battaglia a Verdun continua siamo appunto tra il 31 maggio e il primo giugno in giugno si combatte ancora a Verdun il 23 giugno è il punto i tedeschi raggiungono il punto più avanzato della loro offensiva e nello stesso tempo il momento di crisi vanno all'assalto 30.000 tedeschi in questa giornata dopo aver bombardato le postazioni francesi con un nuovo gas al Fosgene la Croce Verde si chiama annientano una divisione di 5.000 uomini ma sono bloccati all'ultima sull'ultima Roccaforte in difesa di Verdun è famoso l'ordine del giorno del nuovo comandante del settore di Verdun il generale Nivelle non passeranno i tedeschi non passano a Verdun anche se da febbraio sono stati sparati 20 milioni di proiettili d'artiglieria a fine giugno le perdite francesi sono di 315.000 uomini 281.000 quelle tedesche il paesaggio in questa zona del fronte è alterato per sempre boschi ridotti in cenere villaggi distrutti forti sbriciolati ma la battaglia continua anche in luglio nuovi tentativi tedeschi di assalto ma in luglio comincia un'altra grande battaglia e Verdun diventa ovviamente una sconfitta tedesca perché non è stata conquistata la città i combattimenti vanno avanti dico soltanto che a metà dicembre i francesi recupereranno gran parte del terreno perduto dall'inizio della battaglia sulla riva orientale della Mosa ma dicevo in luglio comincia un'altra grande battaglia sul fronte occidentale che interessa più gli inglesi che i francesi anche se è presente un contingente francese dobbiamo spostarci nella zona della Somme questo fiume siamo a circa 70-80 km nord di Parigi su un fronte relativamente tranquillo ma proprio perché tranquillo i tedeschi che sono presenti in forza anche su questo versante del fronte hanno fortificato nei mesi precedenti la linea hanno approfittato del terreno che lo consentiva hanno costruito rifugi che vanno anche a 10 metri in profondità 10 metri sotto il livello del terreno hanno postazioni di mitragliatrici in posizioni strategiche hanno svolto densi reticolati di filo spinato a protezione delle trincee dall'altra parte ci sono i britannici ci sono inglesi che per la maggior parte sono per la prima volta in battaglia e li comanda un un generale Douglas Hague che ha 54 anni è il nuovo comandante del corpo di spedizione inglese ha sostituito da poco dal dicembre dal 1915 il generale John French che era un militare di vecchio stampo aveva fatto la guerra anglo-boera era abituato al suo esercito di regolari con grande come dire vicinanza alla truppa con grande solidarietà con grande cameratismo e Hague ha fatto di tutt'altra pasta Hague ha lavorato un po' si è avvicinato alla corte è in contatto con Giorgio V e in sostanza ha fatto abbastanza esplicitamente capire come opinione peraltro condivisa anche da altri osservatori da altri generali come la condotta della guerra il comando della guerra inglese da parte di French non fosse più all'altezza ma in più Hague si è quasi proposto direttamente per il comando della forza di spedizione britannica in Europa Hague è un seguace di pratiche spiritistiche è un fondamentalista religioso vede quasi il comando e la guerra come una missione divina ordinata da Dio e questo lo porterà a una proverbiale insensibilità per le sorti dei suoi uomini in guerra su questo fronte Hague sarà chiamato il macellaio della Somme ricorreranno molto in in questo anno questi questi queste metafore Hague il macellaio della Somme i francesi nel tritacarne della dell'artiglieria e delle mitragliatrici tedesche a Averdau il piano di Hague è quello di avanzare di 10 chilometri fino al villaggio di Bapom questo piano prevede una settimana di bombardamenti assai intensi si prevede il consumo di un milione di proiettili e per questo schiera 1400 cannoni Hague il primo luglio dal 1916 ecco finalmente l'assalto hanno chiesto gli alleati da tempo questa offensiva che si aspettano gli alleati francesi che si aspettano per alleggerire il fronte di Verdun Hague si diceva non pronto alla fine consente di cominciare in anticipo soltanto il bombardamento che appunto dura una settimana il primo luglio l'assalto a cui partecipano anche tre divisioni francesi qui la sorpresa è tremenda il filo spinato dopo una settimana di bombardamenti è quasi totalmente intatto le bombe hanno smosso il terreno ma non hanno quasi toccato i reticolati su 17 divisioni in totale tra britanniche e francesi che attaccano solo 5 penetrano nelle trincee nemiche le altre vengono bloccate nella terra di nessuno di 100.000 soldati andati all'assalto sto parlando di questa giornata del primo luglio 1916 20.000 non tornano 40.000 sono feriti è la più grande perdita di vite umane nella storia militare britannica le perdite tedesche sono un decimo di quelli inglesi qualche giorno più tardi un testimone inglese vedrà e scriverà che alcuni molti soldati inglesi feriti sono strisciati in buche protette nella terra di nessuno si sono avvolti nei loro teli impermeabili hanno preso in mano la bibbia e sono morti così nessuno può raggiungere i feriti nella terra di nessuno dopo questa drammatica giornata comunque anche i tedeschi sono preoccupati l'alto comando tedesco sostituisce il comandante dell'armata in cui è avvenuta la penetrazione lo sostituisce con un colonnello il colonnello Fritz von Lossberg che ha studiato e ha sollecitato ai suoi ufficiali nel caso sono stati due ufficiali ancora inferiori un capitano maggiore a studiare questa nuova tecnica di difesa un'idea di difesa più elastica di difesa in profondità che non è più imperniata sulla prima linea che non deve essere tenuta a tutti i costi ma deve essere alleggerita al contrario deve essere la difesa Cardin deve essere la seconda linea di difesa in più deve avere lo schieramento deve avere una terza linea di difesa con le riserve che pronte al contrattacco quindi i tedeschi organizzano anche diciamo il movimento degli uomini per la difensiva non soltanto le strutture della difesa che abbiamo visto hanno tenuto perfettamente o quasi dopo un bombardamento incessante ovviamente i rifugi costruiti dieci metri sotto terra non venivano scalfiti da nessuna bomba lo scontro sulla Somme prosegue logorante per tutto il mese di luglio con truppe che si avvicendano truppe fresche che si avvicendano continuamente con questi volontari forse non ancora non perfettamente esperti di guerra comunque al loro battesimo del fuoco volontari inglesi che perdono la vita a decine di migliaia il 4 luglio i francesi sfondano per un tratto di 10 km i francesi più esperti riescono a sfondare per un tratto di 10 km per darvi un'idea di quello che vedono con loro poi qualche giorno dopo c'è il corrispondente di guerra britannico Philip Gibbs che scrive scriverà alcuni dei tedeschi morti erano ragazzi troppo giovani per essere uccisi per le colpe dei loro padri e altri avrebbero potuto essere giovani oppure vecchi difficile dirlo non avevano faccia erano solo un ammasso di carne sanguinolenta coperta di stracci gambe e braccia giacevano di qua e di là senza un corpo nelle vicinanze alla fine di luglio inglesi e francesi hanno perso più di 200.000 uomini i tedeschi 160.000 la linea del fronte si è spostata solo di 5 km e solo su metà della sua ampiezza una svolta in questa battaglia avviene in settembre a metà settembre il 15 per la prima volta viene impiegata una nuova arma sul campo di battaglia il carro armato sono 49 carri armati britannici che avanzano 10 sono colpiti dall'artiglieria tedesca una decina si ferma per avaria 5 non riescono ad avanzare ma gli altri quelli che rimangono arrivano sulle difese tedesche creano scompiglio e terrore tra i tedeschi e contribuiscono alla conquista di tre villaggi è un'arma nuova che sarà vedremo devastante anche soprattutto direi nel successivo conflitto l'offensiva sulla Somme si conclude ufficialmente il 19 novembre la massima linea di avanzata è di 10 km più avanti rispetto al fronte attaccato il primo luglio le perdite a questa data al 19 novembre sono di 600.000 uomini per parte tedesca e di oltre 600.000 per parte britannica e francese torniamo al dobbiamo tornare indietro sul fronte italiano ancora in estate il 29 giugno gli austriaci impiegano per la prima volta i gas sul fronte italiano una miscela di clore e fosgene tra il San Michele e San Martino del Carso tra il monte San Michele e San Martino del Carso centinaia di fanti italiani muoiono all'istante altri tramortiti dal gas vengono finiti dalle baionette e dalle mazze ferrate austriache le vittime italiane sono 6.000 in luglio parte la controffensiva italiana sugli altipiani ma le truppe vengono dissanguate in attacchi locali i guadagni territoriali sono trascurabili le perdite assai forti in tutta la battaglia degli altipiani cominciata il 15 maggio con l'offensiva di Corrad al 31 luglio si contano quasi 148.000 perdite italiane i morti sono oltre 15.000 e quasi 83.000 sono le perdite austriache il 12 luglio su questo fronte gli austriaci hanno individuato due irredentisti Cesare Battisti da meno chiesa li hanno processati e condannati per alto tradimento li hanno impiccati nel castello del Buon Consiglio di Trento il 12 luglio è la fine che fanno alcuni irredentisti italiani cioè abitanti delle zone ancora Cesare Battisti da di Trento delle zone austriache all'inizio della guerra e durante la guerra che si sentivano italiani e si erano arruolati nell'esercito italiano ed erano appunto per questo destinati alla condanna a morte e si è catturati in agosto settembre ottobre novembre Cadorna ordina le nuove nuove battaglie sull'Isonzo la sesta battaglia in agosto viene conquistato il Sabotino e il San Michele in questa battaglia muore Enrico Toti il bersagliere con una gamba sola gli austriaci abbandonano la testa di ponte sulla riva di destra dell'Isonzo il 9 agosto nel corso di questa sesta battaglia dell'Isonzo forse la più grande vittoria italiana fino a questo momento in guerra gli italiani conquistano Gorizia conquistano però una città desolata e deserta una città devastata dai bombardamenti vi abitano soltanto 3.000 persone delle 31.000 che l'abitavano nel 1910 il 28 agosto l'Italia dichiara guerra anche alla Germania da settembre in poi le cosiddette spallate d'autunno sull'Isonzo Cadorna consapevole che è impossibile sfondare il fronte austriaco decida attacchi su settori limitati per mantenere la pressione sugli austriaci ma la fanteria italiana è in difficoltà quasi ovunque gli austriaci hanno rafforzato il trinceramento anche se su questo fronte cominciano ad arrivare cominciano ad arrivare dalle zone dell'impero uomini di mezza età le riserve si stanno esaurendo e la preparazione è minima nella settima battaglia di Zonzo in settembre nell'ottava in ottobre nella nona agli inizi di novembre molte le perdite le perdite in queste tre spallate l'Italia perde 77.000 uomini gli austriaci 74.000 segue un inverno rigidissimo i versanti delle montagne sono coperti da strati di 6 dai 6 agli 8 metri di neve la guerra si ferma in questo momento nelle trincee la guerra si ferma nelle trincee in montagna ma non coinvolge anche le 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 1916 con una data nel calendario che è abbastanza emblematica. Il 21 novembre muore a Vienna Francesco Giuseppe, l'imperatore. Era sul trono da 68 anni meno 11 giorni. Era diventato imperatore infatti il 2 dicembre del 1848. L'imperatore muore per una bronchite al suo tavolo da lavoro. Il 30 novembre c'è una grande folla al funerale ma a Vienna c'è solo un reggimento a disposizione per gli onori militari e per accompagnare il feretro. Non c'è una grande affluenza di teste coronate europee come ci si potrebbe aspettare da un sovrano che era sul trono dal 1848. All'ultimo rito alla Capuzina Archirche presenzano soltanto i re di Bulgaria, Baviera e Sassonia. L'impero forse è davvero finito anche se per un po' lo reggerà il nipote Carlo. Siamo arrivati al fatidico per molti aspetti 1917, fatidico sicuramente per l'Italia. Verso la fine dell'anno ci sarà la disfatta di Caporetto e negli stessi giorni la rivoluzione in Russia. Vediamo intanto nel 1917, quarto anno di guerra, terzo per l'Italia, all'inizio del 1917 quali sono le nazioni in guerra, qual è la dimensione del conflitto. Anche se abbiamo visto che la dimensione del conflitto è data forse più dai fronti, dai teatri di guerra che vanno dal Pacifico all'Atlantico, al Medio Oriente, alla Mesopotamia e all'Africa e ovviamente all'Europa, al cuore dell'Europa. Le nazioni in guerra all'inizio del 1917 sono per gli imperi centrali Germania, in prima fila ovviamente, Austria e Ungheria, Impero Ottomano, Bulgaria. Per l'intesa, diciamo così, per gli alleati, per la vecchia intesa, Regno Unito, Francia, Russia, Italia, Giappone, Portogallo, che non è ancora sul fronte occidentale, presto manderà delle truppe, Serbia, naturalmente, il paese da cui è partito un po' tutto, almeno l'occasione di questa guerra. La Serbia, che è occupata interamente, salva un minuscolo lembo di terra nella parte meridionale del paese. Il Belgio, quasi totalmente occupato. La Romania, che ha la capitale occupata, l'ultima a entrare in guerra. Il 9 gennaio c'è già una decisione importante del Consiglio di guerra tedesco. Il Kaiser ha riunito i suoi generali, il ministro della Marina, e ordina la guerra sottomarina indiscriminata. Per la verità, la ripresa della guerra sottomarina indiscriminata, che aveva avuto all'inizio della guerra, un prologo, poi era stata in parte accantonata. Premono per la guerra sottomarina contro tutti i natanti, perché colpirà qualsiasi nave, qualsiasi sia la bandiera e il carico, senza preavviso. Premono i generali, gli ammiragli. La persona più fredda, il più cauto, è il primo ministro Batman Holweg, che anzi contrario a una ripresa della guerra sottomarina indiscriminata, perché teme la reazione degli Stati Uniti, teme l'intervento nella guerra degli Stati Uniti. E vedremo che avrà le sue buone ragioni. L'ordine del Kaiser vale per il primo febbraio di questo 1917. Vedremo le conseguenze. E dopo, subito dopo, poche ore dopo l'inizio di questa misura estrema della Germania, e cioè il 3 febbraio, Washington rompe le relazioni diplomatiche con Berlino. Il presidente Wilson avverte sarà guerra se saranno colpite imbarcazioni americane. Sempre in febbraio, il 4, l'imperatore, Guglielmo II, ordina il ripiegamento sulla linea Hindenburg. Cos'è la linea Hindenburg? Il comandante supremo dell'esercito tedesco ha studiato con i suoi generali questa nuova misura. E' stata concepita nelle fasi finali della battaglia della Somme. Quando, ricorderete, gli altri ufficiali tedeschi, gli strateghi della guerra tedesca, hanno messo in opera un nuovo tipo di difesa, una difesa più elastica, una difesa dinamica quasi, diremmo oggi. Hindenburg ha studiato questa imponente linea di difesa fortificata che è però alle spalle della linea attuale del fronte, di alcuni chilometri. E' una linea che comprende bunker in cemento, postazioni mitagliatrici, gallerie, trincee ovviamente, densi reticolati di filo spinato. E' una linea nuova, totalmente nuova, lunga quasi 160 chilometri. Essendo arretrata meno curvilinea, la linea del fronte ora è più corta di una quarantina di chilometri. Impiega meno uomini, questa prima linea, che possono essere impiegati, a loro volta, sul fronte orientale. I tedeschi, ritirandosi dalla linea del fronte attuale, fanno terra bruciata. La linea Hindenburg, o per i tedeschi linea Siegfriedo, sarà completata soltanto a metà marzo. Vedrà il lavoro sia di operai belgi, sia di prigionieri di guerra russi, un lavoro comunque imponente. A proposito di Russia, siamo in febbraio e alla fine di febbraio, tra febbraio e marzo, c'è questa prima rivoluzione in Russia. Ed è una svolta, sarà una svolta anche per la guerra. Il 26 febbraio si svolgono manifestazioni di protesta nella capitale, a Pietrogrado. Slogan rivoluzionari tra i dimostranti, e da tempo i bolscevichi incitano i soldati a rifiutarsi di combattere. Il 10 marzo, sciopero generale. 200.000 operai incrociano le braccia soltanto nelle fabbriche di armi e munizioni. Ci sono sommosse e tumulti per il pane, la polizia spara sulla folla. Non sparano i soldati. Lo zar sospende la Duma, cioè questa forma parlamentare della Russia zarista. Due giorni dopo, il 12 marzo, 17.000 militari della guarnigione di Pietrogrado si uniscono alla folla. Si costituisce questo Soviet di Pietrogrado per dare una guida a questo movimento spontaneo. Il Soviet inserisce commissari politici in tutte le unità militari. Anche in questo caso lo scopo è quello di convincere i soldati a non combattere. Il 15 marzo, su pressioni anche dei generali che invocano questo gesto per salvare la Russia e anche continuare a combattere, lo zar Nicola II firma la propria abdicazione. In favore in un primo momento del figlio, poi poche ore dopo del fratello, Michele, il granduca Michele, che però rinuncia al trono. È il 16 marzo, è la fine dei Romanov. Quello stesso giorno si istituisce un governo provvisorio a Pietrogrado e un socialista, Kierensky, è ministro della giustizia. La Russia, comunque, decide il governo provvisorio, continua la guerra. Il 9 aprile, Lenin, il leader riconosciuto dai bolshevichi, lascia Zurigo, dove era in esilio, dove si era rifugiato, per Pietrogrado. E' la Germania che gli appronta un treno speciale per raggiungere la capitale russa. Già la Germania che ha favorito il movimento bolshevico, che ha sovvenzionato i bolshevichi con 50 milioni di marchi nei mesi precedenti. E tutto questo perché spera esattamente quello che vogliono i bolshevichi, che la Russia si ritiri dalla guerra. Per una grande potenza che si sta ritirando dalla guerra, però, ce n'è un'altra che si appresta a entrarvi. Il 2 aprile, il presidente Woodrow Wilson chiede al Congresso di votare per la guerra, per l'intervento armato degli Stati Uniti. Il diritto, dice, nel suo discorso al Congresso, è più prezioso della pace. Questa dovrà essere l'ultima guerra dalla quale dovrà scaturire la pace finale per il mondo. Sia la Camera sia il Senato approvano con larga maggioranza. Il 6 aprile, Wilson firma la dichiarazione di guerra alla Germania. occorrerà del tempo perché i primi soldati americani sbarchino in Europa e ancora più tempo perché si affaccino sui campi di battaglia. L'esercito americano conta meno di 6.000 ufficiali in questo momento e meno di 122.000 soldati, oltre agli 80.000 della Guardia Nazionale che ora sono al confine con il Messico. Tra l'altro proprio in questo momento si trova in Messico al comando di una, che viene definita senza me di termini, spedizione punitiva, John Pershing, che sarà il comandante del corpo di spedizione americano in Europa. Pershing, al quale poi, durante la Guerra Fredda verrà dedicato, diciamo così, un missile che avrà il più alto grado, otterrà, finita la guerra, il più alto grado militare mai raggiunto da nessun generale americano. E comunque è una fase soltanto preparatoria questa. Si combatte invece sul fronte occidentale. Il 9 aprile comincia la battaglia di Arras. è la prima fase affidata ai britannici di quella che si chiama offensiva Nivelle e che vedremo sarà un mezzo disastro. Nivelle è il comandante dell'esercito francese. Ha studiato questo grande attacco per la vittoria finale. Un attacco che prevede la rupture, lo sfondamento delle linee tedesche e che è affidato in una prima fase ai britannici e poi ai francesi su un fronte diverso. L'attacco degli inglesi è preceduto da quattro giorni di intensi bombardamenti in cui sono impiegati ben 2800 cannoni mortai ed una battaglia aerea perché nella Prima Guerra Mondiale si combatte anche nell'aria. A questa altezza, all'altezza di Arras, la linea Inderburg non era ancora stata completata e quindi c'è un successo iniziale dei britannici. Cedono sotto la pressione dell'assalto le prime due linee tedesche ma la neve, il maltempo ferma l'artiglieria che è ancora attraverata dai cavalli in questo caso e la terza linea tedesca tiene. Il 15 aprile il comandante del corpo di spedizione britannico in Europa e il generale Haig ordina di cessare l'offensiva. I tedeschi hanno consolidato le loro linee di difesa ne sono stati fatti 13.000 prigionieri ma non è un successo strategico per i britannici. I combattimenti siamo al 15 aprile proseguono un altro mese anche se non diretti esattamente allo sfondamento però ovviamente in questa fase in questa fase e con i due nemici che si fronteggiano proseguono piccole battaglie in questa zona alla fine il 17 maggio le perdite britanniche saranno di 150.000 uomini tra morti, feriti prigionieri dispersi. Ma nel frattempo a metà aprile il 16 aprile è cominciata l'offensiva francese la battaglia d'Alen 20 divisioni francesi vanno all'attacco su un fronte di 40 chilometri ed è un debutto anche per i carri armati francesi sono dei piccoli Renault a due posti 128 impiegati in questo settore del fronte il fatto è che Nivelle è un generale che ama le le belle maniere la vita di società e è stranamente loquace nei salotti in certi circoli si è fatto diciamo sfuggire questa sua questo suo a grandi linee almeno questo suo piano di di battaglia questa questa offensiva che dovrebbe portare al al successo finale gli alleati e d'altra parte anche lo spionaggio tedesco ha fatto il suo lavoro insomma l'attacco francese non arriva inaspettato trova una forte linea difensiva tedesca e un'altra destinata al contrattacco questa seconda destinata al contrattacco è sul crinale percorso dallo chemin de dame che sarà diventerà un nome familiare agli eserciti all'affanteria francese tedesca in questa fase della guerra lo chemin de dame era una stradicciola di campagna nel settecento percorsa dalle figlie di luigi quindicesimo le dame de france da qui il nome dei chemin de dame funziona la difesa in profondità perché è stata allestita in questo modo la difesa in profondità tedesca una prima linea soltanto di osservatori mitragliatrici e artiglieri sparsi in questa linea il grosso delle forze fuori dalla portata dell'artiglieria nemica alle spalle la battaglia sull'ena è furiosa la pioggia la foschia il terreno impraticabile e per gran parte le mitragliatrici tedesche rallentano i francesi i carri armati sono impantanati il 20 aprile non si può che constatare il fallimento dell'offensiva i tedeschi fanno diversi prigionieri anche i francesi ne catturano 28.000 ma ottengono una penetrazione di soli 6 km le difese tedesche sono pressoché intatte le perdite francesi arrivano a 130.000 uomini quelle tedesche si fermano a 40.000 è una disfatta in sostanza per la teoria offensiva di Nivelle e Nivelle pagherà perdendo il posto del comando dell'esercito francese sul fronte occidentale il 15 maggio sarà sostituito dal generale Petain ma finiamo aprile con un dato abbiamo cominciato quest'anno il 17 con la decisione tedesca della guerra sottomarino indiscriminata ebbene aprile segna il culmine di questa di questa guerra in questi 30 giorni i paesi alleati e i paesi neutrali perdono ben 373 navi colpite e affondate dai sommergibili tedeschi dagli U-Boat tedeschi sono oltre per oltre 830.000 tonnellate una cifra mai raggiunta né nella prima né nella seconda guerra mondiale il 12 maggio del 1917 torniamo sul fronte italiano Cadorna sferra la decima battaglia dell'Isonzo sono impegnate 38 divisioni e 2000 cannoni italiani contro 17 divisioni e 1250 cannoni austriaci ma gli austriaci sono schierati su posizioni fortificate ben difese hanno un indubbio vantaggio nonostante lo svantaggio numerico è presente per la prima volta anche in parte a sostegno dell'artiglieria italiana l'artiglieria britannica con alcuni un contingente di artiglieria britannica il piano di Cadorna prevede due spallate una più a nord verso l'alto piano della Bainsizza e una più a sud sul Carso verso l'ermada e ipoteticamente verso Trieste si scatenano subito violenti combattimenti nella zona di Gorizia dove opera la terza armata del generale Capello l'artiglieria ha aperto alcune brecce ma si rivelano insufficienti è una fase di stallo Cadorna sarebbe per interrompere l'offensiva qualche giorno dopo Capello ottiene di continuare conquista alcune alture le alture di Cook ma non sfonda parte allora qualche giorno più tardi la seconda offensiva sul Carso guidata dal Duca d'Aosta sono assalti oltranza l'armata del Duca d'Aosta riesce a conquistare una piccola striscia di territorio ma le posizioni importanti restano austriache alla fine di maggio 16 giorni dopo l'inizio della battaglia Cadorna ordina di arrestare l'offensiva sul campo restano 112.000 tramorti feriti e dispersi italiani le perdite austriache si fermano a 76.000 anche la decima battaglia di Risonzo non è risolutiva sul fronte italiano ci spostiamo di nuovo sul fronte occidentale alla fine di aprile torniamo facciamo qualche passo indietro alla fine di aprile succede che 200 uomini di un battaglione di fanteria francese a Mourmoulin-le-Grand vicino a Reims si rifiutano di obbedire all'ordine di attacco in poche settimane quelli che il comando francese definisce atti di indisciplina collettiva assumono una dimensione drammatica verso la fine di maggio il settore francese del fronte occidentale è quasi nel caos 35.000 soldati si calcola sono coinvolti nelle proteste fra l'altro sono arrivate le notizie dalla Russia e alcuni contingenti sfilano con bandiere rosse e cantano l'internazionale in un villaggio nella zona dell'En il primo giugno un reggimento si impadronisce dell'amministrazione locale e nomina un governo pacifista in genere non sono violenze gravi gli ammutinamenti rientrano anche in 12-24 ore ma la situazione in qualche caso appare ingovernabile i francesi non si rifiutano molti francesi molti soldati francesi non si rifiutano di difendere le posizioni spesso si rifiutano di andare a un nuovo assalto il punto il fatto è che i caduti per la Francia sono stati 306.000 nei pochi mesi di guerra del 1914 334.000 nel 15 217.000 nel 1916 121.000 finora nel 1917 in sostanza un milione di morti su 20 milioni di francesi maschi beh queste perdite enormi sembrano aver spento la volontà di combattere dei francesi si è calcolato che sono state 49 su 113 le divisioni di fanteria destabilizzate da questi fenomeni di indisciplina sciopero ammutinamento alla fine saranno 3400 i ricorsi alla corte marziale 554 le condanne a morte però i soldati effettivamente fucilati saranno 49 potremmo dire soltanto 49 il governo stesso il governo francese stesso spinse alla clemenza la maggior parte furono graziati di questi soldati condannati furono graziati il 15 maggio abbiamo visto il generale Philippe Petain sostituisce l'ormai screditato Nivelle lo sostituisce per motivi diciamo militari strategici di condotta della guerra ma lo sostituisce e ha si trova davanti questo problema enorme l'8 giugno il governo francese dà a Petain la facoltà di passare per le armi gli ammutinati immediatamente Petain decide ovviamente una strategia diversa deve contenere questo problema decide intanto di sospendere ogni azione ogni grande azione d'attacco di qui alla fine del 17 gli francesi saranno impegnati solo in azioni limitate e soprattutto cerca di migliorare le condizioni di vita al fronte migliorare la qualità del cibo concedere licenze più lunghe e strategicamente anche Petain adotta la difesa in profondità cioè una difesa più elastica in cui non siano impegnate il grosso delle truppe nella prima linea ma nelle seconde o terze linee in Italia questa 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 linea sia militare strategica sia di rapporto con le truppe non passa ancora non passa ancora dal dal comando supremo il generalissimo Cadorna dopo una sconfitta un contrattacco austriaco sul Carso a Flondar accusa di tradimento e diserzione i reggimenti che si sono arresi e li definisce anche composti in prevalenza di siciliani e chiede al governo di stroncare l'opera dei più pericolosi agitatori con misure energiche e immediate è un po' in germe la teoria del nemico interno che poi vedremo sarà sviluppata con la sconfitta di Caporetto e che poi avrà anche una una versione diciamo leggermente diversa ma in sostanza simile nel campo tedesco il nemico interno sono i soldati che non combattono i soldati vili i soldati che se vengono fatti prigionieri perché fuggono perché si rifiutano di combattere e Cadorna non si rende conto ancora in questo momento della guerra che sta sottoponendo il suo esercito ha uno sforzo immenso ha un assalto dopo l'altro ha un rinnovo di truppe che continuano ad attaccare senza ottenere risultati e un massacro continuo in giugno c'è una nuova offensiva britannica sul crinale di Messina a sud di Ypres ma la segnalo per un fatto particolare per che cosa può essere la guerra in questo momento alle 3 10 del 7 giugno in questa località del fronte scoppiano 17 mine ne sono state poste 19 scoppiano contemporaneamente 17 mine che hanno un potenziale esplosivo pari a 500 tonnellate che sono state piazzate da minatori da soldati del genio inglese fino a 30 metri sotto al di sotto delle trincee tedesche le gallerie sono state scavate per mesi ebbene il boato di questa esplosione viene avvertito anche nell'Inghilterra meridionale 10.000 tedeschi muoiono all'istante o restano sepolti migliaia sono tramortite dall'esplosione l'offensiva inglese ha successo in Italia nello stesso giugno dal 10 al 25 del mese si combatte la battaglia dell'ortigara siamo sull'altopiano di asiago al confine tra veneto e trentino l'obiettivo di cadonna è eliminare il cuneo creato dagli austriaci con la strafe con la strafe con la spedizione punitiva si affrontano 300.000 italiani e 100.000 austriaci l'attacco iniziale fallisce gli austriaci reggono prosegue per giorni la battaglia gli alpini conquistano la vetta del monte a carissimo prezzo ma la posizione è indifendibile la perdono pochi giorni dopo è un'azione anche questa fallimentare mal comandata mal guidata mal gestita le truppe sono mandate al massacro anche in impossibili contrattacchi si contano 21.000 perdite tra gli italiani il 13 giugno Londra è sorpresa a mezzogiorno un gruppo di bombardieri tedeschi sono 14 si affacciano sui cieli di Londra si chiamano GOTA è un nuovo modello di aereo il bombardamento causa 162 morti e centinaia di feriti è questo il bombardamento più cruento di tutta la prima guerra mondiale su Londra Londra che era stata precedentemente attaccata dagli zeppelin dai dirigibili beh anche considerando tutti gli attacchi dei dirigibili messi insieme non avevano fatto tanti morti quanto ne fanno questi aerei in questo bombardamento però anche la Germania sembra stanca della guerra almeno una parte della Germania il 19 luglio il Parlamento tedesco il Reichstag vota una risoluzione di pace vota una risoluzione che sollecita il governo ad adoperarsi per una pace concordata e per la riconciliazione permanente è inutile dire che per i militari e per lo stesso governo non è più cancelliere Batman Holbeck ma è cancelliere Michaelis un po' un uomo fantoccio scelto dalla diarchia Kindenburg Udendorf questa risoluzione di pace è lettera morta Michaelis respinge questo documento dicendo che il Parlamento non ha facoltà di ottenere la pace il giorno dopo anche il Kaiser Guglielmo II respingerà la risoluzione la Germania continua la guerra anzi punta la vittoria punta la vittoria anche la Gran Bretagna si pensa già in questi 17 a uno sfondamento che risulti decisivo abbiamo visto il tentativo fallimentare dell'offensiva a livello ci pensa anche il comandante del corpo di spedizione britannico Haig punta questa volta a uno sfondamento nelle fiandre pensando che sia un settore del fronte debole per i tedeschi Haig non sa che la posizione delle fiandre quella che i tedeschi chiamano posizione delle fiandre è una delle più forti del fronte occidentale munita di trincee bunker mitragliatrici Haig vorrebbe arrivare a Ostenda e a Zebrug da dove partono i sottomarini tedeschi vorrebbe arrivare alla costa del Belgio da questa offensiva non sa appunto che la difesa tedesca conta nove strati di profondità il 31 luglio inizia la terza battaglia di Ypres che sarà anche conosciuta come battaglia di Paschendel Paschendel è il villaggio che gli inglesi hanno a sette chilometri di distanza è il primo obiettivo di questa offensiva a cui partecivano anche alcuni contingenti francesi ebbene il villaggio di Paschendel a sette chilometri di distanza sarà conquistato dai canadesi solo il sette novembre gli inglesi impiegano anche centotrentasei carri armati una pioggia torrenziale continua per tre giorni il terreno è un acquitrino è rivoltato fino alla profondità di tre metri scrive un testimone e ha la consistenza di un budino i carri armati fanno fatica ad avanzare i soldati anche temono di perdersi in questo fango un testimone ancora racconterà che nelle buche create dai cannoni dall'artiglieria dalle bombe al centro delle buche c'era un tale fango che ci si poteva perdere fisicamente poteva affogare nel fango un uomo i tedeschi contrattaccano con l'iprite andiamo già alla fine di questa di questa offensiva a novembre come vi ho detto sì le forze alleate guadagneranno a novembre 7 km di terreno a prezzo di 62.000 morti e 164.000 feriti i tedeschi a loro volta avranno 83.000 morti e 250.000 feriti un'altra inutile battaglia un'altra inutile strage inutile strage e così la definisce il primo agosto in un'esortazione apostolica benedetto quindicesimo che interviene ancora una volta contro la guerra con questo appello ai paesi alle autorità dei paesi belligeranti un appello contro questa inutile strage ma non fa soltanto un appello questa volta benedetto quindicesimo il papa questa volta azzarda anche un piano di pace l'idea di un piano di pace che vedrete poi curiosamente sarà in gerbe anche il piano di pace del presidente americano Wilson che verrà più tardi all'inizio del 1918 benedetto quindicesimo indica sette punti per definire appunto per finire questa guerra l'evacuazione delle zone occupate il disarmo reciproco la libertà di navigazione la rinuncia agli indennizi di guerra l'esame delle questioni territoriali risolte negoziati che tengano conto delle aspirazioni dei popoli delle diverse nazionalità e l'istituzione di un arbitraggio internazionale anche questa esortazione apostolica di benedetto quindicesimo cade nel vuoto anzi sarà accusato sia dai francesi sia dai tedeschi di parteggiare per gli uni o per gli altri ovviamente per il nemico vedremo che all'inizio nemmeno il tentativo del presidente Wilson avrà successo e il 17 agosto il generale Cadorna lancia una nuova offensiva la chiamiamo undicesima battaglia dell'Isonzo la massa di uomini e materiali che concentra sul fronte su questa parte del fronte è senza precedenti si tratta di un milione e duecentomila soldati e oltre 5.600 pezzi da artiglieria e mortai l'attacco principale è sferrato a nord di Gorizia sull'altopiano della Bainsizza il generale Cappello punta su Tolmino ma incontra una forte resistenza le perdite italiane sono pesanti poco più a sud gli uomini del generale Caviglia avanzano sull'altopiano della Bainsizza fanno 19.000 prigionieri austriaci ma subiscono il contrattacco delle truppe austriache gli italiani perdono alcune posizioni combattimenti violentissimi sul monte San Gabriele l'esito anche di questa parte dell'offensiva è fallimentare sì c'è un successo sulla Bainsizza ma i pilastri della difesa austriaca Tolmino il monte San Gabriele più a sud dell'ermada restano nelle mani del nemico si contano 160.000 perdite italiane tra morti feriti prigionieri gli austriaci si fermano 85.000 la battaglia si svolge nel corso quasi di un mese arriviamo grossomodo al 12 settembre nel frattempo ci sono come dire squilli di rivolta anche nella popolazione civile e anche in Italia dal 22 al 24 agosto c'è una sommossa a Torino la rivolta del pane si verificano violenti scontri dei dimostranti con la polizia e con l'esercito barricate nelle strade della città vengono saccheggiati negozi e caserme il 24 il giorno più cruento della rivolta gli scontri fanno 50 morti 3 rivoltosi e 10 tra le forze dell'ordine vengono arrestati un migliaio di operai e di dimostranti e anche alcuni esponenti socialisti la sommossa è sedata così nel sangue il 15 ottobre ci spostiamo a Parigi nei dintorni di Parigi viene fucilata Matari bellissima affascinante anche se ora ha 41 anni è una ballerina è stata una ballerina che ha movimentato la vita parigina e delle capitali europee all'inizio del secolo è una donna di origine olandese aveva sposato un un ufficiale con lui era stata in Indonesia e a Java e a Sumatra aveva conosciuto questa danza strana che aveva importato nel vecchio continente conquistando con il suo fascino e con questa danza con un misto di ascesi e di erotismo aveva conquistato Parigi altre capitali europee era stata si era esibita anche alla scala aveva avuto molti amanti pretendenti nel bel mondo nobili ufficiali ricchi borghesi con lo scopo della guerra i pretendenti erano anche passati tra i diplomatici tra i militari e alla fine aveva avuto contatti con lo spionaggio francese e anche con lo spionaggio tedesco al processo Matari ammette di essere stata contattata e pagata dallo spionaggio tedesco nega di aver mai passato informazioni sensibili al nemico viene condannata a morte forse è vittima dell'isteria prevalente in Francia come anche negli Stati Uniti che faceva vedere agenti nemici ovunque negli Stati Uniti questa sorta di isteria è contro i tedeschi vengono non tanto gli austriaci ma proprio i tedeschi vengono presi di mira insomma gli emigrati tedeschi in America in questi mesi sono sotto tiro ebbene Matari viene condannata e fucilata appunto all'alba di questo 15 ottobre ma torniamo al fronte italiano perché ci stiamo avvicinando alla data determinante della campagna d'Italia della guerra in Italia solo un passo indietro il 10 ottobre il generale Cadorna reitera l'ordine che aveva già emesso il 18 settembre disporre l'esercito sulla difensiva ci si aspetta un contrattacco austriaco Cadorna però non emana direttive precise tanto che il generale Capello che comanda la seconda armata quella forse più esposta non modifica nemmeno il suo schieramento offensivo questo fatto ovviamente non depone a favore di Capello però anche dall'alto comando non partono come dire direttive esecutive di questo di questo piano e si perdono un po' i contatti con con i comandi delle armate Capello da canto suo è sofferente è ammalato in nefrite e saltuariamente deve allontanarsi dal fronte ebbene Capello sottovaluterà fino all'ultimo le notizie di un attacco nemico nei giorni successivi siamo alla metà di ottobre il servizio di informazione italiano nota qualche movimento di truppe sospetto e informa cadorna arrivano segnalazioni dei disertori austriaci ce ne sono molti disertano più che austriaci soldati dell'esercito austro-ungarico di altre nazionalità alcune segnalazioni sono esplicite ricordiamo che siamo in guerra anche contro la Germania e che la Germania ha cominciato a inviare truppe tedesche sul fronte italiano a luna del pomeriggio del 23 ottobre viene intercettata una comunicazione tedesca che fissa alle due del mattino del giorno dopo l'attacco austro-tedesco alle 14 cadorna si riunisce con i suoi generali ma ancora una volta minimizzano o meglio pensano si aspettano un attacco nemico ma pensano che sarà rinviato visto il maltempo sulla regione e comunque sarebbe stato troppo tardi in questo momento per allestire una difesa come si deve fra l'altro appunto le armate italiane sono ancora schierate sull'offensiva non hanno nemmeno accolto queste nuove nuove teorie insomma queste nuove pratiche di difesa dinamica di difesa flessibile di alleggerimento della prima linea e di fortificazione delle retrovie per i contrattacchi e per tenere le truppe più riparate dagli attacchi dell'artiglieria gli austro-tedeschi invece si sono preparati si sono preparati a dovere nonostante appunto la chiamiamola fuga di notizie hanno cercato di fare tutto in grande segretezza i cannoni sono stati portati al fronte senza l'ausilio di macchine ma trainati ancora dai muli e dai cavalli la fanteria è arrivata i rinforzi della fanteria sono arrivati al fronte con marce notturne pure queste senza l'aiuto di mezzi meccanici si è costituita per l'occasione un'armata un'intera armata la quattordicesima che è comandata da un generale tedesco Otto von Belop sono sette divisioni tedesche e sei austriache tra le sette divisioni tedesche ci sono dei corpi d'elite come l'Alpen Corps che è un po' l'equivalente dei nostri alpini ci sono contingenti che hanno già combattuto sulle montagne sui Carpazzi e comunque sono in tutto tredici divisioni a difesa del tratto minacciato le divisioni italiane sono soltanto quattro i tedeschi hanno studiato un piano un attacco in forze a Tolmino che è l'unica testa di ponte austro-tedesca sulla riva occidentale dell'Isonzo e un attacco più debole diciamo più a nord dalla conca di Plezzo Plezzo e Tolmino fanno un arco che volge a sud-ovest e che comprende all'interno del quale insomma si trova una una località Caporetto il 24 ottobre è un mercoledì alle due del mattino i tedeschi cominciano un massiccio bombardamento anche con i gas usano esplosivo ad alto potenziale sulle prime linee italiane il bombardamento dura due ore ma è violentissimo saltano gli sbarramenti italiani saltano soprattutto le linee di comunicazione alle sette parte l'attacco gli austriaci muovono da Plezzo l'Alpenkorps da Tolmino è presieduto da un battaglione di montagna del Württemberg alla testa di quattro compagnie di questo battaglione c'è un giovane tenente si chiama Erwin Rommel diventerà famoso in questa guerra e nella successiva Rommel avanza con una tattica nuova una tattica offensiva nuova la tattica dell'infiltrazione non sono ondate di fanteria ma agili colonne ben addestrate che si muovono in verticale con mitragliatrici leggere e pesanti progrediscono in profondità non si curano dei fianchi ma arrivano dove il nemico gli italiani in questo caso non si aspettano non si aspettano che i soldati italiani non si aspettano che il nemico sia già così vicino sono in una posizione sono in una seconda linea seconda terza linea di difesa la battaglia è già alla loro altezza le difese italiane vengono sorprese e sono del resto mal organizzate la diciannovesima divisione del ventisettesimo corpo d'armata di Badoglio fa parte dell'armata di Capello è il fianco sinistro dell'armata di Capello questa divisione viene travolta in due ore una divisione tedesca la slesiana la dodicesima slesiana alle 4 del pomeriggio del 24 ottobre e a Caporetto ha già fatto 12.000 prigionieri nel primo giorno di battaglia gli italiani perdono 40.000 uomini 35.000 sono nelle mani degli austro tedeschi le ripercussioni anche sul piano politico sono immediate il 25 ottobre cioè il giorno dopo lo sfondamento a Caporetto il governo Boselli va in minoranza alla sera di quel 25 ottobre la 14esima armata austro tedesca ha il controllo di questo triangolo isontino che da plezzo passa da Saga e va a Tolmino e si chiude diciamo a Caporetto Cadorna come già il giorno precedente telegrafa al governo dieci reggimenti arresisi in massa senza combattere Cadorna ordina la resistenza oltranza sulla linea Montemaggiore Corada il Montemaggiore cade il giorno dopo sotto la pressione tedesca e siamo al 26 ottobre Cadorna ordina la seconda e terza armata devono ripiegare sul fiume Tagliamento siamo ancora a Rommel in due giorni ha percorso con i suoi soldati 18 chilometri ha catturato 150 ufficiali e 9.000 soldati italiani e ha perso solo 39 uomini il 27 per la seconda armata del generale Cappello ormai è la rotta è una ritirata caotica Cadorna infatti pensa di averla persa completamente non sa che il settore centrale è ancora abbastanza solido rende più difficili le cose perché dà la precedenza alla terza armata sul ritiro quando toccherebbe geograficamente diciamo alla seconda che può ancora ritirarsi in qualche modo in qualche ordine ma le linee di comando a questo punto sono sono quasi spezzate il comando supremo fra l'altro lascia Udine dove è stato per tutta la durata della guerra e per Treviso e Padova Cadorna a Treviso e il resto a Padova nessuno resta a contatto diretto con le armate siamo al 28 ottobre questo calendario è drammatico il calendario di questa fine ottobre sul fronte italiana i tedeschi occupano Udine Gradisca Cormons ancora Cadorna le famose parole del bollettino del comando supremo la mancata resistenza di reparti della seconda armata vilmente ritiratisi senza combattere o ignominiosamente arresisi al nemico ha permesso alle forze armate austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra sulla fronte Giulia la responsabilità della disfatta è tutta sulle spalle dei soldati dell'esercito vilmente ritiratosi senza combattere il 29 ottobre l'Italia ha un nuovo governo il presidente del consiglio è Vittorio Emanuele Orlando che era ministro dell'interno Orlando chiede come condizione al re per accettare l'incarico la testa di Cadorna la situazione ormai è ingovernabile Cadorna aveva un pessimo rapporto con il governo aveva un cattivo rapporto anche alla fine con i suoi soldati Cadorna addossa tutte le responsabilità ai suoi soldati vedremo che pochi giorni dopo Cadorna sarà esautorato il 30 ottobre la ritirata arriva al tagliamento quasi tutte le perdite sono in questi giorni con la ritirata dall'isonzo al tagliamento gli austro tedeschi hanno fatto 280 mila prigionieri ci sono 350 mila soldati italiani sbandati 40 mila tramorti e feriti 400 mila civili in fuga dalle zone occupate oltretutto resta sul terreno più della metà dell'artiglieria viveri munizioni il 31 ottobre il territorio a sinistra del tagliamento è tutto austro tedesco e solo grazie al fatto che il fiume è in piena i tedeschi non l'hanno ancora attraversato il 4 novembre Cadorna ordina il ripiegamento sul piave la 14esima armata austro tedesca in 11 giorni avanzata di 120 chilometri la corsa la sua corsa fatalmente rallenta rallenta anche perché anche i soldati soprattutto austriaci più che tedeschi sono esausti sono affamati e trovano in questa regione italiana viveri rifornimenti e la tentazione è troppo forte rallentano appunto il 7 novembre c'è una conferenza interalleata a Rapallo anche gli alleati chiedono la sostituzione di Cadorna l'8 novembre alla fine il generalissimo viene sostituito con il generale Armando Diaz Gaetano Giardino e Pietro Badoglio due generali sono i suoi vice il 10 ancora combattimenti violenti a Longarone viene occupata Belluno in serata alla sera del 10 novembre i due eserciti l'austro tedesco da una aperta l'italiano dall'altro sono ormai attestati sulle sponde opposte del Piave dallo sbocco in pianura del fiume fino al mare c'è la tragedia dei civili anche chi è potuto chi ha potuto è fuggito già nei giorni immediatamente successivi allo sfondamento ma nel territorio occupato dagli austro tedeschi ricordiamo che un'area che interessa le province di Udine Belluno Treviso Venezia Vicenza vivono ancora quasi un milione di abitanti un milione di italiani molti soprattutto nelle zone di campagna subiranno razzie saccheggi soprusi da parte dell'esercito occupante che a questo punto non può nemmeno contare sui rifornimenti dalla madrepatria quindi si deve sfamare e deve rifornirsi sul territorio saranno frequenti anche le violenze e gli stupri anche su donne anziane e bambine questa occupazione durerà un anno negli stessi giorni succede qualcosa di decisivo anche da tutt'altra parte in Russia lo Zara ha abdicato ormai da mesi dal 15 marzo il governo provvisore è nelle mani del socialista Kereski ma non si è appianata e non può appianarsi tanto è radicale la frattura tra i riformisti e i bolshevichi del Soviet fra l'altro i primi credono nella continuazione della guerra i secondi vogliono la pace subito e fomentano l'esercito perché si arrenda perché si fermi il 3 novembre sul fronte baltico i soldati russi gettono le armi e fraternizzano con i tedeschi forse è solo un episodio ma indicativo il 6 novembre il questa questa questi questi distilli arrivano al punto di frattura di rottura definitiva Kereski chiude la stampa bolshevica ma ordina ai soldati che sono alle porte della città di entrare in città per controllare Pietrogrado i soldati non obbediscono all'ordine i bolshevichi occupano i principali edifici della capitale stazioni i ponti la banca centrale il 7 novembre che per il calendario giuliano è il 25 ottobre da qui la rivoluzione d'ottobre 18.000 bolshevichi circondano il palazzo d'inverno e riescono ad occuparlo Kereski fugge Lenin è presidente del consiglio e commissario del popolo Trotsky commissario per gli affari esteri Stalin alle nazionalità è una svolta nella guerra è una svolta nella guerra almeno sul fronte orientale presto si arriverà a un armistizio con la Germania ma ci sono altri due episodi fondamentali in questa fine del 17 che che vanno segnalati due date fondamentali il 2 novembre il ministro degli esteri britannico Arthur Balfour scrive a Lord Rothschild che è il principale rappresentante della comunità ebraica britannica gli scrive che il governo britannico si impegna per la creazione di un focolare per il popolo ebraico in Palestina sarà una una svolta da questo documento dalla dichiarazione Balfour poi nascerà nascerà un giorno Israele il 13 novembre ancora si combatte in Italia falliti i tentativi di sfondamento sul Piave il generale Fombello attacca sul Monte Grappa superare i suoi 1770 metri significa dilagare nella pianura Veneta combattimenti molto violenti si susseguono fino al 21 dicembre quando gli austro-tedeschi rinunciano il 22 dicembre è il famoso discorso del Presidente del Consiglio Orlando alla Camera Orlando dice che c'è una sola via di salvezza resistere 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 la seconda data importante dicevo sul fronte internazionale è il 9 dicembre i turchi abbandonano Gerusalemme è la fine di un dominio sulla città santa che dura da 400 anni il generale britannico Allenby entra a piedi in segno di rispetto per le diverse fedi che questa città rappresenta l'11 dicembre non ha nessun segnale di trionfo non usa nessuna bandiera alleata a Roma suonano le campane a festa e anche nella cattedrale cattolica di Londra il 15 dicembre chiusura di questo 1917 a Brest Litovsk tedeschi e russi firmano l'armistizio che dal 17 dicembre segna la fine dei combattimenti sul fronte orientale il 22 si apriranno i negoziati di pace in questo momento però quasi 4 milioni di russi sono prigionieri dei tedeschi o degli austriaci vedremo che non sarà una pace facile succederà tutto nel 1918 1918 siamo all'ultimo anno della grande guerra l'anno della vittoria l'anno della resa della Germania ma ancora un anno di grandi battaglie di massacri sul fronte occidentale anche sul fronte italiano sul fronte orientale le cose sembrano finite con il 1917 con la rivoluzione d'ottobre russa ma non è esattamente così l'anno comunque comincia l'8 gennaio con un'iniziativa del presidente americano Wilson che espone davanti al congresso americano un suo piano di pace sono i 14 punti del presidente Wilson un piano che prevede alcuni principi di convivenza internazionale e in base a questi principi alcune soluzioni più precise per i territori dei terreni di crisi di questa guerra allora al primo punto Wilson impone che i trattati internazionali non siano più segreti ma che la diplomazia proceda con franchezza sotto gli occhi di tutti questo primo punto riguarda da vicino l'Italia riguarda quel patto di Londra che è stato stipulato segretamente tra l'Italia e l'intesa e che appunto prevede in caso di vittoria alcune sostanziali concessioni territoriali all'Italia non è l'unico trattato segreto che è stato stipulato in questi anni ma ripeto ci riguarda da vicino così come ci riguarda da vicino un altro punto della pace di Wilson della pace ipotizzata da Wilson che riguarda specificamente l'Italia e prevede la rettifica delle frontiere italiane secondo linee di demarcazione chiaramente riconoscibili tra le nazionalità e questo concede al nostro paese al Regno d'Italia per esempio la provincia austriaca del sud Tirolo ma sembra negare altre aspirazioni territoriali italiane la Dalmazia per esempio tra gli altri punti di Wilson c'è subito la libertà di navigazione sui mari che è messa seriamente in discussione dalla guerra sottomarina tedesca per esempio in questo momento l'abolizione delle barriere economiche e uguali condizioni per il commercio per tutte le nazioni che acconsentano alla pace uno scambio di garanzie per la riduzione degli armamenti c'è molta attenzione per le nazionalità le aspirazioni nazionali questo riguarda l'impero austro-ungarico riguarda l'impero ottomano anche se per esempio per l'impero austro-ungarico si parla di autonomia e non di indipendenza e questo sembra scontentare un po' i popoli dell'impero austro-ungarico non si fa alcun cenno alle aspirazioni a uno stato unitario dagli slavi meridionali per esempio ma comunque è già un grande passo avanti anche perché le attenzioni per le situazioni particolari riguardano ovviamente il Belgio che deve essere liberato e reintegrato nei suoi confini la liberazione del territorio della Francia invaso dalla Germania riparazioni e riparazioni ai torti di guerra e ancora un ritorno alla guerra franco-prussiana alle conquiste fatte dalla Germania nella guerra franco-prussiana la Salza Lorena la ricostituzione degli stati di Romania Serbia e Montenegro insomma c'è tutto un quadro che si conclude all'ultimo punto il quattordicesimo con l'auspicio della creazione di una società generale delle nazioni che abbia lo scopo di garantire l'indipendenza politica e l'integrità territoriale a tutti gli stati grandi e piccoli è il germe delle Nazioni Unite sarà la società delle nazioni per cui Wilson si batterà molto anche contro il congresso americano che non vedrà di buon occhio questa iniziativa e poi diventerà soltanto molti anni più tardi le Nazioni Unite ma vediamo per ora il piano di pace è di Wilson e dall'altra parte dell'Atlantico rimane sulla carta c'è un'altra pace da da definire che è quella tra Germania e Russia e qui quasi subito le cose si complicano il 10 febbraio a Brest-Litovsk che è questa località della Bielorussia al confine con la Polonia parlando di in termini attuali Trotsky il 10 febbraio fa una inattesa marcia indietro chiamiamola così cioè sintetizza nella formula né pace né guerra la situazione in sostanza non firma un trattato di pace ritenuto troppo pesante per la Russia bolcevica e nello stesso tempo annuncia la smobilizzazione dell'esercito nello stesso tempo non combatte annuncia che la Russia non combatterà ma questo non va assolutamente bene alla Germania dopo averlo annunciato il 16 febbraio i tedeschi visto che non c'è la firma sul Trattato di Pace riaprono la guerra sul fronte orientale 52 divisioni tedesche avanzano verso est di nuovo senza incontrare resistenza in pochi giorni i tedeschi avanzano di 250 km arriva finalmente il Sì russo all'armistizio ma ora le condizioni imposte dei tedeschi sono ancora più pesanti e tuttavia il 24 febbraio Lenin in prima persona a premere perché la Russia firmi l'armistizio pena il crollo del paese e il fallimento della rivoluzione Lenin arriva a minacciare dimissioni prima che il comitato centrale con 7 Sì 4 Noi 4 Astenuti voti Sì all'armistizio i combattimenti peraltro avverte il generale Hoffman che in questo momento è il comandante tedesco del fronte orientale finiranno solo dopo la firma dell'armistizio il 3 marzo finalmente viene firmato il trattato di Brest-Litovsk i bolshevichi rinunciano a qualsiasi pretesa sulla Polonia sulla Russia bianca c'è l'attuale Bielorussia sulla Finlandia l'Ucraina e su altri territori la Russia con questa firma perde un terzo della sua popolazione dei confini precedenti perde il 75% delle minerie di carbone un terzo delle terre arabili oltre metà delle sue imprese industriali negli ultimi giorni della loro avanzata i tedeschi hanno occupato Kiev che era stata a sua volta occupata prima dai bolshevichi e sono arrivati a 140 km da Pietrogrado il 12 marzo per sicurezza rispetto a questa vicinanza dei tedeschi e anche perché temono nelle zone vicine le forze contro rivoluzionarie i bolshevichi trasferiscono la capitale da Pietrogrado a Mosca è la fine veramente della guerra sul fronte orientale da parte della Germania e della Russia perché si apre un altro capitolo si apre il capitolo della guerra civile in Russia i rossi i bolshevichi contro i bianchi contro i contro rivoluzionari ma questa è ancora un'altra storia in quegli stessi giorni l'11 marzo la guerra in Italia arriva a Napoli un dirigibile tedesco partito da una base in Bulgaria bombarda la città l'obiettivo sono il porto e le alcune attrezzature industriali le bombe colpiscono i quartieri abitati della città non fanno molte vittime 16 vittime però vi segnalo questo episodio perché è indicativo della vastità di questa guerra ormai e in tutta la guerra in tutto il corso della guerra sulle città italiane saranno state 500 le incursioni aeree nemiche e avranno fatto 980 morti tra i civili quello stesso giorno l'11 marzo 1918 il diario della grande guerra segnala un'altra data importante anche se non è non è direttamente relativa a combattimenti a battaglie dobbiamo spostarci negli Stati Uniti ci spostiamo negli Stati Uniti in un campo militare del Kansas in cui le truppe americane si stanno preparando per sbarcare in Europa l'11 marzo un cuoco di questo campo militare Albert Gitchell va in infermeria ha un forte raffreddore una tosse fastidiosa e è molto debole muore dopo 4 giorni Albert Gitchell è considerato il paziente zero della forse più grave pandemia della storia recente la spagnola la spagnola in un anno ucciderà 450.000 americani 400.000 tedeschi anche tra i militari perché poi i tedeschi erano quelli forse più deboli in questo momento visti gli stenti alimentari nel paese 375.000 italiani 150.000 britannici la spagnola farà nel mondo più morti della stessa guerra della grande guerra il calcolo è difficile qualcuno azzarda 40 milioni di morti il picco di questi morti sarà in India saranno 6 milioni si chiama spagnola non perché arrivi dalla Spagna ma perché sono i giornali spagnoli che scrivono stampano in un paese che non è soggetto a censura un paese neutrale che non è soggetto a censura sono i giornali spagnoli primi a parlarne e naturalmente da quel campo americano la spagnola arriverà poi sui fronti europei con i soldati americani ma dobbiamo tornare proprio sui fronti senza dimenticare che in Germania la fame che attanaglia il paese nel 1917 sono morti di stenti e di inedia 250.000 tedeschi in Germania cresce il malcontento alla fine di gennaio c'è stata una grande manifestazione di piazza a Berlino con 400.000 persone che sono scese a protestare che hanno scioperato chiedendo una pace senza annessioni e democrazia nel paese la protesta è dilagata anche in altre città il governo ha reagito imponendo la legge marziale a Berlino e a D'Amburgo la Germania direi nella persona del generale Ludendorff a questo punto identificiamo in lui lo stratega della guerra tedesca vuole vincere la guerra nel 1918 gli imperi centrali la Germania e in subordine diciamo l'Austria e Ungheria vanno ancora una volta molto vicini alla vittoria finale il 1918 si può dividere grossomodo in due parti i primi mesi caratterizzati da queste grandi offensive tedesche e la seconda parte da una grande controoffensiva alleata che poi porterà porterà la vittoria anche perché anche i tedeschi sono stremati da questa guerra ebbene Ludendorff ha sempre come obiettivo primo quello della sconfitta dei britannici anche Ludendorff non solo Falkenhayn come abbiamo visto nel 1916 pensa a alcune offensive vuole sfondare il fronte francese sull'En sul fiume En minacciando Parigi e vuole cacciare gli inglesi dalla Somme prima dell'arrivo massiccio dagli americani gli americani hanno cominciato ad arrivare sono cominciati ad arrivare ma non non sono ancora impiegati in combattimento e vedremo le difficoltà per per farli scendere sul campo di battaglia la prima grande offensiva di Ludendorff è sulla Somme appunto con una superiorità di uomini tedesca tedesca si affrontano 192 divisioni alcune sono arrivate dall'est dopo la firma dell'armistizio contro 178 alleate principalmente britanniche in fatto di materiali la superiorità è degli alleati è schiacciante in termini di carri armati però attenzione in questa fase della guerra i carri armati sono ancora relativamente poco numerosi sono circa 800 quelli alleati a fronte di 4500 aerei e anche abbiamo visto una guerra di macchina a questo punto anche gli aerei sono diventati importanti possono essere decisivi le ostilità su questo fronte cominciano il 21 marzo con un violentissimo bombardamento nella regione della Somma appunto anche con i gas dura poco relativamente poco questo bombardamento circa 5 ore poi le truppe d'assalto tedesche passano all'attacco travolgono le prime linee inglese su un fronte di 30 chilometri e avanzano in questi stessi giorni il 23 marzo ancora un un giorno di dedicato alle macchine direi a questo enorme cannone che su ferrovia è arrivato in una foresta direi nei pressi della capitale francese ma è distante 120 chilometri e da 120 chilometri spara sulla capitale francese non ha obiettivi come dire tattici non ha non vuole distruggere la città ma vuole distruggere il morale dei parigini è un cannone costruito anche questo nell'accioieri e croup le granate impiegano quasi 4 minuti per arrivare sull'obiettivo il primo giorno il 23 marzo fanno 16 morti a parigi però appunto hanno un impatto impressionante il giorno dopo il 24 gli alleati decidono di coordinare gli sforzi finalmente si direbbe il maresciallo Ferdinand Foch francese è incaricato ufficialmente del coordinamento dell'azione degli eserciti francese e britannico dal 3 aprile sarà anche incaricato della direzione strategica delle operazioni Foch diventerà il generalissimo alleato il comandante supremo delle forze alleate sul fronte occidentale qualche giorno dopo Ludendorff sospende l'operazione Mikhail che era la prima offensiva appunto sulla Soma si è arenata su questo vecchio campo di battaglia devastato ancora devastato dalla battaglia precedente i tedeschi sono avanzati ma hanno subito perdite pesantissime e hanno fatto 90.000 prigionieri ma sono esausti demoralizzati ed erano truppe scelte subito qualche giorno dopo Ludendorff lancia il piano chiamiamolo il piano B operazione Georgette nel nord delle fiandre ancora obiettivo la costa della Manica gli inglesi ancora una volta sono colpiti ripiegano e la ritirata avviene nel caos l'11 aprile il generale Haig comandante della forza di spedizione britannica in Europa firma il famoso ordine del giorno ogni posizione deve essere tenuta fino all'ultimo uomo con le spalle al muro ma convinto che la causa è giusta ciascuno di noi deve combattere fino alla fine il 15 gli inglesi si ritirano dal crinale di Paschendal che avevano faticosamente conquistato dopo mesi di battaglia in novembre nel novembre del 17 anche i tedeschi sono allo stremo esaurita la spinta iniziale dell'offensiva si arrestano l'ultimo attacco sarà il 29 aprile in questa in questa zona succede un po' tutte queste battaglie una grande spinta iniziale un assalto poderoso lo sfondamento anche poi le forze si esauriscono è uno stilicidio peraltro di forze perché anche i tedeschi perdono tantissimi uomini perdono tantissimi uomini in termini numerici perdono i loro simboli anche il 21 aprile viene abbattuto l'aereo di Manfred von Richthofen il barone rosso avrebbe compiuto 26 anni in maggio questo pilota ormai definito asso degli assi soltanto un giorno prima aveva abbattuto il suo ottantesimo aereo nemico nessuno farà diciamo tra virgolette meglio di lui durante la prima guerra mondiale il 25 aprile del 1918 il diario minimo chiamiamolo così di questa guerra segnala un'altra morte la morte di un altro personaggio che abbiamo già incontrato in questa cronaca della prima guerra mondiale subito all'inizio l'abbiamo incontrato muore in una cella della fortezza di Theresienstadt oggi Theresien Gavrilo Princip non ha ancora compiuto 24 anni l'avrebbe fatto in luglio muore di tubercolosi era l'attentatore l'uomo che aveva il giovane che aveva ucciso il principe ereditario Sarajevo il 28 giugno del 1914 la cosa curiosa scusate passatemi il termine in questo questa morte è che il medico che l'ha curato è un chirurgo di origini ebrea anche se poi passerà a un'altra religione ma non basterà verrà internato in un campo di concentramento poi nel campo di stermino ad Auschwitz e morirà ad Auschwitz la storia del ventesimo secolo si tiene tutta drammaticamente alla fine di maggio i tedeschi scatenano una nuova offensiva sul fiume Enn anche qua il modello dell'attacco è il consueto breve intensissimo bombardamento l'assalto una rapida penetrazione che apre un barco tra il settore francese e quello inglese naturalmente gli alleati sono nel panico il primo giugno dopo tre giorni hanno già fatto 50.000 prigionieri francesi i tedeschi arrivano di nuovo alla Marna a 60 km da Parigi in questi giorni entra per la prima volta in azione anche un'intera brigata americana passano pochi giorni e avviene il consueto rallentamento dell'avanzata la battaglia si può considerare conclusa ne scatenano un'altra sul fiume Ma i tedeschi rispondono francesi e americani il 10 giugno passiamo sul fronte italiano per l'azione di un di un mass italiano motoscafo armato silurante di un gruppetto di masse erano questi motoscafi piuttosto grossi potevano tenere fino a 10 uomini di equipaggio uno è guidato dal comandante Luigi Rizzo che nei pressi dell'isola Premuda sulla costa dell'attuale Croazia affonda colpisce affonda la corazzata austriaca Santo Stefano è un grosso successo per la Marina italiana tant'è vero che questo diventerà il 10 giugno diventerà il giorno della Marina è un successo che pone termine alle ambizioni austriache in Adriatico la squadra era un'intera squadra navale austriaca quella che è stata presa di mira stava dirigendosi a sud per forzare il blocco navale del canale d'Otranto che ha finora impedito all'Austria alla Marina austriaca di rivolgersi al Mediterraneo la Marina austriaca rientra la flotta austriaca rientra nei porti e non ne uscirà mai più ma gli austriaci sono tutt'altro che domati pochi giorni dopo il 15 giugno scatenano la battaglia del sostizio è un'offensiva su un fronte di 130 km dall'altopiano di Asiago al mare gli austriaci puntano su Treviso e Venezia vogliono replicare il successo dell'ottobre precedente a Caporetto il generale Conrad che ora è a capo dell'armate del Trentino attacca dalle montagne il generale Borowicz dal Piave è una manovra a Tenaglia che forse non è partita in questo modo non è stata pensata all'inizio in questo modo Conrad insisteva per attaccare appunto dagli alti piani Borowicz dal mare scusate dal Piave l'alto comando austro-ungarico ha dato come dire ragione a entrambi e attaccano entrambi sul Piave si svolgono violenti combattimenti gli austriaci lo passano in alcuni punti ma il fiume è in piena i ponti vengono bombardati gli austriaci rimangono stretti con il fiume alle spalle pressati dagli italiani gli austriaci sono affamati e a corto di munizioni gli italiani l'Italia lancia una controffensiva è una battaglia accanita sugli altipiani soprattutto sul Montello e poi sul Piave solo il 21 giugno il comando supremo osburgico ordinerà la ritirata e è l'ultima battaglia del generale Conrad è il fallimento del generale Conrad che a metà luglio sarà collocato a riposo in quei giorni alle pendici del Montello cade un altro eroe dell'aria questa volta italiano Francesco Baracca aveva da poco abbattuto il suo trentaquattresimo aereo anche Francesco Baracca è un simbolo il suo simbolo questo cavallino rampante dipinto sull'aereo sarà adottato da un altro da un altro italiano da Enzo Ferrari per le sue automobili sempre sul fronte italiano ancora direi diario minimo l'8 luglio una granata austriaca affossalta di piave ferisce un giovane americano che è arrivato in Italia con la croce rossa americana autista di ambulanza il giovane americano è Ernest Hemingway ha 19 anni ha tentato di arruolarsi negli Stati Uniti ma non è passato alla visita medica per problemi di vista a un occhio e quindi si è si è arruolato diciamo così nella croce rossa e Hemingway stava portando cioccolata e sigarette nelle trincee italiane viene ferito appunto alla granata sarà anche decorato perché salverà alcuni altri italiani feriti dallo scopio della stessa granata e poi scriverà naturalmente anni più tardi addio alle armi in cui descriverà appunto la sua esperienza sul fronte italiano in quegli stessi giorni questa è veramente una curiosità ma la dice lunga sull'ampiezza della guerra su quella che è una guerra veramente mondiale anche se forse in questo caso soltanto nominalmente e fa un po' sorridere forse in tanto in tanta tragedia questa questa notizia il 12 luglio anche Haiti dichiara guerra la Germania il Costa Rica l'aveva già fatto in marzo il 15 luglio parte una nuova offensiva tedesca una nuova grande offensiva ma sarà l'ultima è la seconda battaglia della Marna accanto ai francesi americani combattono anche due divisioni italiane i successi iniziali sono tedeschi ma i tedeschi vanno al massacro continuano a riversarsi sul fiume e gli americani ne fanno strage il 18 luglio francesi americani passano al contrattacco con carri armati sfondano le linee tedesche e fanno 20.000 prigionieri e qui forse è la chiave di volta della guerra il 15 luglio pensavano di avere Parigia a portata di mano e di poter ricevere entro un paio di mesi proposte di pace dagli alleati il 18 tre giorni dopo scriverà il cancelliere von Ertling anche i più ottimisti tra noi sapevano che tutto era perduto ma Ludendorff non si rassegna pensa ancora alle fiandre a un attacco nelle fiandre nelle cinque offensive degli primi mesi del 1918 della primavera 1918 i tedeschi hanno guadagnato dieci volte più terreno dagli alleati nel 19 in tutto il 1917 hanno fatto 225.000 prigionieri e preso 2.500 cannoni però hanno perso quasi un milione di uomini e non hanno più rimpiazzi il 16 luglio ancora una notizia che dobbiamo dare dalla dalla Russia a Ekaterinburg i bolshevichi locali fucilano lo zar Nicola II ormai deposto e l'intera famiglia temono l'arrivo delle forze contro rivoluzionare dei bianchi e prendono questa decisione e la fine ultima dei Romanov in agosto parte la grande controffensiva alleata la prima battaglia è a est di Amiens con preparativi in gran segreto le truppe sono state fatte affluire al fronte di notte e sono state rafforzate le postazioni di artiglieria vanno all'assalto britannici e canadesi appoggiati da 435 carri armati i tedeschi sono colti alla sprovvista cedono quasi di schianto è una grande penetrazione nelle linee tedesche per Ludendorff la giornata nera dell'esercito tedesco nella storia della guerra è l'8 agosto 1918 Ludendorff si rivolgerà poi al Kaiser dicendo che è stato raggiunto il limite si dovrebbe porre fine alla guerra la situazione tedesca comincia a precipitare il 21 agosto gli anglo-francesi scatenano un'offensiva sulla Somme i tedeschi arretano una settimana dopo cominciano ad abbandonare le fiambre gli attacchi degli alleati sono violentissimi il 2 settembre gli anglo-canadesi aprono una breccia anche nella linea Indenburg qualche giorno più tardi è battaglia sul saliente di Saint-Miguel che dal 1914 era nelle mani dei tedeschi con l'appoggio di una flotta aerea senza precedenti sono quasi 1500 velivoli ci sono piloti francesi inglesi italiani anche attaccano anche 200.000 uomini della prima armata americana è la prima grande operazione condotta dall'esercito degli Stati Uniti in Europa alcune divisioni raggiungono a metà giornata gli obiettivi che si erano prefissati e nel pomeriggio vanno anche oltre un successo in questi giorni anche in Medio Oriente dilaga la cavalleria di Allenby del generale Allenby britannico il 20 settembre occupa Nazareth dopo la battaglia di Megiddo che ha visto i turchi sconfitti i turchi sconfitti e in fuga vengono bombardati diremmo senza pietà il 25 settembre i britannici sono ad Amman il primo ottobre la cavalleria di Allenby è a Damasco ha compiuto in 12 giorni una cavalcata si può dire di 600 km l'emiro faizal viene posto alla testa di un'amministrazione locale poco dopo che è entrata la cavalleria a Damasco entra anche Lawrence e poi Allenby ma per gli arabi non sarà la sospirata unificazione francesi e britannici si spartiranno in Medio Oriente dicevamo che la situazione precipita in questa fase del 1918 per la Germania e per gli imperi centrali il 27 settembre mentre in furia la battaglia delle Argonne in cui sono impegnati soprattutto gli americani e la battaglia dei canali su più a nord con gli inglesi che affrontano i tedeschi la Bulgaria chiede l'armistizio un alleato importante viene meno armistizio che sarà firmato il 29 a Salonico il 28 settembre Ludendorff ha una crisi di nervi lo si sente imprecare nel suo ufficio contro il Kaiser contro i disfattisti del Reichstag contro la Marina e i sabotatori interni e questo è appunto l'inizio della famosa teoria della pugnalata alle spalle che la guerra si è stata persa sul fronte interno piuttosto che contro i nemici contro i nemici sul campo di battaglia dopo qualche ora Ludendorff che ha riacquistato lucidità è stato anche visitato da un medico si rivolge a Indenburg e sollecita un armistizio ma spostiamoci un momento a questo punto sul fronte italiano vi segnalo soltanto due episodi precedenti a questi giorni il 9 agosto il volo di Gabriele D'Annunzio su Vienna D'Annunzio lancia volantini sulla capitale austriaca con una provocatoria esortazione alla resa il volo dura sette ore ed è stata una grande impressione in Italia ovviamente ma anche in Austria e negli altri paesi D'Annunzio si era già reso protagonista di un altro di un altro evento in questo 1918 all'inizio dell'anno l'11 febbraio aveva portato a termine con lo stesso Luigi Rizzo che abbiamo visto comandante di Mass e con Costanzo Ciano futuro gerarca fascista e padre di Galeazzo la cosiddetta Beffa di Buccari una baia austriaca in Croazia in cui anche lì aveva lanciato dei messaggi non avevano non era stata un'operazione bellica era stata proprio un'azione dimostrativa e anche questa aveva fatto molta impressione ma dobbiamo arrivare al fronte italiano siamo all'inizio di ottobre il governo italiano vede la situazione un po' sugli altri fronti preme perché l'esercito italiano passi all'offensiva il governo teme che una sconfitta dell'Austria senza una sconfitta degli imperi centrali senza una vittoria sul campo decisa da parte dell'Italia possa negare domani all'Italia quelle compensazioni quei territori quei guadagni che le spettano in base al patto di Londra in base agli accordi con gli alleati il 13 ottobre al quartier generale di Abano Terme il generale Diaz illustra il piano dell'offensiva italiana che avrà due direttrici una principale sul Piave e una sul Monte Grappa secondaria qualche giorno dopo pressato sempre da Orlando dal primo ministro Orlando Diaz passa all'offensiva non sul Piave perché il fiume è in piena in questi giorni ma sul Grappa la quarta armata del generale Giardino affronta quasi ad armi pari 11 divisioni contro 11 e con una leggera prevalenza sull'artiglieria austriaca gli austriaci sul Piave è schierata l'ottava armata del generale Caviglia più altre due piccole armate la decima che è composta da due divisioni inglesi e due italiane e la dodicesima composta da tre divisioni francesi e una italiana in questo caso c'è una netta superiorità dell'artiglieria italiana la battaglia il 24 comincia sul Grappa è una battaglia sanguinosa gli italiani non riescono ad avanzare il 26 le prime truppe italiane passano il Piave riescono a stabilire tre testi di ponte ma la situazione anche in questo caso è molto difficile gli austriaci sembrano resistere passa qualche giorno e i combattimenti furiosi sul Grappa minano le truppe italiane i soldati italiani sono esausti in cinque giorni hanno perso 28 mila uomini c'è qualche progresso sul Piave però le avanguardie cominciano a preparare il passaggio dell'ottava armata di Caviglia dall'altra parte del fronte cominciano a moltiplicarsi i casi di ribellione soprattutto fra le truppe di rincalzo austriache il 29 ottobre l'ottava armata passa il Piave le colonne austriache che si ritirano subiscono un bombardamento feroce da parte di oltre 600 aerei alleati in serata di quel 29 la cavalleria italiana è a Vittorio Veneto e questa è la seconda battaglia del Piave la battaglia di Vittorio Veneto il 30 ottobre l'ottava armata è a Vittorio Veneto inizia una manovra di accerchiamento degli austriaci sulle prealpi bellunesi gli italiani hanno già fatto 50 mila prigionieri è il tracollo austriaco il 31 le truppe asburgiche abbandonano il grappa la cavalleria italiana punta sul tagliamento quello stesso 31 ottobre ci sono rivolte a Vienna e a Budapest nella capitale ungherese viene ucciso il primo ministro Istvantissa il primo novembre ancora sporadici combattimenti ma gli austriaci ormai sono in rotta gli italiani inseguono e avanzano il 2 novembre nella notte cominciano le trattative per l'armistizio a Villa Giusti nei pressi di Padova il Consiglio della Corona a Vienna allarmato dalle notizie della disgregazione pressoché totale dell'esercito asburgico accetta le dure condizioni italiane a mezzanotte arriva diciamo il via libera per la firma dell'armistizio ma si discute ancora una clausola italiana che impone la cessazione delle ostilità 24 ore dopo la firma dell'armistizio il 3 novembre gli italiani nel primo pomeriggio alle 3 un quarto del pomeriggio sono a Trento alle 4 e mezzo i bersaglieri sbarcano dal caccio torpediniero audace a Trieste Trieste che è stata abbandonata da un paio di giorni dagli austriaci la cavalleria italiana arriva a Udine alle 18 e 20 del 3 novembre il generale Pietro Badoglio e il generale Victor Weber Benau firmano l'armistizio che entrerà in vigore alle 3 del pomeriggio del 4 novembre nelle linee austriache è il caos perché appunto il comando austriaco malinterpreta insomma questo questo ordine la tempistica e in mattinata del 3 ordine di cessare i combattimenti e deporre le armi l'ordine agli italiani invece è quello di avanzare il più possibile per guadagnare quanto più possibile il territorio quanto più possibile il 4 novembre il 4 novembre 1918 segna la fine delle ostilità sul fronte italiano a mezzogiorno il generale Armando Diaz firma il bollettino della vittoria la guerra contro l'Austria e Ungheria che sotto l'alta guida di sua maestà e re duce supremo l'esercito italiano inferiore per numero e per mezzi iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi è vinta il bollettino è più lungo ma termina con la frase forse più famosa i resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza alle 15 ora di ufficiale della cessazione dell'ostilità gli italiani sono a Udine a Cividale a Palmanova ad Aquileia non ci sono né vincitori né vinti sul Grappa mentre oltre il Piave l'esercito austriaco è proprio al collasso gli italiani in pochi giorni fanno 420.000 prigionieri le perdite italiane dell'offensiva dell'ultima offensiva sono 34.000 ma la guerra è finita e suonano le campane nelle città italiane la guerra non è ancora finita sul fronte occidentale abbiamo lasciato Ludendorff in preda a una crisi di nervi il 4 ottobre finalmente il principe Max di Baden che è cancelliere dal giorno prima dal 3 è stato scelto come figura moderata conosciuta negli ambienti internazionali è stato scelto apposta per questo per chiedere l'armistizio chiede l'armistizio al presidente americano Wilson le armate alleate stanno comunque avanzando in tutti i settori del fronte la breccia nella linea Inderburga ormai è a larga 50 km sono in difficoltà soltanto gli americani nelle argonne e la battaglia nelle argonne è impressionante l'8 ottobre arriva la prima risposta di Wilson che pone delle condizioni per avviare i negoziati e cioè l'evacuazione totale dei territori occupati in Francia in Belgio e dagli austriaci in Serbia Berlino si dice pronta a evacuare Francia e Belgio ma arriva una seconda nota di Wilson Berlino deve fermare anche la guerra sottomarina il 16 parentesi asburgica il 16 ottobre l'imperatore Carlo in un estremo tentativo di salvare il salvabile istituisce un ordinamento federale sul principio delle nazionalità per la parte austriaca dell'impero e il risultato è che il giorno dopo il Parlamento ungherese dichiara la propria indipendenza l'armistizio non è una cosa facile il 18 il generale Ludendorff comincia a fare marcia indietro bisogna continuare la guerra ma il principe Ruprecht di Baviera al cancelliere Max di Baden scrive al cancelliere Max di Baden gli americani stanno sbarcando 300.000 uomini al mese Ludendorff non capisce la gravità della situazione gli dice dobbiamo assicurare a tutti i costi la pace prima che il nemico entri in Germania guai a noi se lo facesse il 23 ottobre la terza nota di Wilson che ribadisce le precondizioni per avviare il negoziato ma scrive anche che l'America preferirebbe trattare con un governo costituzionale è probabilmente un'implicita richiesta di allontanare il Kaiser dalla Germania l'imperatore dalla Germania il 25 ottobre sui giornali tedeschi un'indiscrezione appare viene pubblicato il telegramma con cui l'alto comando tedesco che giudica indegne e inaccettabili le condizioni americane per l'armistizio chiede chiede a tutte le unità di combattere fino alla fine in realtà questo telegramma non è mai arrivato a destinazione è partito ma si è fermato diciamo alla prima stazione telegrafica perché poi è stato ritirato dall'alto comando ma fa comunque impressione che quest'ordine fosse quanto meno stato concepito il principe Max il cancelliere chiede la destituzione di Ludendorff il 26 il giorno dopo il 26 ottobre l'alto comando tedesco è a Berlino dal Kaiser a rapporto Ludendorff Indenburg e l'ammiraglio Scheer comandante della flotta d'alto mare chiedono di respingere l'ultima nota di Wilson ma anche Guglielmo II è irritato da quel telegramma dal telegramma dell'alto comando Ludendorff si dimette si dimette anche Indenburg ma le sue dimissioni e dimissioni del vecchio dell'anziano comandante in capo non vengono accettate quelle di Ludendorff sì il 28 anche Guglielmo II un po' come Carlo di Dadesburgo firma due leggi che emendano in senso parlamentare la Costituzione imperiale il cancelliere d'ora in poi avrà bisogno della fiducia del Parlamento il Kaiser l'imperatore non ha più poteri non ha più il potere di dichiarare la guerra e di stipulare trattati anche di pace fatto questo due giorni dopo Guglielmo II lascia Berlino e va a Spa sede dell'alto comando sul fronte occidentale non farà mai più ritorno a Berlino quello stesso giorno su una corazzata britannica ormeggiata in un'isola nell'isola di Lemnos nel mare Geo l'impero ottomano e gli alleati firmano l'armistizio che sarà valido dal giorno dopo dal 31 ottobre la Turchia l'impero ottomano esce dalla guerra avendo perduto 2 milioni 900 mila uomini 325 mila i morti 31 ottobre dilaga il malcontento anche fra le truppe tedesche parte dalla la rivolta diciamo così parte dalla marina la polizia militare arresta un migliaio di marinai della flotta d'alto mare che per 5 volte si sono rifiutati di obbedire all'ordine di lasciare il porto l'ammiraglio Franz von Hipper il nuovo comandante della flotta d'alto mare voleva lanciare un ultimo attacco per salvare l'onore della marina imperiale la protesta cresce manifestano anche marinai e operai nei giorni successivi la polizia spara il 3 novembre e fa 8 morti ma i sentimenti rivoluzionari passano anche nelle città tedesche del nord soprattutto a Lubecca a Hamburgo chi non sembra rendersi conto della situazione forse formalmente non si rende conto della situazione in Germania forse sono proprio gli alleati quello stesso 3 novembre a Parigi un consiglio supremo di guerra interalleato pensa a un piano di invasione della Baviera per il 1919 per concludere la guerra quel piano di invasione sarà affidato soprattutto agli italiani ma ovviamente non non se ne darà mai il via il 4 novembre ormai a Kiel i marinai hanno il controllo delle navi e liberano i marinai arrestati sventono bandiere rosse due giorni dopo i marinai ammutinati contorno a Hamburgo Lubecca Brema e altre città del nord chiedono l'abdicazione dell'imperatore e il suffragio universale per uomini e donne una nota di Lenin quel giorno la Germania ha preso fuoco e l'Austria brucia senza più controllo sui campi di battaglia gli inglesi e gli americani fanno progressi l'8 novembre nella foresta di Compiegne c'è il primo incontro su una carrozza ferroviaria tra una delegazione tedesca e un'alleata guidata dal maresciallo Foch non ci sono gli americani è il primo incontro per un cessato il fuoco per l'armistizio sul fronte occidentale il nove sto facendo un po' la cronaca di questi giorni perché si vede come precipita la situazione in Germania il nove a Spa alto sede dell'alto comando tedesco il generale Gröner che ha sostituito Ludendorff informa l'imperatore che su 11 città tedesche compresi i porti principali sventola la bandiera rossa Gröner ritiene che l'esercito se chiamato non interverrebbe a sedare la rivolta a Berlino centinaia di migliaia di persone sono in piazza i militari si impegnano con il partito socialista con la SPD a non intervenire il 9 novembre diciamo di sua iniziativa il principe Max di Baden cancelliere annuncia l'abdicazione di Guglielmo II e subito dopo dà le dimissioni Philip Scheidemann vice segretario della SPD all'insaputa del governo e del proprio partito temendo un'azione dei più delle azioni più a sinistra dei rivoluzionari proclama a sua volta la Repubblica dalla Reichstag nello stesso momento in effetti Karl Liebknecht che aveva fondato con Rosa Luxemburg la Lega Spartachista e che di lì a pochissime settimane fonderà il Partito Comunista di Germania proclama invece la Repubblica Socialista in Germania dal Palazzo Imperiale ma passa diciamo la linea dell'SPD nuovo cancelliere e il segretario del partito Friedrich Hebert nella notte del 10 il governo tedesco dà il via libera per l'armistizio la Germania lascerà immediatamente Francia Belgio Lussemburgo Alsazia Lorena le truppe tedesche queste sono le condizioni degli alleati le truppe tedesche evacueranno la Germania occidentale fino alla riva sinistra del Reno le truppe alleate occuperanno Magonza Coblenze e Colonia a est le truppe tedesche saranno rischierate entro i confini della Germania del 1914 prima dell'inizio della guerra la Germania dovrà consegnare tutti i sommergibili le navi le navi da guerra 5.000 pezzi d'artiglieria 1.700 erit e treni 5.000 locomotive e una quantità di carrozze ferroviarie ricordiamo che i treni erano stati il principale mezzo di trasporto delle truppe tra i vari fronti in Germania si continua a combattere nel frattempo ma la Germania non è più in grado di rispondere all'offensiva alleata dai primi di agosto quando è cominciata questa grande offensiva controoffensiva alleata sono stati fatti 363.000 prigionieri Guglielmo II quello stesso 10 novembre si rifugi in Olanda ma firmerà l'atto ufficiale di abdicazione soltanto il 28 novembre siamo all'11 novembre 1918 da difendere 1568 giorno di guerra alle 5.10 del mattino la firma dell'armistizio Matthias Herzberger un cattolico del centro capo della delegazione tedesca afferma che le condizioni provocheranno fame e anarchia in Germania l'ultima sua frase è una nazione di 70 milioni di abitanti soffre ma non muore alle 11 dell'undicesimo giorno dell'undicesimo mese dal 1918 cessano le ostilità sul fronte occidentale sulla Mosa si è combattuto fino all'ultimo alle 10.59 un minuto prima dell'armistizio cade l'ultimo soldato americano è stato calcolato che nelle ultime 11 ore di battaglia cioè nella battaglia dell'11 novembre ci sono state 10.900 perdite da entrambe le parti in 11 ore il 10% in più del 6 giugno 1944 giorno dello sbarco in Normandia la guerra comunque sul fronte occidentale è finita suonano le campane nelle capitali europee nelle capitali degli alleati non è ancora finita la guerra su altri fronti in Africa bisogna aspettare il 25 novembre perché il generale tedesco von Lethoff-Forbeck alla testa di quello che è rimasto della sua unità 150 militari tedeschi più all'incirca 2000 ascari si arrenda agli inglesi in Africa orientale von Lethoff-Forbeck ha subito il primo attacco britannico nel novembre 1914 ha combattuto si è sempre disimpegnato prima di essere sconfitto anche perché i suoi ascari erano quasi immuni dalle malattie che contraevano invece gli alleati in Africa e quindi si arrende soltanto il 25 novembre in Africa la guerra finisce il 25 novembre vedremo nel 1919 negli anni seguenti come sarà difficile la pace conquistata sul campo di battaglia e siamo al 1919 siamo fuori dalla prima guerra mondiale ma le questioni sono ancora aperte terminata la guerra l'11 novembre sul fronte occidentale con l'armistizio tra gli alleati e la Germania bisogna affrontare la pace il 18 gennaio si apre formalmente la conferenza di pace a Parigi tre giorni prima però c'è un episodio inquietante accade un episodio inquietante a Berlino ed è l'assassinio di due importanti esponenti politici Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht la Luxemburg e Liebknecht hanno fondato negli anni della guerra la Lega Spartachista che poi proprio a cavallo tra dicembre e gennaio è diventata il partito comunista della Germania e in Germania è in atto questa che poi sarà definita la rivolta di gennaio la rivolta spartachista sull'onda ovviamente un po' della rivoluzione d'ottobre russa un po' dei movimenti politici di sinistra la sinistra estrema diciamo non ha ottenuto quello che voleva la proclamazione di una Repubblica socialista è stata proclamata alla Repubblica ma dai socialdemocratici e c'è un governo socialdemocratico in Germania il governo socialdemocratico ha in qualche modo preso accordi con i militari ha stretto una tacita alleanza con i militari e sono proprio militari non si sa ancora bene se regolari o di questi fra i corps che erano questi corpi franchi queste milizie uscite dalla guerra che fermano Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht li arrestano li torturano anche e poi li ammazzano la rivolta di gennaio è repressa nel sangue da un governo socialdemocratico i tempi richiedono sembrano richiedere anche questo ma torniamo a Parigi il 18 gennaio dunque si apre ufficialmente la conferenza di pace conferenza di pace attenzione alla quale non sono ammessi gli stati sconfitti e neppure la Russia perché nessuna delle potenze alleate o associate l'ha riconosciuta addirittura qualche qualche tempo dopo qualche settimana più tardi un autorevole esponente della politica britannica e del governo britannico Winston Churchill informerà Downing Street della necessità di preparare un piano di guerra contro la Russia Churchill ha detto in questi giorni al primo ministro Lloyd George che riconoscere i bolshevichi sarebbe come legalizzare la sodomia Lloyd George comunque non accetterà ovviamente la richiesta di Churchill ritenendo che una guerra contro la Russia non farebbe che rafforzare il bolshevismo in Russia e crearlo in casa ed è contrario anche il presidente Wilson il presidente Wilson che è arrivato in Europa è il primo presidente americano in carica che lascia agli Stati Uniti per il vecchio continente è stato accolto con modo trionfale nelle capitali europee anche in Italia in Italia in Francia è stato accolto come il liberatore come il vincitore della guerra in fondo però la conferenza appena iniziata diciamo si blocca si arena perché Lloyd George il premier britannico è impegnato nella campagna elettorale e Wilson deve tornare in America gli incontri decisivi avverranno tra il 14 marzo e il 7 maggio viene istituito comunque un consiglio supremo interalleato in un primo tempo si chiama consiglio dei dieci perché è formato dai cinque primi ministri e dai cinque ministri degli esteri di Stati Uniti Gran Bretagna Francia Italia e Giappone sarà presto poi ridotto diciamo a quattro ai quattro grandi perché il Giappone sarà coinvolto soltanto nelle questioni relative all'Oriente e non all'assetto dell'Europa Wilson dunque è una presenza importante in questa conferenza il 7 febbraio del 1919 il primo ministro italiano Orlando scrive un telegramma al re Vittorio Emanuele III dopo un colloquio con il presidente americano e avverte che le divergenze si presentano incolmabili le divergenze tra le richieste dall'Italia o quelle che saranno le richieste dall'Italia e la posizione degli Stati Uniti un solo esempio il nei 14 punti del presidente Wilson inunciate dal presidente Wilson al congresso americano i 14 punti per la pace inunciate all'inizio del 1918 e che costituiscono un po' diremmo la bozza di questa conferenza di pace si parla ovviamente di impegno a riconoscere nazionalità l'autodeterminazione dei popoli c'è una questione aperta per quanto riguarda l'Italia che è per esempio Fiume la città di Fiume si è dichiarata nei mesi precedenti della conferenza si è dichiarata italiana ma Fiume non rientrava negli accordi del patto di Londra e il patto di Londra era un patto segreto sconfessato nella sua forma da uno dei punti delle dichiarazioni di Wilson al congresso americano e dal piano di pace di Wilson quindi c'è qualcosa che non funziona tra le richieste italiane e l'approccio degli Stati Uniti dell'America alla pace alla conferenza di pace ma le divergenze sono pesanti anche tra gli altri alleati tra l'idealismo di Wilson da una parte il realismo il pessimismo della Francia dall'altra la Francia è il paese tra gli alleati che si presenta subito come il più intransigente il rappresentante della Francia è il presidente Clemenceau Clemenceau è il più anziano dei quattro dei quattro grandi gli altri appunto sono Orlando per l'Italia Lloyd George il primo ministro per la Gran Bretagna e Wilson per gli Stati Uniti è il più anziano a 78 anni ha visto per la seconda volta il suolo francese violato da un esercito tedesco la prima era stata nella guerra la prima volta era stata nella guerra franco-prussiana del 1870-71 Clemenceau ha un intento estremamente punitivo sarà il più duro nei confronti della Germania e sarà il più duro a porre le condizioni di pace anche per quanto riguarda diciamo le conseguenze morali di questa pace le conseguenze morali che saranno poi conseguenze economiche perché preme Clemenceau perché venga riconosciuta la colpa dell'avvio del conflitto alla Germania e ai suoi alleati ricordo ancora che è al momento una discussione tra alleati è una discussione tra i paesi vincitori tra i principali paesi vincitori fino al momento in cui verrà presentato alla Germania il documento ufficiale del trattato la Germania non interviene non c'è non è presente a Parigi e quando le verrà presentato il documento non avrà margine di trattativa il 25 marzo c'è un'importante presa di posizione di Lloyd George il primo ministro britannico che è indicativa del clima Lloyd George scrive il cosiddetto memorandum di Fontainebleau è il 25 marzo del 1919 in cui avverte che lo spirito della vendetta nell'ora della vittoria non favorirebbe la giustizia e la riconciliazione tra i popoli europei ma soltanto il revancismo tedesco e dall'altro lato la propaganda bolshevica e in tal caso mette in guardia gli alleati il bolshevismo russo potrebbe godere dell'appoggio dei più abili organizzatori di risorse nazionali esistenti al mondo sembra quasi rendere l'onore delle armi ai tedeschi con questa frase e nello stesso tempo mettere in guardia soprattutto i francesi mettere i tedeschi sotto il dominio altrui perché di questo anche si parla parte dei tedeschi vorrebbe dire disseminare l'Europa di Alsazio e Lorene che era stata appunto l'Alsazio e Lorena conquistata dai prussiani nella guerra del 1170 era stato poi uno dei nodi insomma della nello scoppio della guerra del grande conflitto la Francia però non sente ragioni Clemenceau pensa che i tedeschi di Danzica debbano andare alla Polonia per esempio c'è quest'altra questione uno sbocco al mare alla Polonia e dividere in sostanza in due parti la Prussia ma fermiamoci un momento a questo marzo perché il 23 marzo accade una cosa importante sul piano nazionale italiano a Milano Benito Mussolini fonde i fasci di combattimento è un segnale è il germe di quello che sarà il partito nazionale fascista questo movimento diciamo fa parte di un di un clima che si respira il clima dei reduci in Italia sarà coniugato con una parola combattentismo nascono le associazioni di ex combattenti intesa perpetuare il cameratismo c'è stata una grande delusione tra i militari tra i soldati per il ritorno alla vita civile cresce in tutti i paesi il risentimento verso il governo verso la società borghese che è rimasta a casa dico anche negli altri paesi non soltanto in quelli sconfitti in quelli che hanno qualcosa da recriminare perché il ritorno alla vita civile vuol dire il ritorno a un lavoro che spesso non c'è molti impieghi sono stati affidati alle donne ma in ogni caso l'industria in questo momento non è non è al massimo molte industrie belli che devono essere riconvertite non gira più a pieno ritmo l'industria l'industria bellica quindi ci sono seri problemi in tutti i paesi tranne invece Francia e Gran Bretagna in molti paesi a opera dei veterani c'è una una specie di militarizzazione della politica perché questi movimenti di reduci si fanno movimenti politici chiedono hanno istanze da portare avanti hanno richieste da fare al governo in Germania questi movimenti di reduci accusano il governo repubblicano di aver pugnalato la nazione alla schiena si costituiscono questi corpi armati paramilitari come abbiamo visto tra i corpi in Germania che sarà responsabile quasi certamente dell'assassinio di Rosa Luxemburg e di Karl Liebknecht c'è un inquietante ricorso alla violenza armata nella lotta politica in Germania nell'arco di pochi mesi verrà ucciso un importante esponente politico cattolico e soprattutto il 24 giugno giugno del 1922 sempre questi corpi paramilitari uccideranno Rathenau il ministro degli esteri della Repubblica di Weimar che è stato un importante responsabile dell'approvvigionamento negli anni della guerra industriale ebreo il padre aveva fondato il colosso Aege e Rathenau appunto verrà ucciso verrà però riconosciuta la sua figura con un funerale a cui parteciperanno milioni di persone sciopero generale in Germania però è l'omicidio politico che fa nascere qualche cosa che vedremo poi negli anni torniamo a Parigi alla conferenza di pace il 20 aprile il primo ministro italiano Orlando chiede ufficialmente Fiume all'Italia gli alleati negano questa richiesta Fiume ha una maggioranza italiana peraltro e è in una periferia slava si oppone Wilson si oppongono anche gli altri alleati il punto è che tutta la situazione in Europa è radicalmente cambiata anche dai quattro anni precedenti anche dal 1915 quando è stato siglato il patto di Londra a questo punto non c'è più un grande impero austro-ungarico a cui appunto chiedere delle compensazioni ma è già nato un regno dei serbi dei croati e degli sloveni che però fanno parte diciamo delle potenze vincitrici comunque non erano nella triplice alleanza anzi la guerra è stata scatenata proprio da un intervento dell'Austria contro i serbi e questo la nascita in sostanza di quella che sarà poi la Jugoslavia ostacola ulteriormente le rivendicazioni italiane Orlando il 20 aprile a Parigi ha un crollo emotivo e scoppia a piangere pochi giorni dopo con un atto assolutamente irrituale il presidente americano Wilson si rivolge direttamente al popolo italiano con un manifesto che sarà pubblicato sui giornali italiani del 25 aprile in cui sostiene che il patto di Londra debba essere accantonato vista appunto le circostanze radicalmente mutate e che l'Italia dovrebbe essere soddisfatta dall'acquisizione dei territori del Trentino e dell'Alto Adige non si parla più di di fiume di Dalmazia e terre che dovranno andare invece alla Croazia al nuovo regno dei croati dei serbi e degli sloveni per il primo ministro Orlando per il governo italiano è uno schiaffo intollerabile Wilson ha in pratica sconfessato il governo italiano o comunque tenta di contrapporre il popolo italiano al suo legittimo governo scavalcando i normali canali diplomatici il giorno dopo il 24 aprile il giorno dopo del manifesto non della sua pubblicazione il 24 aprile del 1919 Orlando lascia la conferenza di pace arriva a Roma e sarà accolto come un eroe nazionale con viva Orlando viva fiume viva l'Italia ottiene in Italia la fiducia il 7 maggio sia Orlando sia Sonnino il ministro degli esteri tornano alla conferenza di pace naturalmente ogni tentativa di raggiungere un compromesso su fiume fallirà quello stesso 7 maggio viene data ai tedeschi la bozza del trattato di pace è il ministro degli esteri tedesco che la riceve ma subito dopo poche ore dopo viene respinta questa bozza appunto perché all'interno del trattato c'è la clausola che la Germania in sostanza sia l'unica responsabile della guerra in questi giorni ci sono anche prese di posizioni di Mussolini per esempio Mussolini scrive che a Parigi si uccide l'onore dall'Italia si va contro il primo ministro Orlando si tratta di un rammollito che si tira innanzi a furia di zabaglioni concentrati una caporetto diplomatica per l'Italia e comincia un po' entrare in crisi appunto la fiducia comunque per il primo ministro Orlando in quei giorni la delegazione tedesca protesta contro le proposte degli alleati le pretese fanno oltre la forza del popolo tedesco i tedeschi accennano alcune controproposte ma saranno respinte non tutti però sono d'accordo su questa linea dura il 7 giugno ci sono delle dimissioni eccellenti diciamo anche in queste ultime angosciose settimane ho continuato a sperare che trovaste un modo qualunque per fare del trattato un documento giusto e realistico ma ora è troppo tardi evidentemente la battaglia è perduta chi scrive queste parole è un delegato del tesoro britannico un economista di 37 anni si chiama John Maynard Keynes e comunica con queste parole al premier britannico le proprie dimissioni dall'incarico di rappresentante del tesoro a Versailles alla conferenza di pace Keynes si ritirerà nel Sussex per scrivere in meno di due mesi un testo fondamentale di politica economica per tutto il ventesimo secolo le conseguenze economiche della pace in questo quadro si segnalano ancora dei fuochi di guerra il 15 maggio i greci sbarcano a Smirne e cominciano diciamo una guerra contro i Turchi accolti come liberatori dai cristiani della regione i greci hanno presto ragione degli ottomani occupano Smirne e avanzano nell'interno ma pochi giorni dopo il generale turco Mustafa Kemal che abbiamo già conosciuto e che diventerà un personaggio fondamentale nella neonata Repubblica Turca comincia a organizzare la resistenza in questi giorni in queste settimane siamo all'inizio dell'estate gli americani si ritirano dalla Russia gli americani erano nel nord della Russia da tempo dovevano proteggere la ritirata della legione cecoslovacca erano ad Arcangelo a Vladivostok in una guerra non dichiarata contro l'armata rossa gli americani hanno avuto più di 200 morti tra malati e caduti in battaglia il 12 ottobre faccio un salto di questo 1919 si riterranno anche gli ultimi britannici dalla Russia che invece hanno perso quasi un migliaio di uomini in questo territorio torniamo a giugno all'inizio dell'estate la crisi in Italia arriva al punto di svolta il 19 giugno cade il governo Orlando che non è stato in grado di portare a casa dei risultati più pesanti dalla conferenza di pace di Versailles gli succede Francesco Saverionitti Sonnino resta a Parigi per firmare il trattato di pace lo stesso giorno il 19 giugno il cancelliere tedesco Scheidemann si dimette pur di non firmare un trattato che ritiene eccessivamente punitivo per la Germania e le dimissioni di Scheidemann pongono fine al primo governo di coalizione della neonata repubblica tedesca il 21 giugno altro episodio clamoroso da parte dei tedeschi si autoaffonda la flotta tedesca che è stata confinata dalla fine di novembre del 18 poche settimane dopo l'armistizio nella baia di Scapa Flow che era un po' la base della flotta della Royal Navy della flotta britannica prevedendo che tra le clausole del trattato vi siano anche la consegna delle navi della guerra tedesca agli alleati il comandante della flotta ordina l'autoaffondamento alle 5 del pomeriggio sono affondati 15 delle 16 navi principali 5 degli 8 incrociatori 32 dei 50 cacciatorpedinieri alcuni marinai tedeschi sono stati uccisi dai britannici per non aver obbedito all'ordine di interrompere le manovre di autoaffondamento è stata cancellata è stata cancellata dal blasone della flotta tedesca la macchia della resa dirà l'ammiraglio Scheer comandante supremo della flotta tedesca siamo vicini alla conclusione siamo vicini alla firma ma indignati da questo estremo atto di sfida gli alleati pongono un ultimatum ai tedeschi rifiutano qualsiasi modifica dal trattato di pace e danno alla Germania 24 ore di tempo per sottoscriverlo è pronto in caso contrario un piano di invasione della Germania messo a punto dal generale Foch i tedeschi firmeranno nel tardo pomeriggio del 23 giugno quando manca poco alla scadenza dell'ultimatum il governo tedesco consente a firmare obbligato una pace disonorevole le cui condizioni gli appaiono di inaudita ingiustizia il 28 giugno lo stesso giorno dell'attentato di Sarajevo nella galleria degli specchi della Regio di Versailles la stessa in cui il 18 gennaio 1871 era stato proclamato l'impero tedesco viene firmato il trattato di pace che mette fine alla prima guerra mondiale sono presenti un migliaio di delegati politici e militari i tutti nel centro del salone al tavolo principale i più alti rappresentanti dei paesi alleati che fanno entrare i tedeschi è lo stesso Clemenceau che dice fate entrare i tedeschi e un delegato britannico annota nel suo diario si sono avvicinate al tavolo in un silenzio terrificante con gli occhi fissi al soffitto mortalmente pallidi tensione generale firmano generale sollievo non appena hanno firmato sono due delegati sono due rappresentanti diciamo di secondo piano del governo tedesco non appena hanno firmato vengono riattivate le grandi fontane di Versailles che hanno state chiuse nel 1914 allo scoppio della guerra firmano i rappresentanti di 32 paesi le principali potenze alleate Stati Uniti Impero Britannico Francia Italia Giappone le potenze associate con in testa il Belgio il Portogallo la Romania e poi tutti gli altri anche alcuni che non hanno partecipato direttamente alla guerra Bolivia Brasile Cecoslovacchia Cina Cuba Ecuador Grecia Guatemala eccetera eccetera firmano anche per arrivare ai 32 paesi firmano anche i rappresentanti dei Dominions Britannici il Canada la Nuova Zelanda dell'Australia i primi articoli del Trattato di Versailles istituiscono la società o Lega delle Nazioni fortemente voluta dal Presidente Wilson il suo obiettivo principale è il mantenimento della pace sia attraverso un'azione diplomatica sia attraverso la riduzione degli armamenti la Germania non è ammessa entrerà più tardi nel 1926 non entrano negli Stati Uniti perché il Senato americano non ratificherà il Trattato di Versailles non entra la Russia che non è nemmeno presente alla conferenza di pace l'Unione Sovietica sarà ammessa soltanto nel 1934 il Trattato di Versailles poi naturalmente ha le condizioni di pace facile da difendere che entreranno in vigore il 10 gennaio dal 1920 oltre alle colonie a tutte le sue colonie la Germania perde il 13% del suo territorio e il 10% della sua popolazione circa 6 milioni e mezzo di abitanti inclusi danesi polacchi e altri di altre nazionalità che erano comunque cittadini del Secondo Reich subisce una drastica limitazione delle forze armate ed è fortemente penalizzata sul piano finanziario anche se anche se gli alleati al momento non sono ancora d'accordo sull'entità e le modalità di queste riparazioni di guerra ora nel trattato di pace ci sarà la famosa clausola della colpevolezza l'articolo 231 che stabilisce il principio della responsabilità della Germania e dei suoi alleati quali autori di una guerra di aggressione cito testualmente di tutte le perdite e di tutti i danni subiti dai governi alleati e dai loro cittadini in conseguenza del conflitto è in sostanza il preambolo di una richiesta di riparazioni un preambolo fortemente osteggiato dai tedeschi il trattato quindi impone alla Germania l'obbligo di risarcire i danni e affida a una commissione delle riparazioni che si è costituita per questo scoperto di determinare l'ammontare complessivo di questi danni e di notificarla alla Germania entro il primo maggio del 1921 e di stabilire anche le modalità di pagamento tra le altre condizioni del trattato di Versailles dalle altre condizioni punitive per la Germania condizioni normali diremmo per un trattato di pace al termine di una guerra per esempio tutta la Renania diventa zona di sicurezza territoriale al confine con il Bengio e la Francia tutta la regione deve essere demilitarizzata non può avere alcun tipo di fortificazione né insediamenti di forze armate e a proposito di forze armate alla Germania si nega un esercito di leva in sostanza devono essere tutti volontari abolita la costituzione obbligatoria e i volontari devono avere un periodo di ferma di almeno 12 anni per i soldati di 25 per gli ufficiali vietata l'importazione di armi e munizioni materiale bellico così come la costruzione di carri armati la Germania non potrà più avere sommergibili le forze armate tedesche non potranno avere un'aviazione militare o marittima alla Francia già come riparazione di guerra in partenza diciamo è riconosciuta per 15 anni la proprietà e quindi lo sfruttamento delle miniere di carbone e il bacino della Sare la conferenza di Parigi ovviamente è tutta diciamo centrata sul rapporto e sul trattato di pace con la Germania ma vengono affrontate anche le situazioni con gli altri paesi belligeranti con le altre potenze sconfitte però tutti i dettagli diciamo vengono demandati a successive conferenze per esempio il 10 settembre dello stesso anno dello stesso 1919 le potenze vincitrici firmano il trattato di pace con l'Austria che stabilisce e questo molto importante la ripartizione del dissolto impero austro-ungarico al regno d'Italia vanno il Tirolo meridionale con Bolzano e Cortina d'Ampezzo il Trentino la zona di Gorizia e Gradisca Trieste e Listria alla Repubblica Cecoslovacca che si è costituita nel dicembre del 1918 la Bohemia la Moravia la Slesia e la regione dei Sudeti che forse vi dirà qualcosa insieme a corridoio di Danzica dove appunto che si è conquistata altra del tavolo della pace la Polonia la regione dei Sudeti è abitata da una popolazione tedesca che non vuole nemmeno andare con la Cecoslovacchia e questo risentimento sarà uno dei motivi su cui si muoverà poi Hitler a Sud-Est il Regno dei Serbi dei Croati e degli Sloveni si compone anche di Dalmazia Bosnia e Derzegovina che erano tutti impero austro-ungarico l'Austria che è ormai una repubblica dal novembre 1918 è ridotta a un piccolo stato con circa 7 milioni di abitanti e solo la capitale ne ha 2 milioni l'Austria non potrà annettersi alla Germania c'era stata una sorta di referendum popolare appena proclamata alla Repubblica e sembrava appunto che la volontà popolare andasse invece in questa direzione non potrà chiamarsi nemmeno Austria tedesca dovrà chiamarsi semplicemente Austria ovviamente anche questo trattato è fortemente limitativo delle forze armate austriache anche l'Austria non potrà avere aviazione militare e dovrà distruggere e riconvertire le fabbriche d'armi in questi giorni il 12 settembre con un colpo di mano torniamo alla questione di fiume Gabriele D'Annunzio alla testa di un contingente di granatieri di Sardegna occupa fiume rivendicandone l'italianità che certo era stata proclamata diciamo dagli stessi fiumani e infatti D'Annunzio acclamato dalla popolazione dal palazzo del governo di fiume con il suo stile diciamo oratorio proclama io soldato io volontario io mutilato di guerra credo di interpretare la volontà di tutto il sano popolo d'Italia proclamando l'annessione di fiume l'impresa di fiume che un po' come le altre simile alle altre imprese d'annunzio durante la guerra ha però un carattere importante e rivelatorio è un po' il frutto è il primo frutto di un certo clima di un di un clima che si respira in Italia e la cui parola d'ordine è vittoria mutilata i politici soprattutto i politici liberali sono quelli che hanno perduto al tavolo della pace i risultati il prestigio che il popolo italiano i suoi soldati si erano guadagnati spargendo sangue nelle trincee anche a vantaggio degli alleati che non appunto questo tavolo della pace non hanno fatto granché d'annunzio resterà padrone di fiume per 15 mesi irritando anche il governo italiano ovviamente ne farà uno stato indipendente e soltanto il bombardamento della città da parte dell'Andrea Doria e alcune decine di morti negli scontri lo costringeranno alla resa alla fine del 1920 proprio il 31 dicembre 1920 ma in questa estate torniamo ancora indietro un momento alla guerra rimanendo in Italia in questa estate il 24 luglio la commissione di inchiesta su Caporetto che è stata istituita subito dopo la disfatta un mese un mese dopo la disfatta di Caporetto presenta al capo del governo Nitti le conclusioni del suo lavoro che è stato un lavoro molto impegnativo la commissione in 240 sedute iniziate quello stesso in quegli stessi mesi nel febbraio del 18 ha ascoltato oltre mille testimoni ed esaminato un gran numero di documenti nella redazione finale questa commissione indica come responsabili del disastro di Caporetto Cadorna e altri alti ufficiali tra i quali anche il suo antagonista sul campo diciamo il generale Capello ma ignora altri alti ufficiali come Badoglio che era a capo del corpo d'armata che è stato travolto quello che ha ceduto più rapidamente all'avanzata austro-todesca d'altra parte forse non era così facile indagare su Caporetto con un governo presieduto da quello che in quei giorni o che prima anche era stato il ministro dell'interno con coinvolto diciamo un generale Badoglio che nella fase dei lavori della commissione era diventato vicecomandante supremo dell'esercito sotto Diaz o un altro come Giardino ex ministro della guerra che era a sua volta anche egli vicecomandante supremo accanto a Badoglio quindi questo fatto della commissione che ignora Badoglio ha fatto molto discutere gli storici però appunto sono da considerare anche questi aspetti sarà in qualche modo Mussolini a riabilitare Cadorna in nome del ricordo della memoria della grande guerra diciamo dell'ultima guerra risorgimentale facendolo maresciallo d'Italia insieme a Diaz al Duca della Vittoria e però il lavoro della commissione rinfocola le polemiche tra diciamo ex interventisti ed ex neutralisti anche perché dal primo luglio è stata abolita la censura sulla stampa e appunto si riapre questa polemica tra socialisti e giolittiani da una parte e gli altri dall'altra gli interventisti dall'altra comincia in Italia a prendere corpo un certo vento di destra perché appunto gli ex neutralisti socialisti e giolittiani vengono visti come quelli che denigrano le forze armate insomma è un discorso che rientra un po' in quella pugnalata alle spalle che è più propria della Germania in ottobre succede una cosa importante a Washington o negli Stati Uniti il presidente Wilson che non ha ancora ottenuto dal Senato americano il voto sul tratto di Versailles è colpito da un ictus Wilson in settembre ha compiuto un lunghissimo viaggio negli Stati Uniti toccando 29 città e tenendo numerosi discorsi per sostenere il suo progetto della società delle nazioni che ha versato dal Senato il Senato americano ha una minima maggioranza repubblicana e ha in questo una forte tendenza isolazionistica i repubblicani non vogliono essere coinvolti in questa società delle nazioni infatti il 19 novembre il Senato respingerà il trattato di pace di Versailles che contiene appunto all'interno la costituzione della società delle nazioni ritorniamo in Europa perché in Europa si combatte una guerra si combatte una guerra in Russia una guerra civile feroce in ottobre il 20 ottobre del 1919 è una giornata decisiva ed è a favore dei bolshevichi perché l'armata rossa riesce a fermare l'avanzata dei bianchi quando le truppe del generale Judenich sono alle viste di Pietrogrado anche l'altra avanzata l'altra grande avanzata dei bianchi da sud del generale De Nikin che in agosto aveva occupato Odessa e Kiev è ferma è bloccata dovremo aspettare in febbraio perché i bolshevichi riprendono il controllo anche del nord del paese e poi vedremo come si evolverà la situazione anche su questo fronte ancora una pace il 27 novembre a Neuilly sur Seine la pace con la Bulgaria la Bulgaria deve cedere dei territori e anche essa la Macedonia il regno dei serbi i croati sloveni deve lasciare la Dobrugia del sud alla Romania e la traccia occidentale alla Grecia perde ogni sbocco sul Mediterraneo nel 1920 il 19 marzo il senato americano respinge definitivamente il trattato di Versailles formalmente gli Stati Uniti sono ancora in guerra l'unico paese ancora in stato di guerra con la Germania il 15 maggio il congresso voterà una risoluzione alternativa per sanare la situazione ma il presidente Wilson rifiuterà di firmarla dovrà farlo il suo successore riassetto dell'Europa riassetto del Medio Oriente il 26 aprile a Sanremo si conclude una conferenza sul futuro assetto degli ex territori dell'impero ottomano viene approvata la redazione finale di quello che sarà il trattato di Sevre che sarà firmato il 10 agosto del 20 e questo trattato stabilisce i nuovi confini e i mandati cioè da parte della società delle nazioni si dà mandato viene istituito questa nuova istituzione internazionale del mandato viene affidata una potenza l'amministrazione di un paese che non si ritiene ancora di un paese nuovo che non si ritiene ancora in grado di autogoverno e il trattato di Sevre la conferenza di Sanremo e poi il trattato di Sevre affidano il mandato sulla Palestina e la Mesopotamia alla Gran Bretagna e il mandato sulla Siria e Libano alla Francia il 4 giugno un altro trattato di pace con un'altra potenza che faceva parte dell'impero austro-ungarico ma ormai è a parte con l'Ungheria è il trattato del Trianon dal nome di un palazzo di Versailles dove viene firmato l'Ungheria perde all'incirca due terzi del suo territorio a favore di Cicoslovacchia al nord Romania est regno dei serbi dei croati di Slovenia sud la popolazione è ridotta da 19 a 7 milioni l'Ungheria perde anche l'accesso al mare che aveva attraverso l'attuale Croazia in luglio una conferenza interalleata sulle riparazioni di guerra non arriva nessun risultato sull'entità ma fissa sull'entità assoluta diciamo ma fissa le percentuali di queste riparazioni di guerra tedesche il 52% andrà alla Francia il 22% all'impero britannico il 10% all'Italia l'8% al Belgio e il resto le briciole diciamo ad alcuni altri paesi sempre in tema di trattati andiamo al 12 novembre con il trattato di Rapallo questi poi sono trattati e conferenze diciamo che a due per esempio in questo caso il trattato di Rapallo interessa l'Italia e la Jugoslavia chiamiamola Jugoslavia il regno dei serbi dei croati e degli sloveni firma Giovanni Giolitti presidente del Consiglio Italiano e Milenko Vesnic primo ministro del regno dei serbi dei croati e degli sloveni all'Italia vanno Trieste Gorizia Gorizia Gradisca e l'Istria come abbiamo visto già in parte con l'accordo con l'impero austro-ungarico Roma cede tutta la Dalmazia tranne quattro isole nasce lo stato libero di fiume con questo trattato 350.000 ex sudditi dell'impero austro-ungarico di lingua italiana ottengono la cittadinanza italiana 15.000 diventano sudditi del regno dei serbi dei croati e degli sloveni il 16 novembre è la fine della guerra civile in Russia siamo nel 1920 ancora ricordo la fine del 1920 gli ultimi bianchi lasciano la Russia per Costantinopoli è stata una guerra terribile lontana dai riflettori ovviamente vista la vastità del paese vista il regime che è stato instaurato una guerra che insieme alle carestie e alle malattie connesse alle malattie che ci sono state in questo periodo anche per gli stenti del paese una guerra che ha fatto tra i 3 e i 6 milioni di morti un'altra guerra scusate faccio un passo indietro si è consumata in questo anno tra la Russia e la Polonia la Polonia è guidata da un generale il generale Piususki che teme l'influenza russa a est e a sua volta il regime bolshevico vorrebbe fare della Polonia un ponte per diffondere la rivoluzione in Europa nell'Europa occidentale si sono mossi i polacchi per primi anche con l'idea di costituire una grande Polonia e una specie di marcia trionfale hanno occupato prima Vilnius poi il 7 maggio di questo 1920 addirittura Kiev in Ucraina e sono stati accolti peraltro più da conquistatori che da liberatori è stata dicevo una grande una grande cavalcata un veterano polacco commenterà poi facemmo di corsa tutta la strada per Kiev e di corsa facciamo tutta la via del ritorno perché in giugno subito i russi hanno operato una controffensiva il ministro degli esteri britannico Lord Curzon in luglio aveva proposto una tregua su un nuovo confine ma la proposta non è stata accettata dai bolshevichi il 27 luglio l'armata rossa ha superato quella linea ed è entrata in pieno territorio polacco le potenze occidentali hanno cominciato a tremare temendo una diffondersi della rivoluzione in Europa ma non potevano permettersi di aiutare direttamente la Polonia o comunque di intervenire perché sarebbe stato di nuovo guerra in tutto il continente l'armata rossa arriva il 13 agosto 1920 alle porte di Varsavia e a pochi chilometri dalla capitale la situazione sembra disperata Lenin punta sulla sollevazione dei contadini e degli operai Piuziuschi sull'orgoglio nazionale il 16 agosto contrattacca sfonda un fianco dello schieramento nemico l'armata rossa esausta anche per questa altra sua galoppata in questi ultimi giorni è sconfitta in due mesi i polacchi riconquistano il terreno perduto fino a Vilnius in Lituania e in ottobre i due paesi firmano un armistizio Mosca concede molto la nuova frontiera polacca la nuova frontiera orientale è a 160 chilometri più a est della linea Curzon veniamo al 1921 e nel 21 si definisce quello che è rimasto in sospeso dal Trattato di Pace di Versailles ovvero si definisce l'entità delle riparazioni di guerra che la Germania deve pagare agli alleati il 5 maggio termina a Londra una nuova conferenza sulle riparazioni la commissione stabilisce in 132 miliardi di marchi oro il totale dovuto dalla Germania alle potenze vincitrici si era partiti da una richiesta di 226 miliardi di oro richiesta fatta dalla Francia che abbiamo visto è il paese più esigente la Germania ne aveva proposti 30 si arriva a questo che è difficile chiamare compromesso perché 132 miliardi di marchi oro equivalgono a 33 miliardi di dollari dell'epoca che sono all'incirca 312 miliardi di euro attuali si conviene di pagare di far pagare alla Germania in rata annuale di 2 miliardi di marchi più una somma corrispondente al 26% delle esportazioni tedesche nell'anno un'ingiustizia senza eguali per i tedeschi il 10 maggio il cancelliere Fehrenbach si dimette piuttosto che a secondare il diktat alleato il 25 agosto del 21 finalmente si firma una pace separata tra Stati Uniti e Germania che però sarà ratificata soltanto dal nuovo presidente nell'ottobre del 1921 dal presidente Harding il 31 agosto la Germania effettua il primo versamento dei suoi risarcimenti di guerra un miliardo di marchi sono riserve accumulate da private istituti di credito ma sono anche ingenti prestiti esteri comincia questa spirale per cui la Germania per pagare le sue riparazioni ricorre al prestito estero soprattutto negli Stati Uniti a loro volta i paesi alleati fortemente indebitati dalle spese belliche fortemente indebitati soprattutto con gli Stati Uniti hanno bisogno in questa fase non florida per l'economia hanno bisogno delle riparazioni dei pagamenti tedeschi per ripagare a loro volta i debiti che hanno con contratto con gli Stati Uniti il 14 dicembre del 1921 la Germania comunica alla commissione delle riparazioni di non essere in grado di eseguire il piano di pagamenti stabilito in maggio ma mi fermo perché nel 1921 dobbiamo tornare in Italia il 4 novembre quindi tre anni dopo la fine della guerra viene posto al vittoriano il milite ignoto in tutti i paesi insieme al cordoglio di massa per la morte di massa è nato il culto di massa per i caduti i governi hanno deciso di far costruire i cimiteri di guerra nelle zone in cui i soldati avevano combattuto ed erano morti sottraendo sì in questo caso i corpi dei propri cari alle famiglie e alle sepolture individuali nelle città vicino nei posti nei posti in cui erano vissuti ma dando appunto questo senso di di gruppo di comunità anche tra i morti e anche perché tanti di questi morti sono senza nome sono caduti senza nome il soldato senza nome diventa il simbolo di tutti i caduti un simbolo di morte sacrificale per la patria un simbolo di resurrezione dei caduti nella memoria collettiva dunque i primi a dedicare uno uno spazio monumento al caduto senza il soldato senza nome sono i francesi e i britannici l'11 novembre 1920 giorno della fine della guerra sul fronte occidentale a Parigi sotto l'arco di trionfo a Londra nella basilica di Westminster viene tumulato un soldato senza nome il 4 novembre 1921 parte questo viaggio in treno da Aquileia per Roma ed è un viaggio che attraversa l'Italia in cui la folla appunto fa abbraccia idealmente questa 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 bara il soldato senza nome è stato scelto la bara diciamo il soldato senza nome è stata scelta tra 11 bare dalla madre di un caduto dalla madre di un soldato che è di Trieste che si era appunto arruolato nell'esercito italiano e poi era caduto in combattimento giunge a Roma e viene tumulato appunto al vittoriano che diventa l'altare della patria nello stesso anno nel 21 sempre l'11 novembre il soldato senza nome a Darlington a Washington ma è una tradizione che arriverà anche molto più in là in Australia sarà tumulato l'11 novembre del 1993 un soldato senza nome in Canada il 28 maggio del 2000 in Nuova Zelanda addirittura l'11 novembre del 2004 nel 1922 vi segnalo due date importanti il 16 aprile col trattato di Rapallo Germania e Russia e Russia firmano un nuovo accordo di pace riprendono i rapporti diplomatici e commerciali con anche rinuncia reciproca alle compensazioni per le nazionalizzazioni operate dal regime bolshevico e per i danni di guerra da parte della Germania e firmano anche un protocollo segreto che consente il riarmo della Germania il 31 ottobre in Italia Mussolini è presidente del Consiglio dopo la marcia su Roma nel 1923 la Francia e il Belgio occupano militarmente il bacino minerario della Ruhr è una misura coercitiva per favorire i pagamenti della Germania ma anche una misura che toglie alla Germania la fonte principale di riprese economica i tedeschi fanno resistenza passiva i francesi andano via dalla Ruhr soltanto il 27 agosto del 1925 in Germania intanto sono gli anni dell'iperinflazione in novembre del 1923 occorrono 4200 miliardi di marchi per un dollaro nel 1924 c'è la prima revisione del piano delle riparazioni del debito tedesco per le riparazioni è il cosiddetto piano Dose da Charles Dose che sarà il vicepresidente degli Stati Uniti il debito tedesco è trasformato in prestiti internazionali con un tasso al 7% a 25 anni viene anche stabilita la nuova moneta tedesca il Reichsmark che vale mille miliardi dei marchi di carta ormai quasi privi di valore andiamo al 1929 viene rivisto ulteriormente 5 anni dopo il piano dei debiti nel momento in cui o appena prima che scoppia la grande crisi di Wall Street siamo nel giugno del 1929 il piano Young da Owen Young che è proprietario del General Electric finanziere opera una nuova correzione la somma dovuta ridotta a 121 miliardi di Reichsmark una somma rateizzabile in 59 anni nel 1931 piena crisi economica mondiale una moratoria del presidente americano Hoover sia sulle riparazioni sia sui debiti delle riparazioni di guerra tedesche sia sui debiti degli alleati nel 1932 alla conferenza di Lausanna con il commercio mondiale vicino al collasso i paesi creditori annullano quasi del tutto le riparazioni la storica americana Sally Marx ha calcolato che tra il 1921 e il 1931 la Germania ha pagato 20 miliardi di marchi in gran parte prestiti americani contratti tra il 1924 e il 1929 non rimborsati per la crisi del 1931 e poi azzerati dal regime nazista già perché il 31 luglio nel frattempo del 1932 Hitler vince le elezioni e cancelliere nel gennaio del 1933 assumerà poteri dittatoriali dall'agosto del 1934 con qualche minima concessione smette di fatto di pagare riparazioni e debiti c'è un'altra devastante guerra mondiale un'altra catastrofica guerra mondiale la seconda al termine della quale qualche anno dopo nel 1953 si raggiunge un accordo a Londra sui debiti tedeschi sui debiti sia antecedenti sia successivi alla seconda guerra mondiale il debito tedesco è ridotto del 50% è la Germania stessa che è disponibile al pagamento parziale pur di accedere ai mercati finanziari internazionali ne ha bisogno perché la Germania è in ginocchio pagherà 7,5 miliardi di marchi per le riparazioni dei debiti relativi alla prima guerra mondiale e firma anche due obbligazioni scoperte il cui pagamento però viene rinviato al periodo in cui il paese sarà rionificato sembra una data lontanissima forse mai no verrà abbastanza presto nel 2010 dico 2010 il 3 ottobre nel ventesimo anniversario dell'unificazione e quindi a quando la Germania ha cominciato a ripagare anche quell'obbligazione la Germania paga una rata di circa 70 milioni di euro sono interessi maturati su obbligazioni messe tra il 1924 e il 1930 per far fronte alle riparazioni con questa rata la Germania nel 2010 chiude il suo debito per le riparazioni di guerra per la Germania la prima guerra mondiale si può dire che finisca nel 2010 ricordo soltanto un'altra data di questa guerra che più vicina riguarda l'Italia e un passo indietro il 2008 il 26 ottobre del 2008 muore a 110 anni Delfino Borroni era l'ultimo veterano italiano della grande guerra sono morti tutti e la grande guerra nonostante ne abbia portata in qualche modo un'altra sembra finita davvero alle 8 della sera i giorni della grande guerra in studio Roberto Raia di questo l'ultimo di questo l'ultimo di questo Grazie.